Il nostro onorevole La borsa del calcetto? Rikki Rikki Fatelo venire qua No, venite tutti qua No, venite tutti qua No, venite tutti qua Ah, un governativo, dai Vieni, vieni Rikki Rikki Sei andato a salutare Fratus? Viene data tu la letta Ciao Vittor Ciao, ciao Vittor Se viene Dario Chiami Dario pure Chiami Dario pure Sono messo il seduto Il problema è che ci sono troppe teste pelate Anche Ale, Alessandra, Riccardo Ho il fondo ... ... ... ... ... ... Allora, verifica semplicemente che ci siano i primi 5, dopodiché dici comunque di uscire ordinatamente e di registrarsi così vi dico, vediamo un attimo, c'è chi non c'è. Allora, li mettiamo già qua, li do l'elenco, eh? Li mettiamo già qua. Cosa fai? Vuoi fare l'appello per vedere c'è chi non c'è? Ragazzi, i nomi proiettati, le persone con i nomi proiettati si avvicinino qua, per favore, se ci sono. Noi iniziamo male. Ma questi sono sequestri, non sono? Quando crescono, però. Quindi li allevano per la macellazione, mi sembra giusto. Allora, visto che i primi non sono arrivati, si avvicinino qua. Mi avvicinino questi qua, i prossimi 5. C'è una lista di interventi. Ciao ragazzi, allora iniziamo? Se siete tutti d'accordo che abbiamo fatto un po' di 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 un po'. Abbiamo fatto la nostra quarto d'ora accademico allargato. Eh? Sì, allora, Gregorio giustamente mi chiedeva di ricordarvi un attimino come è organizzata la giornata. Adesso mi corregge Gregorio se sbaglio. Qua facciamo una piccolissima introduzione iniziale, ma noi veramente saremo brevissimi e poi lasciamo la parola a voi. Siccome ci sono tanti interventi, si è presa anche la sala di lato, per cui qua parleremo di riorganizzazione. Mentre invece l'altra con... e nel pomeriggio rapporti col territorio. Mentre invece di là stamattina si parla di comunicazione e programma. Queste sono le due della mattina. In base a dove si sono iscritti. Esatto. Ovviamente vi ricordate che vi siete tutti iscritti a parlare, per cui a seconda del programma. Chi si è iscritto su comunicazione e programma, adesso finita qua questa introduzione, si sposta nella saletta qua a fianco. Così, sì, qua proprio a fianco, sala verde mi pare si chiama. Così almeno ci dividiamo, anche noi ci dividiamo. Così noi siamo qua, io lo chiarisco per ascoltarvi. Oggi è una giornata dedicata a quello. Noi non vi faremo, almeno io personalmente non ho intenzione di fare nessun pippone, nessuna. Perché oggi la giornata è veramente dedicata a questo. Noi siamo qua tutto il giorno, magari ci alterniamo un pochettino per ascoltarvi. In maniera che ci rendiamo conto anche noi di quello che sono le esigenze. Le possiamo riportare anche a Roma e tutto quanto. Siamo un po' qua, un po' fuori anche che giriamo. Per cui siamo a vostra disposizione. Vi chiediamo l'unica cosa, la gentilezza, magari di rispettare i tempi per i vostri interventi. È una questione di rispetto verso tutti, perché se no se uno si prende il doppio del tempo per il quale si è prenotato, poi non possono parlare gli altri. Tutto qua, perché noi siamo qua ad ascoltarvi tutto quello che volete, però giustamente se uno parla troppo poi non possono parlare gli altri. Io ho finito. Non so se i colleghi vogliono dire qualcosa, vogliono fare un'introduzione. Unicomunicazione di servizio velocissima, sotto una sedia c'era questa chiave. Se qualcuno non trova una chiave sappiate che ce l'abbiamo qua. Insomma, era sotto una sedia qua a metà sala. Grazie a tutti. Io vi chiedo, ah no, ecco, un'ultimissima cosa, mi è venuta in mente adesso. Noi siamo qua ad ascoltarvi tutto quanto e capiamo anche che è un momento un po' difficile per tutti quanti, sul territorio, a Roma, insomma, è un momento difficile e non ce lo nascondiamo. È una fase anche un po' tumultuosa, possiamo dirla così. Io mi sento però di farvi questa richiesta. Cerchiamo di trasformare un po' questa, magari questa arrabbiatura in qualcosa di positivo, per cui cerchiamo magari anche di fare proposte. Per carità, noi siamo ovviamente dispostissimi ad ascoltare tutti i problemi, eccetera, però di tante cose, insomma, sappiamo anche noi quali sono i problemi. Ci piacerebbe però avere da voi anche delle proposte, perché, insomma, noi non è che abbiamo la scienza infusa, per cui sicuramente ci sono anche tante proposte interessanti. Sì, basta, ho finito veramente. Sì, buongiorno a tutti. L'ultima cosa, allora, in pratica vi comunico che gli interventi saranno audioregistrati, quindi non divulgheremo niente, però comunque per avere una memoria rispetto a quello che dite, noi avremo una registrazione audio. Vi chiedo solo di seguire l'elenco delle persone che sono proiettate, avvicinarsi al banco dei relatori e parlare a quel microfono. Vi ricordo che avete tre minuti, qualcuno terrà il cronometro perché è giusto dare la possibilità a tutti di parlare, quindi se riusciste a restare nei tre minuti sarebbe meglio. Chi, nel caso, non si sia prenotato a parlare, ce lo venga a dire che il primo che non è presente magari diamo spazio a un'altra persona. Se non vi ricordate in che sezione vi siete prenotati, all'esterno ci sono degli elenchi, che sono questi con tutti i nomi, quindi potete andare a verificare. O se volete cambiare, vi invito a farlo il meno possibile, l'oggetto del vostro intervento potete farlo all'esterno e ce lo comunicate. Grazie e questa è la prima schermata. Se vi avvicinate, iniziamo con gli interventi. Invece, chi si è iscritto in questi panel di comunicazione, programma o altro, vada alla sala a fianco. Questa è la sala per riorganizzazione e rapporti col territorio. Grazie. È la prima schermata. Allora, Ivan, Enrico, Criaco, Cristian e Micaela. Sembra che già... Cristian non c'è. Iniziamo male. Patrizia, che è la sostituta di Ivan, per favore, se si avvicina. Aprirà lei. Voleva parlare per ultima, invece. Ahimè. Ahimè. È già acceso. Va bene. Allora, io riporto una istanza di Ivan Fassoli, che dice che i rappresentanti territoriali non devono essere leggibili e non devono essere già portavoce. Questo. Poter essere eletti e non devono essere portavoci. E non so, visto che si tratta... Io è la prima volta che vengo, ero curiosa, per cui sono qua proprio per caso. Nella riorganizzazione sono un po' in difficoltà, perché vorrei essere nell'altra sala e vorrei essere di qua. Quindi mi sarebbe piaciuto una cosa, diciamo, compatta. Ecco. Grazie. Non c'è nessuno fra Enrico, Criaco e Cristian? No. Cristian non c'è. No? Ok, andiamo avanti. Non è creativa. Allora. Micaela Piva. Cristian, Rodolfo, Alessandro e Stefano. Dai, coraggio, ragazzi. Iuccolino, Lauri, Musolino, Sebastiano. Presentati, magari. Buongiorno a tutti. Sono Iuccolino Cristian, di Mugio, nuovo consigliere comunale. Sinceramente, visto quello che è successo alle elezioni e l'abbiamo visto tutti, noi a Mugio abbiamo fatto un po' di riflessioni e le abbiamo fatte anche in Brianza. So che è stato portato un documento a Luigi Di Maio del nostro pensiero ed è un pensiero comune di tutta la Brianza. Quello che chiediamo noi sono, comunque sia, delle risorse per fare un lavoro, un lavoro che per me inizia domani. Domani saprò chi è il sindaco a Mugio e da lì in avanti dovrò portare un lavoro che mi porterà cinque anni. Quindi sarà molto pesante e molto importante farlo. Noi vogliamo farlo e ci mettiamo tutto l'impegno, però chiedendo al Movimento supporto. Un supporto di persone, una scuola di formazione, dei fondi, perché di quello abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno di fare volantini, di informare le persone, la gente, di mostrare che noi siamo realmente il cambiamento. Siamo il cambiamento per gente che non ci ha votato quest'anno. Ecco, noi dobbiamo ripartire da qui e dobbiamo farci votare. La gente ci deve conoscere sul territorio, perché nei territori più piccoli che comunque si fanno, si fa un gruppo forte. Io ho fatto una riflessione personale. Noi all'Europea abbiamo preso il 13,60%. A livello comunale ho preso l'11,20%, se non sbaglio. Quindi c'è una parte che non mi ha votato. Perché? Secondo me perché non mi conoscevano. Non ho avuto neanche il tempo di farmi conoscere come avrei voluto. E soprattutto perché in quel momento non mi sentivo così preparato. Ed è, lo ammetto, non lo ero. Questa sarà una bella palestra, mi farò cinque anni in consiglio comunale, quindi mi farò le ossa lì. Però quello che io chiedo veramente al Movimento 5 Stelle è quello di darci una formazione vera, darci una formazione seria. Farci andare in consiglio comunale, sapendo quello che diciamo e avendo delle informazioni chiare e precise. Questo è quello che chiediamo noi a Mugio e a Embrianza. Salve, mi inserisco, visto che manca qualcuno. Io volevo parlarvi della partecipazione, di come riorganizzare i gruppi territoriali perché la gente ci ha abbandonato. Allora, la gente, i gruppi si sono sfasciati perché il loro lavoro è stato buttato via. E la partecipazione così è stata abbastanza annichilita. Parlo di partecipazione attiva. Mentre le istanze dei territori devono essere organizzate. E questo avrebbe due scopi importantissimi. Intanto attivare la signora Pina che non ha mai parlato di politica. E da anni che noi diciamo che la gente deve capire che questa sala è nostra, le strade sono nostre, questo paese è nostro. Deve capirlo. E l'altra trovare delle competenze. Perché quando noi creavamo dei gruppi che venivano a parlare nei bar, nei parchi, ci trovava l'avvocato, si trovava il funzionario comunale che tanto ci serve perché ci potrebbe spiegare tutte le menate che loro fanno nelle amministrazioni. Quindi era un lavoro sacrosanto. Compilavano dei documenti che poi venivano, dei documenti su cose specifiche che sono sempre stati buttati nel cesso. Abbiamo perso molto. I gazebi erano indispensabili a comunicare con la gente. Io sono contraria agli incontri che stiamo facendo persino in questa bellissima sala e persino nelle discoteche. Va bene i cam, vanno bene i parchi, va bene ovunque. Dove si spendano pochi soldi e dove la gente si attivi. Abbiamo bisogno anche di un database. Perché quando io so che tu sei medico, che tu sei un funzionario comunale, che tu ti occupi di rifiuti perché tuo papà ha l'azienda di rifiuti, tu mi dai delle informazioni meravigliose che io avevo e non ho più. Perché queste persone non ci sono più. E perché sembrava non corretto prendere le varie competenze. Invece credo che noi faccia un salto. Su Rousseau si può scrivere chiunque. Troll, comunisti, Forza Italia, tutti. E votano. E noi, nei nostri gruppi, non possiamo scrivere che Franco è meccanico e che Giulio è vetrinario. Noi dobbiamo essere rintracciabili da tutti i cittadini che non sanno dove trovarci. Non sanno come parlare con noi. Noi si bevono tutte le falsità della stampa e noi dove siamo. Basta, grazie. Buongiorno, mi chiamo Rodolfo Lauri. Sono parte del gruppo di Voghera, per la mia residenza a Voghera. Però, dal 2005 al 2014, sono stato direttore d'albergo a Sestri Levante. E quindi ho partecipato alla nascita dei gruppi di Chiavari, Lavagna, Sestri Levante, Santa Margherita, Rapallo e Recco. Quindi, le esperienze ne ho fatte nei gruppi in quegli anni. Io, quello che, appunto, vorrei dire innanzitutto, è sull'organizzazione. E, cominciando dalla definizione di quello che dovrebbe essere il nostro primo postulato. Cioè, uno vale uno. Considerando che il movimento, considerando che le motivazioni etiche e gli obiettivi del movimento, appare evidente che l'organizzazione non possa essere realizzata sulla falsa riga delle strutture dei partiti, i quali hanno dimostrato di essere permeabili e facilmente asservibili a lobby di potere. E' necessario, quindi, considerare come elementi di base per la costruzione del progetto quelli che sono i principi etici del movimento. Uno vale uno deve garantire costantemente la partecipazione di ogni attivista alle decisioni e alle abituazioni, fornendo ad esso la maggiore accurata informazione per poter incidere coscientemente sul risultato. Uno vale uno risulta naturalmente applicabile e efficacemente solo rispetto ad alcuni processi decisionali, perché le competenze e le conoscenze non sono uguali per tutti. Però, per conto, la necessità di esprimere il proprio voto stimola all'ascolto e alla comprensione di tutti gli argomenti, che condurranno ad una crescita delle competenze di tutti. In definitiva, uno vale uno è il cardine del nostro operare. Una buona organizzazione deve permettere l'esercizio di questo diritto-dovere e risultare la migliore garanzia di coerenza con i nostri principi. Qui non vado oltre, però io ho già trasmesso una organizzazione che prevede la figura dell'attivista, la figura del portavoce locale, che sarebbe un po' il capo del gruppo, che non ha incarichi istituzionali, e che viene a un discreto turnover, in maniera da che molti del gruppo possono fare l'esperienza di portavoce. Da lì i portavoce dei gruppi si riuniscono periodicamente e leggono dei portavoci regionali, che saranno tre, potrebbero essere tre, e avrebbero come incarico esattamente tre argomenti. Un argomento ciascuno, o meglio, una serie di argomenti. Uno è lavoro e servizi, uno è trasporti e ambiente, e uno è legalità e amministrazione. Poi questi portavoce regionali faranno anche da tramite rispetto agli eletti. Chiudo qui. Grazie. Buongiorno a tutti, sono Alessandro Musolino, attivista di Biassono, provincia di Monza e Brianza. Volevo dire due cose velocissime sull'esigenza del territorio. C'è l'urgenza che vengano istituiti dei propri diri provinciali per intervenire sulle numerose diatribe nei gruppi, perché si stanno spaccando gente che viene espulsa senza alcun criterio. Un'altra cosa di cui necessitiamo urgentemente è delle regole chiare sull'utilizzo del logo, perché sempre in più Paesi non ci siamo, siamo dei semplici attivisti, cosa facciamo? Non avremo diritto all'utilizzo del logo, della pagina Facebook di nulla, con i dovuti vincoli. E vengo al dunque del mio discorso, che è tutt'altro. Ci tenevo a dire che, a mio avviso, Di Maio è un ottimo ministro, un ottimo uomo di governo. Però invito Di Maio a non farsi rovinare dalle lusinghe e dalle adulazioni, ma di farsi salvare dalle critiche. Io faccio parte di quel 20% minoritario che ha votato no a quel quesito. Ha votato no non contro la sua persona. Ho votato no contro l'uso distorto di Rousseau, perché non si può utilizzare il Rousseau in questo modo. Se fossero state accolte le nostre osservazioni, ovviamente non c'è stato il tempo, all'ultima assemblea regionale qui alle Stelline, avevamo chiesto di non subire delle domande dall'oggi al domani, perché altrimenti diventa un voto di ratifica. Invece non so di essere uno strumento di decisione, la decisione prevede un'analisi precedente al voto. Non si può votare dall'oggi al domani, non si può votare bianco o nero, perché c'è una scala di grigi. E quindi, ripeto, io ho votato no non alla persona e vengo adunque alla figura del capo politico. Assoluto. A mio avviso dobbiamo fare un passo indietro a quello che eravamo, perché per non copiare i partiti stiamo copiando il peggio dei partiti, siamo diventati una cosa verticistica. Dei partiti dobbiamo copiare la vecchia formazione politica, la scuola di formazione politica e da lì selezionare la classe dirigente del Movimento, non a quelli arrivati all'ultimo momento che poi se ne vanno e non li vediamo più. E faccio una parentesi su Rousseau. Avevo fatto una proposta, accorto all'unanimità di tutti, che Rousseau, siccome è molto prezioso come strumento, che diventi patrimonio di tutti, che dia la possibilità a tutti iscritti al Movimento di diventare soci. Oggi questo non è possibile, ma c'è la necessità che Rousseau diventi di tutti. Eh? No, siamo iscritti, non siamo soci. Ti può associare all'associazione Casaleggio, non a Rousseau. Rousseau ha solo pochi soci. E quindi il centro del mio discorso è mettere in discussione la figura in sé del capo politico e tornare ad una leadership corale, che individui le personalità giuste al posto giusto. Perché, badate bene, con il capo politico, ognuno di noi è figlio di esperienze. Io ho visto troppe aziende, e per questo sono diventato un piccolo imprenditore, un piccolo commerciante, perché mi faceva schifo un tale ambiente, e troppe associazioni, troppi sindacati, e tradire loro stessi, perché si perdono, una volta che c'è il capo politico, nascono le adulazioni, i lechinaggi, per dirlo volgarmente, quindi i cerchi magici, che vanno a rovinare quello che è il senso di comunità. Concludo. È un segnale, sono gli attivisti che se ne vanno, le liste comunali che non ci sono, 600 rdl meno solo in Lombardia, e mi piace molto un proverbio giapponese che dice, a mio avviso Di Maio ha troppi incarichi, dobbiamo discutere anche di questo, una singola freccia si rompe facilmente, ma non dieci tenute tutte insieme. Quindi dobbiamo tornare ad una lidea piccolare, e badate, ci vogliono solo due pietre per accendere un fuoco, con il dovuto humus sotto. Oggi noi abbiamo due pietre, secondo me, adatte, che sono Di Maio al governo, che deve rimanere perché sta facendo un egregio lavoro, e abbiamo Di Battista, perché non usarlo a guidare il movimento, che torni fra la gente. Usiamoli tutti e due. Però appunto riaccendiamo il fuoco che tiene vivo il movimento. Grazie. Bene, buongiorno a tutti, sono Michaela Piva, portavoce comunale di Arese, da un anno, e io vorrei fare due riflessioni di carattere generale sull'attivismo, e poi l'attivismo locale, l'attivismo amministrativo, e l'attivismo che collabora con le buone cose che abbiamo fatto al governo, le nostre buone leggi, ma che non sono purtroppo conosciute per colpa della disinformazione. Quindi partirei da una riflessione. Prima di tutto noi subiamo anche tanti anni di politica fraintesa dal berlusconismo, la comunicazione a spot, la mancanza di contenuti, la mancanza di riflessione. Quindi noi, se vogliamo portare la gente a fare politica con noi, dovremo confrontarci di più vis-à-vis. Quindi, lavorando queste cose le faremo. Le chat vanno bene quando stai per nascere, quando non hai una struttura, però fanno perdere tempo, non sono lavoro, fraintendono e spaccano le persone, perché per esperienza diretta io ho capito cosa voleva dire un mio compagno di gruppo guardandolo in faccia, capendo, comprendendo la timidezza, la paura che magari in una chat viene fraintesa in altro modo. Quindi, avere delle sedi, forse come dice Luigi Di Maio, non è che possiamo pretendere di avere un'organizzazione faraonica subito, perché non siamo così, ma avere delle sedi di zona nell'Interland di Milano, per aree, almeno per le quattro macro aree di Milano, con cui cominciare a confrontarci, a collaborare su temi intercomunali, che sono, per esempio, le politiche sociali, che attingono a fondi regionali, con cui potremmo avere un allaccio diretto con Regione. per dire c'è un buono sociale che nel nostro territorio viene venduto come buono SERCOP, ma si appropriano di un fondo regionale, creando clientela. Quindi questo, per esempio, potrebbe essere uno spunto per cominciare a lavorare su temi comuni. E questo copione poi si ripete sicuramente anche in altre zone, in altri distretti. Quindi avere delle sedi di zona per lavorare su temi comuni, che possono essere il bilancio, piuttosto che i servizi sociali, l'urbanistica, i rifiuti. Quindi trasferire un po' anche le conoscenze di Regione, non come schegge impazzite, ma con delle riunioni di zona che competono a determinati distretti che hanno problematiche comuni. e altra cosa, dicevamo, per quanto riguarda i gruppi locali, per far funzionare bene un gruppo locale di 20.000 abitanti, ci vorrebbero 5 persone operative. Una sulla comunicazione, una sull'urbanistica, una sui bilanci, una sui servizi sociali e poi qualcuno sui rifiuti. E solo così si riesce a vendere e trasferire al territorio il lavoro che si fa in Consiglio Comunale. Spesso noi, se non facciamo un comunicato stampa, nessun quotidiano locale scrive di noi, ma di contro invece i partiti hanno ampia visibilità, anche se non fanno nulla. Quindi anche lavorare trasversalmente, aiutandosi tra comuni, mentre stiamo crescendo, perché noi nasciamo da zero, può aiutare determinati gruppi locali a compensare queste competenze che non hanno. Quindi a crescere. E a non far trovare i consiglieri isolati da soli, davanti a una montagna di lavoro in mano e che poi scoraggia tutti. Ultima cosa, per quanto riguarda la disinformazione, noi non abbiamo, abbiamo veramente una stampa armata contro di noi. In tv, nei dibattiti, quasi mai c'è qualcuno del Movimento 5 Stelle. Sono tutti a sparare contro di noi e a ripetere gobellianamente le stesse stupidaggini. quindi avere una controinformazione sul territorio organizzando dei dibattiti, per esempio sulla TAV o sul reddito di cittadinanza, piuttosto che sulla legge spazzacorrotti, aiuterebbe anzitutto ad avere un minimo di coordinamento con voi, di conoscenza, a trasferire al territorio le cose buone che abbiamo fatto. quindi questo è l'ultimo suggerimento che mi permetto di dare. Buongiorno a tutti, mi chiamo Stefano Sebastiano e sono dei Cardano Alcampo in provincia di Varese. Cercando di rimanere nei tempi ho cercato di metterlo per iscritto, spero di non essere noioso. Ad ogni modo, voglio iniziare con una riflessione. Secondo me il mantra di questi giorni di partire da territori è sicuramente una necessità ed anche impellente ma non è l'unica spiegazione della debacle che abbiamo avuto agli europei. Secondo me la sconfitta elettorale va ricercata in ben altre cose, non soltanto nell'organizzazione territoriale. Venendo comunque l'organizzazione territoriale secondo me va riformata ma non deve prescindere da mettere al centro i temi e le persone e con criteri di delocalizzazione probabilmente a mio parere nelle province e criteri di democraticità e collegialità non singole persone. In concreto quello che propongo è istituire su base provinciale degli organi collegiali non individuali di tipo tematico come i gruppi di lavoro ed uno di tipo politico-organizzativo. I membri di questi gruppi devono essere eletti tra gli attivisti e dagli attivisti magari anche tra quelli che avranno finito i due mandati per mantenere all'interno del movimento tutte quelle competenze e quelle esperienze che questi attivisti hanno fatto negli ultimi anni. Questi organi collegiali quindi dovranno avere compiti di responsabilità chiare e condivise e agire secondo regolamenti e statuti. Dovranno attresi agire sotto la supervisione e la direzione dei portavoci eletti nella stessa provincia che sono attualmente gli unici depositari del simbolo del movimento. Ovviamente compiti responsabilità e regole dovranno poi in una fase successiva essere discussi e approvate nelle assemblee del territorio e a mio parere dovranno comunque includere per quanto riguarda gli organi o l'organo politico-organizzativo della provincia dovranno dirimere quelle diatribe interne alla provincia una sorta di probiviri provinciale perché altrimenti è impossibile che tre probiviri nazionali si possano occupare delle situazioni locali o quantomeno funzionare come primo livello di analisi per poi passare i casi particolari a livello nazionale. Inoltre dovranno fare da redunion tra la base e di portavoce eletti in provincia. questi ultimi devono avere come le hanno delle responsabilità nei confronti degli attivisti del proprio territorio ma devono avvalersi di questi organi come staff o filtro per concentrarsi in primo luogo nel proprio compito istituzionale per il quale sono pagati. Organi tematici cerco di essere un po' più veloci devono approfondire e sviluppare i temi come trasporti salute ambiente energia cercando il supporto di associazioni e comitati che permetterebbe tra l'altro di penetrare nell'associativismo locale e porsi nei loro confronti come un'alternativa politica seria e competente. Inoltre devono lavorare in supporto ai portavoce e in supporto ai gruppi locali che spesso non hanno le competenze e la forza per sviluppare in proprio degli argomenti specifici. Dare compiti e responsabilità agli attivisti locali e permettere loro di autogestirsi con organi provinciali autoeletti pur sempre rimanendo all'interno di valori principi regolamenti comuni a tutte le province d'Italia garantirebbe un alto livello di autonomia locale principio alla base del movimento ma permetterebbe di evitare situazioni radicali situazioni di radicale anarchia e divisione che tanto ci hanno danneggiato in questi anni concludo questo punto dicendo che lavorare sui temi concreti mettendo in luce competenze e voglia di fare costituirebbe un metodo informale ma estremamente efficace di valutare gli attivisti e valutarne le capacità e il senso di responsabilità anche in funzione di eventuali candidatori basta così grazie buongiorno a tutti sono Ferrari Antonio sono un attivista che parte dal basso come voi buongiorno a tutti sono Ferrari Antonio sono un attivista che parte dal basso come voi allora è passato più di un mese dal primo incontro voluto da Luigi Di Maio visto anche il segnale forte dato dai cittadini nei confronti del movimento con le votazioni europee che dal 21% del 2014 sono passate al 17% oggi siamo ancora qui per discutere cosa non abbia funzionato e per proporre soluzioni migliori e riorganizzare il movimento la nostra comunicazione è stata battuta dalla comunicazione del sistema evidenziando che la rete pur se in forte espansione ancora una volta è stata inferiore alla capacità comunicativa dei mass media il mio suggerimento quindi si rivolge ai principali dirigenti del movimento e consiste nel fare un passo indietro e ripartire dai principi base iniziali suggerisco punto 1 l'organizzazione del movimento deve ritornare dal punto piramidale stile organizzazione del sistema ad un'organizzazione orizzontale tutta dal basso come ebbe inizio rendendo veramente trasparenti le figure e lo incarichi a tutti gli attivisti punto 2 riorganizzare la nostra struttura della comunicazione la nostra struttura di comunicazione e lo staff che lo compone deve essere sostituita con persone professionalmente preparate anche scelte tra i nostri attivisti che già lo fanno in rete con informazioni adeguate e rese visibili trasparenti a tutti gli attivisti e cittadini nelle piazze e sui mass media punto 3 potenziare la nostra piattaforma Rousseau riportando in vita i meetup così da poter comunicare e rendere visibili agli iscritti i vari gruppi del proprio territorio dando un'adeguata formazione ad esempio come organizzare la struttura del gruppo scegliendo chi debba avere un ruolo di portavoce credibile che dimostri di sapere coordinare il proprio gruppo stabilire chi fa cosa quindi quale ruolo ha ciascuna figura valutata in base alla sua capacità tutto questo reso visibile sulla nostra piattaforma Rousseau dare la possibilità nei gruppi con votazione espellere gli attivisti che per i loro interessi personali si comportino a danno del gruppo medesimo praticamente mantenere le regole di base del movimento nessuno deve rimanere indietro nessuno deve essere calpestato ognuno deve essere valutato per i suoi valori e credibilità nel rispetto del uno vale uno grazie e questo è il punto debole del sistema però c'è una condizione richiede il lavoro di ciascuno di noi uno vale uno grazie vavasori luigi consuelo carbone demi blesio e luca valcarenghi per favore se si avvicinano allora io sono vavasori luigi ci sente sono portavoce a cinisello balsamo sono vavasori luigi sono portavoce al comune di cinisello balsamo allora io sono abbastanza concreto la prima roba che voglio rifare e riorganizzare è lo statuto perché il nuovo statuto attuale che ha cancellato l'uno vale uno perché ha messo dentro il capo decide tutto e a me non va mi dispiace e ho votato contro di mai ultimamente sono quel 20% che ho votato contro perché non è possibile che questo qua lui da solo nomini i candidati i candidati devono sempre venire eletti dalla nostra base la seconda cosa non da rousseau perché in rousseau c'è dentro cani e porci alle ultime elezioni europee i candidati ce ne erano dentro 5 residenti cinisello che noi non abbiamo mai visto mai e nessuno ha fatto una verifica di dire ma chi sono questi come cacchio possiamo metterli dentro questa è la prima roba a me quello statuto maledetto che è stato votato ultimamente non mi va io sono andato per la democrazia diretta per l'uno vale uno per quelle cose lì non ho mai fatto politica sono entrato la prima volta nel Movimento 5 Stelle seconda cosa che bisogna rifare chi cavolo decide che danno l'ok alle liste che danno il diritto di usare il simbolo non sappiamo chi sono l'anno scorso per creare la lista cinisello abbiamo avuto una serie di casini perché c'era sempre qualcuno chi decide chi fa noi abbiamo bisogno di sapere chi sono e chi si prende la responsabilità nominate un gruppo per ogni regione fate come volete ma noi dobbiamo sapere chi valida le liste che si presentano candidate nel 2014 c'erano 160 o 170 liste presentate nel comune assieme siamo meno di 80 quest'anno vuol dire che non siamo stati capaci di presentare liste in altri comuni abbiamo perso gente e non riusciamo più a portarli qui perché? perché se ne toccano e porci allora qualcuno è convinto se non stia a casa ultima cosa abbiamo bisogno nel rifare questa organizzazione di avere anche un punto dove ci si possa ritrovare con una certa regolarità e discutere le problematiche a livello magari solo regionale perché quelle nazionali diventa un casino perché diventa difficile ma avere un punto ogni tanto che ci si trova in gruppo si discute su un argomento per dire qual è la politica da portare avanti in regione Lombardia e dare una mano assieme ai portavoci regionali se non abbiamo nessun punto dove? o online ma online qua ci scrivono cani e porci chiunque e non si sa bene come fare oppure troviamo un posto un'organizzazione un punto di riferimento un gruppo di lavoro a livello regionale che ci lavori su e dove tiriamo fuori delle proposte concrete per portare avanti le cose che contano ho finito grazie buongiorno sono Consuelo Carbone attivista di Castiglione dell'Estiviere allora le cose da dire sarebbero tantissime mi concentro sul rapporto con i territori che è un po' quello che vivo tutti i giorni insomma nella mia attività di attivista partirei da una frase che Grillo ha detto nel 2007 in cui individua i territori come il luogo in cui rifondare la politica oggi secondo me come allora bisogna ripartire da lì dai territori dai gruppi locali che nel corso di questi dieci anni hanno visto allontanarsi sempre di più il movimento diciamo se fino al 2012 il 2013 il party on the ground la base gli attivisti sono stati il motore che ha portato la nostra forza politica al successo elettorale e che comunque era sempre sempre stata in continuo contatto sia con gli eletti quindi il party in the public office e il party in central office quindi la dirigenza in seguito all'entrata massiccia nelle istituzioni nel 2013 fino ad arrivare ad oggi i portavoce che avevano creato una sorta di struttura informale intermedia e che quindi mantenevano il contatto con la base si sono trovati sobbarcati dagli impegni e hanno di fatto trascurato il ruolo di mediatori servono quindi a mio avviso delle persone o un gruppo di raccordo tra la base e gli attivisti e gli eletti a livello regionale o perché no anche provinciale magari elette a livello assembleare sicuramente nelle zone più piccole magari nelle zone più vaste invece che vengano eletti tramite la piattaforma di russo e con cariche a rotazione che possano così sostenere i gruppi in termini sia di organizzazione ma soprattutto di competenze occorre dare supporto ai gruppi locali in termini di formazione e di competenze non solo dei corsi o una scuola di formazione come già stato detto ma anche persone con delle competenze specifiche a cui gli attivisti possano rivolgersi spesso nei gruppi ci troviamo in pochi con poche competenze e quindi avere una persona di riferimento a cui rivolgersi per avere determinati aiuti potrebbe essere sicuramente un modo anche per aiutare le persone e riuscire a farle partecipare maggiormente il movimento è cresciuto velocemente ha al suo interno molte anime con interessi obiettivi e anche motivazioni differenti e credo che senza un'organizzazione che sia efficace ed efficiente nel mantenere l'unità di queste anime rischiamo come sta un po' avvenendo come è avvenuto in queste elezioni di essere erosi a livello elettorale dalle altre forze politiche sono Emi Blezio sono di Milano non dirò niente sul territorio perché ho visto che tanti stanno parlando su quello preferirei andare sul generale per esempio io suggerirei di portare molta attenzione se è possibile di cambiare la legge elettorale il Rosatellum perché è quello che ci ha penalizzato appunto con le ammucchiate con tutte le diciamo queste accozzaglie di altri partiti perché come votazione era maggioranza sempre per il 5 Stelle poi volevo dire che ci vuole anche una pulizia sull'informazione l'informazione ci ha penalizzato tantissimo e quindi penso che sia molto importante dare delle sanzioni pesanti a chi espande delle fake news diciamo delle falsità che furbe diciamo sappiate che solo il 20% delle persone degli italiani vanno sulla rete su facebook su tutti i social quindi non è che hanno un grande impatto diciamo la parte social più che la stampa normale insomma la stampa normale ha più voce in capitolo è estremamente necessario il terzo punto sarebbe molto importante avere una sede almeno nei capoluoghi se non si vuole fare dalle altre parti ma comunque almeno nei capoluoghi dove qualcuno possa andare a informarsi e dove ci sono volantini ci sono notizie un pochettino più più reali di quello che passa la stampa e credo che sia molto importante le persone io sono a contatto di molte persone essendo un insegnante di yoga ho anche molti seguacci diciamo e vanno pochi sulla rete anzi è quasi uno snobismo di non andarci quindi non sanno nulla e sono informati dall'informazione nazionale che sappiamo benissimo che non appartiene ai 5 stelle assolutamente anzi è molto contro perché ci perdono quindi questo è importante Russo io l'ho anche sovvenzionata perché secondo me è una piattaforma molto importante però penso che debba essere un pochettino modificata nel senso che non c'è possibilità io ho scritto tre volte a Russo ma non ho avuto risposta per poter cercando di far capire che c'è anche la base che dovrebbe riuscire a comunicare ci sono anche delle votazioni che sono si no e queste sono delle tele ci vuole anche il ni secondo me ci vuole qualcosa di più democratico e poi avere uno sportello lo so usiamolo anche come sportello in cui uno può fare delle domande e anche le risposte perché io non ho avuto risposta assolutamente e questo mi sembra che sia un defiance della piattaforma Russo che dovrebbe essere aperta e di comunicazione questo è importante sono già fuori? ah no allora concludo così dicendo che io sono votare sempre le 5 stelle in qualsiasi caso anche perché ritengo che fare il contrario anche per i 5 stelle cerco di far capire anche i 5 stelle che anche se c'è qualcosa che non funziona non sarà mai 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 come quello che abbiamo la corruzione e tutte le collusioni che ci sono nei partiti normali grazie buongiorno a tutti sono Valcaringhi Luca Maria allora prima di tutto ringraziamento a chi di domenica mattina visto il ruolo qui rivestite potreste essere a casa da dormire invece siete qua grazie già questa è la cosa importante quindi per mia conoscenza Dario Violi Vito Crimi Danilo Evi e tutti grazie veramente allora io sono molto molto pratico sono di Bergamo si sentirà dalla pronuncia però secondo me va bene parlare oggi dei problemi eccetera secondo me dovremmo dare veramente delle soluzioni però delle cose concrete territorio ogni azienda non è l'azienda Movimento 5 Stelle ha un riferimento ha un recapito ha un numero verde non ci vuole molto creare un bel numero verde con dislocazione territoriale in base alle problematiche entro 24 ore magari una risposta sicura gradita magari e precisa creare magari delle come diceva la mia collega posso darti dalla collega sì creare una sorta di non dico sedi ma piccole filiali o altro noi abbiamo due cose fondamentali importantissime che la gente chiede abbiamo non so se è ancora in essere ma penso di sì il microcredito e abbiamo reddito di cittadinanza non dobbiamo essere dei CAF non dobbiamo essere l'Inps però avere un punto d'ascolto per la gente che vuole informazioni penso sia importante quindi è determinante il fatto proprio di avere un contatto diretto con lo staff diciamo quindi in modo semplice e efficace avere un contatto con la gente ma anche avere un contatto con la gente in modo anche allegro le feste organizzare delle feste noi dobbiamo piacere alla gente prima di dire cosa facciamo dobbiamo piacere torniamo a fare qualcosa di allegro dove ci sia aggregazione che è una cosa importante allora poi altra cosa io voglio spezzare un'arancia a chi è a secondo mandato secondo me e lo dico è un errore bloccare la gente competente in gamba che ha avuto e si è fatta al mazzo in questi dieci anni e eliminarli dalla politica piuttosto un cambio di incarico ma non fuori dalle balle assolutamente io ve lo dico molto semplicemente perché secondo me se voi siete qua è perché vi siete fatti il mazzo prima di tutti gli altri quindi io sono contro il secondo mandato l'abolizione ultima cosa questa è la parte un po' dolente qualcuno mi conosce vabbè io sono un fautore di russo ho inserito qualche proposta di legge ho avuto la fortuna anche di di essere arrivato al primo posto in una delle votazioni la dodicesima il problema è che io non capisco una cosa di questo tipo attenzione non cerco né poltrone né posti né assolutamente niente ho finito però non sopporto che c'è gente in parlamento con 68 click e gente che è stata votata da 4.000 persone per una proposta di legge e manco pure state chiamate per fare un video promozionale e magari un disegno di legge grazie buongiorno a tutti mi chiamo Antonella Risi volevo parlarvi di una proposta molto concreta e sono qui per parlare di community organizing un progetto molto concreto ovvero di come ovvero di come rafforzare la società civile con la cittadinanza attiva in tal senso la nascita di strutture di questo tipo nelle città sono perfettamente coerenti con il modello politico 5 stelle il community organizing comporta un cambio di mentalità dei cittadini un modo diverso di pensare e approcciare l'impegno civico e sociale stimolando la partecipazione ed il confronto a livello locale questa pratica di coinvolgimento dei cittadini rafforza i legami di fiducia tra le persone ed ottiene benefici per la comunità tramite l'ascolto lo scambio di storie ed esperienze si favorisce la cooperazione e si creano comunità funzionali capaci di assumersi responsabilità pubbliche il community organizer è un professionista preparato e retribuito che coordina le attività delle comunità che favorisce e segue le attività proposte dai cittadini nelle varie fasi della realizzazione dei progetti l'innovazione in politica è possibile anzi va spinta e concretizzata l'innovazione non è un problema solo delle imprese e non è solo una questione di facce nuove la politica non è sempre solo trovare un'idea che ci pare buona ma è condividerla confrontarla con la realtà per farla funzionare ma anche il lavoro si parla tanto di nuove figure da creare in ogni dove la politica può dare lavoro e può innovare il community organizing non è una pratica inventata esiste da oltre 75 anni in varie parti del mondo basta studiarla ed attivarla community organizer sono stati Barack Obama e Alexandria Ocasio-Cortez questo per dire che figure interessanti capaci di risolvere problemi portarli all'attenzione di chi di dovere fanno nascere con senso concreto dando senso alla rappresentanza democratica quindi la mia richiesta è di avere un'alta formazione su questo argomento del community organizing un affiancamento politico molto concreto all'avviamento di questo tipo di attività e anche lavoro moderno e concreto mi riferisco soprattutto a Eleonora Evi che è stata una delle pochissime persone che ha risposto semplicemente a un'email ufficiale del Parlamento senza chiedermi chi ero e per quello motivo la contattavo grazie mille Eleonora Allora sono Dadino Sindoni del gruppo di Monza sono consigliere comunale sono stato il candidato sindaco allora se siamo qui vuol dire che le cose non sono andate bene oddio il grido di dolore dai territori arrivava da almeno un anno un anno e mezzo è stato inascoltato è stato inascoltato Allora che cosa vi voglio dire voglio dirvi innanzitutto che quando ci sono sconfitte elettorali di questa portata non c'è mai solo una causa ma un insieme di concause se andiamo a vedere l'analisi dei flussi di voto una delle cose che ci accorgiamo è che abbiamo completamente perso il voto dei giovani e come mai secondo me perché non facciamo più sognare non siamo più innovativi nelle proposte non ci siamo proprio rinnovati siamo forse troppo contro e poco pro non siamo più pop inteso come popolari perché spesso ci occupiamo molto di cose giuste ma che magari interessano poco i cittadini in alcuni gruppi c'è un clima negativo che quasi si taglia con il coltello la politica dovrebbe essere più visione e meno giurisprudenza la nostra politica in particolare dovrebbe essere piena di energia positiva e spesso ci manca una salutare dose di autoironia poi voglio dire ad esempio devo fare una piccola critica secondo me il reddito di cittadinanza che è una cosa giustissima è stato implementato molto male e questo è un problema qui qualcuno ha sbagliato anche la comunicazione ha avuto dei problemi e qui forse qualcuno dovrebbe essere sostituito con un altro nella comunicazione a mio giudizio i gruppi locali o perlomeno i portavoci locali dovrebbero conoscere gli iscritti innanzitutto vi faccio tre esempi primo esempio io potrei avere abito in centro monza tre persone iscritte al movimento nel palato di fronte non lo so neppure il che è abbastanza assurdo vi faccio un altro esempio non so in una città qualsiasi Udine si iscrive al movimento 5 stelle il figlio chiacchierato di un malavitoso a Milano non lo sanno magari localmente lo sanno e potrebbero segnalarlo faccio un terzo esempio c'è un'associazione un comitato che vuole infilare qualcuno approfitta di noi fa iscrivere una persona che si fa vedere gli altri si scrivono in massa e lo votano e questo diventa sindaco eccetera o comunque candidato sindaco questa cosa non va bene non c'entra la privacy potrebbero ad esempio suggerisco che i portavoci locali potrebbero firmare un documento dove si impegnano a non divulgare i nomi pubblicamente però almeno dargli un'occhiata per i motivi che vi ho detto uno dei motivi secondo me che ci ha fatto perdere soprattutto al nord e che non abbiamo una politica adatta al tipo di elettore medio del nord che sono partite IVE che sono piccoli imprenditori piccoli commercianti ce ne sono tantissimi specialmente nella nostra zona che è la Brianza è stato fatto pochissimo anche per togliere la burocrazia l'avevamo promesso e questo è stato fatto poco butto un suggerimento togliere il notaio per tutti gli atti sotto un certo valore non so 50.000 euro quello che è cosa ci vuole a farlo cioè manca la fantasia questo che voglio dire va bene andiamo andiamo avanti quanto mi manca? è finito fammi dire l'ultima cosa allora gli attivisti sono un po' stanchi sono un po' diciamo scherzati e come nell'esercito le truppe hanno giù il morale non sarà facile rimetterlo insieme ma deve cambiare realmente qualcosa perché temo che questa volta se saranno solo parole e pochi fatti ci ritroveremo qui ma saremo la metà e forse saremo anche sotto il 12% ragazzi scusate giusto per farvi capire i nomi che vedete alle mie spalle le persone che sono proiettate si avvicinino perché io non vi conosco quindi ma hanno finito adesso di parlare per richiamarle si adesso quello precedente era Sindoni io sono Sandro Di Tavi di Seregno attivista da un po' di tempo allora adesso io sono qua per proporre alcune cose e vorrei cominciare dal territorio cioè dai conflitti che ci sono sul territorio io quando ho iniziato dal 2012 nel mio gruppo eravamo circa 20 adesso siamo in due cioè qualcosa è successo e quello che vedo nel mio paese lo vedo da tutte le parti ci sono situazioni conflittarie ovunque c'è gente che si autoproclama cappetti c'è gente conflittuale di natura e gente maleducata di tutti i generi c'è quindi secondo me bisogna arginare come prima cosa questo tipo di situazione e si può fare se per esempio situiamo delle figure come dei provviviri locali che gestiscono delle situazioni di questo tipo e se poi chiaro se il provvivirio a livello locale non riesce magari si introduce una figura anche a livello regionale se non si riesce a livello regionale abbiamo quelli nazionali e a quel punto lì dovranno magari prendere delle decisioni e magari dei provvedimenti disciplinari verso chi disturba il lavoro a livello territoriale e questo secondo me è la base quindi dare serenità e tranquillità a chi lavora sul territorio perché comunque c'è tanto lavoro da parte di tanti attivisti e viene buttato al vento per la conflittualità soltanto di alcuni poi altro punto che vorrevo sottoporre alla vostra attenzione è istituire diciamo delle figure di coordinamento locale partendo dai comuni quindi poi a livello provinciale e regionale questo perché ci manca una figura elettiva da parte degli attivisti una volta c'erano gli organizer potrebbe essere una figura di tipo di facilitatore comunque che aiuti per esempio nelle campagne elettorali nel coordinamento delle attività sul territorio nel coordinamento tra i consiglieri comunali e chi praticamente è attivista e deve supportare il consigliere comunale che spesso si trova solo quindi sicuramente 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 serve una figura di questo tipo e poi è importante secondo me la separazione dei ruoli chi è eletto fa l'eletto è il referente del movimento presso le istituzioni e presso eventualmente per fare la comunicazione e invece ci devono essere delle figure organizzative che si dedicano solo a quello si dedicano al territorio a portare avanti le istanze del territorio e fanno solo quello poi non significa che non si possono candidare però distinguerei le due cose ognuno si deve concentrare col ruolo per cui è stato designato dal gruppo ok quindi è questo e poi si parlava anche del prima sentivo sul discorso delle certificazioni dei gruppi locali noi a livello territoriale in Brianza abbiamo avuto un comune che il nostro candidato il candidato sindaco ha dovuto rincorrere il postino per andare a prendere la certificazione altrimenti non potevano presentare la lista quindi all'ultimo minuto è successa questa roba qua quindi queste cose qua non devono più succedere secondo me bisognerebbe designare delle figure anche a livello regionale che certificano in autonomia tanto il controllo del territorio ce l'abbiamo noi ce ne sappiamo chi si candida e poi altre cose per esempio ci sono dei gruppi locali che non hanno un consigliere non hanno un rappresentante non possono utilizzare il simbolo benissimo anche in questo caso qua designiamo una figura in ambito regionale che ti permetta di dare l'utilizzo del simbolo sotto forma di responsabilità l'ultima cosa è la formazione prima ho sentito che giù c'è praticamente la lega che fa scuola formazione una ola sotto ma noi che aspettiamo la politica è una cosa seria formiamo le nostre persone ultima cosa il rousseau è sicuramente risorsa preziosissima però secondo me due sono le cose da migliorare uno è per esempio la possibilità da parte degli iscritti di poter avanzare delle proposte poi da votare a livello anche nazionale e l'altra sarebbe quella di filtrare eventualmente per esempio c'è l'ex io l'ultima volta non sapevo cosa votare c'erano delle proposte indecenti cioè delle cose dico filtriamole cioè usiamolo per l'uso che va fatto tutto qui grazie per salendo la RAI ok Peris Cardillo Boldi Profili Ignoto ciao a tutti sono Diego Profili sono un attivista del municipio 7 io volevo fare soltanto qualche considerazione su un tema che è stato affrontato in diversi momenti già questa mattina e anche in rete ne abbiamo parlato moltissimo cioè il lavoro sul territorio e il lavoro con i gruppi di lavoro io porto un'esperienza che abbiamo avuto in municipio 7 che è stata quella del lavoro sull'area verde di Piazza Darmi che secondo che secondo me secondo tanti ha funzionato molto bene penso che valga la pena fare tesoro delle modalità con le quali sono state attuate è stato attuato questo lavoro allora io penso che le parole d'ordine nell'ambito del lavoro sul territorio siano due una sia quella di fare rete e la seconda sia quella di lavorare su temi concreti lavorare su temi concreti perché voi lo sapete meglio di me spesso quando facciamo i meet up quando facciamo le riunioni perdiamo tanto tempo a discutere sulle stupidaggini l'ordine del giorno chi fa una cosa chi ne fa un'altra cioè noi spesso ci perdiamo in argomenti che poi non hanno tutta questa valenza politica intendo mentre se noi ci occupiamo ci concentriamo su temi concreti del territorio cioè su delle problematiche che realmente accadono nelle aree in cui viviamo quelle ci danno più stimolo di attivismo sia ci danno anche più più rapporto diretto con la cittadinanza quindi questo è una delle cose da portare all'interno del nostro lavoro tramite delle regole cioè delle regole che siano molto chiare su come lavorano i gruppi di lavoro su come si fanno determinate scelte e quali siano i rapporti anche con i portavoce l'altro tema che è quello di fare rete io penso che all'interno di ogni comune debbano esserci dei gruppi di lavoro che appunto portano avanti le tematiche territoriali e che abbiano ognuno di loro un rapporto diretto con almeno un portavoce ad ogni livello istituzionale va da sé che è logico che sia il portavoce che si occupa di quell'ambito quindi di ambiente o di economia o di sicurezza o di o di altro i gruppi di lavoro nello stesso tempo tengono un rapporto con i cittadini tramite i banchetti tramite delle iniziative degli eventi pubblici in cui vengono trattate le tematiche del territorio questo tipo di rapporto cioè gruppi di lavoro portavoce e cittadini non è unilaterale ma deve essere uno smosi dall'alto al basso dal basso all'alto nel senso che se ci sono determinate problematiche o norme nazionali europee o comunali che vengono emanate il gruppo di lavoro si fa carico della divulgazione dei rapporti con i cittadini quindi tramite gli eventi tramite i banchetti spiega determinate problematiche ai cittadini ma nello stesso tempo raccoglie le loro istanze e le elabora come gruppo di lavoro e tramite portavoce le attua a livello amministrativo russo può diventare un importante strumento per ampliare questa rete noi siamo stati contattati da un gruppo civico di Bologna che ha una problematica tale quale a quella della piazza d'armi e che quindi ci ha chiesto consiglio su come noi abbiamo lavorato e come siamo arrivati al vincolo paesaggistico del ministro Bonisoli sì quindi per sintetizzare gruppi di lavoro tematici specifici sul territorio ritorniamo un po' alle origini del movimento fare rete con i portavoce e con i cittadini divulgare e comunicare il nostro lavoro sia a livello territoriale sia a livello nazionale tramite i banchetti più diffusi sul territorio ed eventi a contatto con i cittadini e le associazioni e come diceva Beppe qualche anno fa diventiamo sindaci del nostro metro quadrato di territorio e riprendiamoci i nostri comuni i nostri territori centimetro dopo centimetro grazie un'informazione di servizio chi si è iscritto alle sessioni comunicazione condivisione o programma del movimento 5 stelle deve andare nella sala accanto quindi siccome mi hanno detto che vi vedono qua ma vi chiamano di là quindi ricordatevi dove siete iscritti oppure fuori ci sono le liste se non vi ricordate grazie ciao io sono Oscar Peris di Milano simpatizzante decennale molte cose sono già state dette volevo solo ribadire il discorso sulla parte economica secondo me dovremmo trovare il modo di autofinanziarci a livello locale in maniera concreta con un autofinanziamento delle tessere qualcosa per fare in modo di lavorare soprattutto secondo me sulle province perché la regione è troppo ampia e a livello locale c'è troppo poca gente bisogna puntare sulle province sui capoluoghi di provincia e trovare il modo di raccogliere dei soldi per alimentare l'organizzazione locale non mi ripeto su altre cose che sono già state dette e lascio il tempo agli altri allora De Maria Picardi Galimberti Nicotra e Gambato C'è l'ignoto C'è l'ignoto Sì, ignoto aspetta 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 Vabbè, vale facciamo finiamo la lista Sì, sì Vabbè, però quelli iscritti si mettano qua al muro Al muro Grazie Allora io avrei moltissime cose da dire chiaramente chiaramente in tre minuti non si può dire tutto dunque io dico una cosa che mi sembra nessuno abbia ancora detto io penso che qualunque riorganizzazione noi vogliamo fare del Movimento 5 Stelle in questo momento dobbiamo soprattutto considerare quelli che sono i nostri obiettivi perché se non abbiamo chiare quali sono i nostri obiettivi e che cosa vogliamo non possiamo fare una vera riorganizzazione che funzioni dunque io penso quando noi abbiamo iniziato siamo partiti tanti anni fa che cosa volevamo volevamo cambiare questo paese volevamo cambiare la politica volevamo andare al governo volevamo l'eredito di cittadinanza bloccare le grandi opere inutili allora tutte queste cose bene o male in qualche modo le abbiamo fatte tutte queste battaglie o le abbiamo vinte o le abbiamo perse ma le stiamo combattendo adesso quindi io penso che invito tutti a pensare a dei nuovi obiettivi a delle nuove prospettive io penso che bisogna avere uno sguardo su quello che succederà nei prossimi non su quello che sta succedendo adesso ma su quello che succederà nei prossimi anni nei prossimi 5 10 20 anni noi dobbiamo pensare soprattutto tanto a quello se avremo delle prospettive se avremo qualcosa in cui credere se avremo qualcosa in cui credere sul lungo periodo sul lungo tempo allora riusciremo ad andare avanti riusciremo a riorganizzarci e ci riorganizzeremo anche in modo efficiente ma se non abbiamo delle prospettive se non abbiamo degli obiettivi se non sappiamo quello che dobbiamo fare quello che stiamo facendo riorganizzare non serve a nulla noi abbiamo una grande forza secondo me che è quella degli attivisti il problema è che gli attivisti in realtà non esistono perché non esistono nello statuto e non esistono su Rousseau esistono gli iscritti non esistono gli attivisti e sappiamo tutti benissimo che spesso non è la stessa cosa io penso che qualunque riorganizzazione debba partire dal riconoscimento degli attivisti e dei gruppi locali anche i gruppi locali non esistono né nello statuto né su Rousseau al form di iscrezione a questo evento io per la prima volta in tanti anni ho sentito parlare ufficialmente di gruppi locali ma i gruppi locali del Movimento 5 Stelle non esistono né su Rousseau né sullo statuto e neppure gli attivisti allora io penso che bisogna partire prima di tutto da un obiettivo e da riconoscere gli attivisti e i gruppi locali anche perché e concludo tutto quello che noi stiamo dicendo qui è molto bello è molto positivo io sono felice che oggi ci sia stata data la possibilità di parlare ma se poi tutto quello che diciamo qui alla fine non è vincolante perché le decisioni vengono prese sempre solo dal capo politico o comunque non c'è una condivisione delle decisioni tutto quello che stiamo dicendo qui alla fine è completamente inutile grazie sono Massimo Boldi arrivo dalla provincia di Varese allora iniziamo a dire che se siamo tutti qua è perché molto probabilmente dobbiamo prendere delle scelte il movimento è in una fase evolutiva non è stabile ricordiamoci come siamo partiti ricordiamoci il percorso e ricordiamoci dove siamo questo vuol dire che come tutte le fasi evolutive la natura lo insegna se non ci si evolve siamo destinati piano piano all'estinzione no dico questo perché io leggo lì riorganizzazione ma mi sembra che comunque bene o male questo movimento ha affrontato non ultimo e ancora adesso delle scadenze elettorali vuol dire che un minimo di organizzazione c'è il problema è questo organizzazione l'organizzazione è data in mano agli attivisti volontari in maniera anarchica senza coordinamento dove tutte le comunicazioni arrivano all'ultimo minuto i manifesti arrivano all'ultimo minuto vuol dire che molto probabilmente necessita di un'organizzazione strutturata perché non esiste organizzazione se non c'è una struttura io arrivo dalla provincia di Varese la provincia di Varese è una provincia lunga e abbiamo dei temi diversi faccio un esempio Varese comunità montane Lago Gallarate che è la parte centrale zona industriale aeroporto Malpensa Saronno città metropolitana di Milano questo cosa vuol dire che anche i temi da affrontare i problemi da affrontare sono diversi occorrono almeno il mio giudizio almeno tre coordinatori che coordinano i gruppi locali perché i problemi sono diversi le esigenze territoriali sono diverse non esiste l'organizzazione se non c'è una struttura ma non esiste neanche un'organizzazione se non si considera la realtà territoriale Rousseau Rousseau è uno strumento noi abbiamo perso la capacità di parlare alla gente noi all'interno di Rousseau e non solo all'interno di Rousseau anche sui social mi è capitato in questi lunghi anni di attivismo di fare iniziative dove eravamo solo noi a parlare l'ultima e vi eri presenti anche tu è un'iniziativa con parlamentari europarlamentari europei c'erano i soliti attivisti ci parliamo sempre tra di noi che è inutile che ce lo diciamo noi sappiamo quali sono i temi dobbiamo iniziare ad andare dalla gente perché se non facciamo questo passo continueremo a parlare tra di noi siamo bravi e però alla fine siamo tra di noi un'ultima cosa per cui io chiedo almeno di valutare il fatto dei coordinatori anche il rapporto al territorio Varese la provincia di Varese ne ha bisogno un minimo tre non può essere devono essere i coordinatori di tutti i meet up l'altra cosa è già stato detto ma è mai possibile che io faccia un'iniziativa per avere l'autorizzazione del simbolo non ultimo l'iniziativa che abbiamo fatto su un albero per ogni nato ho dovuto fare centomila telefonate ai nostri referenti nazionali per avere il simbolo perché io non sono un portavoce non sono stato eletto anche questa cosa usciamo un attimino poi e mi fermo qui senza andare a dare giudizi sui portavoci che detengono il simbolo e decidono le strategie politiche all'interno dei meet up perché molte volte mi sono trovato con portavoci che diciamocelo di basso livello ma bassissimo livello dove dove se non gli sei simpatico ti buttano fuori dal meet up anche se sei attivo e fai iniziative basta queste cose scegliamo i portavoce i portavoce veramente devono rappresentare la voce degli attivisti l'ultima cosa poi mi fermo qua mi fa piacere che qui c'è anche Vito Cremi che è un sottosegretario con lui abbiamo fatto molte assemblee anche a Saronno alle origini alla rotonda di Saronno i cambiamenti ne sono stati fatti però attenzione veramente io chiedo a tutti i presenti perché siamo tutti i genti sensibili voglia di lavorare tutto e basta con i soliti leoni da tastiera che quello che fai ti criticano faccio un esempio per tutti e poi l'ultima cosa dopo aggiungo al 16 abbiamo organizzato attorno a Vinto un'iniziativa provinciale sulle tematiche ambientali ma vi rendete conto che ci hanno criticato perché abbiamo avuto il patrocinio di Lega Ambiente e dell'ente Parco Ticino nelle tastiere ci hanno criticato la mia risposta è ma chi dovevo invitare Casa Pound e Forza Nuova o la Lega Ambiente e l'ente Parco Ticino finito no volevo aggiungere un'ultima cosa no un'ultima cosa veloce no veloce attenzione ultimamente il Movimento 5 Stelle è sotto attacco e ci vogliono far apparire come le persone che dicono sempre di no non è vero faccio un esempio e poi concludo qua Pede Montana Pede Montana è un'opera realizzata è stato chiesto il termine di questo io mi oppongo perché per me è un'opera inutile però io prima dico come ambientalista prima di mettere un metro di asfalto mettete in campo tutte le mitigazioni e le compensazioni ambientali previste sul tracciato le opere o si fanno bene o non si fanno e si concludono bene allora faccio un elenco di nomi di gente assente nell'altra sala se per caso sentite il vostro nome avvicinatevi di là Oggioni Riva Schiavello Genoni Genoni Veneri Chiavacci Gemellari Badalà Giordano Travi Magugliani Ferrari Molino Mangiacavallo Russotto Blesio Capasso Buongiorno a tutti sono Angelo Nicotra da Como francamente devo dire che in tanti anni sono uno dei primi attivisti che ha iniziato a operare sul Movimento 5 Stelle anche prima ancora che nasce il Movimento 5 Stelle e oggi mi rendo conto che si è un po' smarrita la strada iniziale quello che erano i valori i principi del Movimento 5 Stelle si sono un po' persi per strada bisogna che ritorniamo un po' alle origini e cercare di ricostruire un percorso che era fondamentale per un cambiamento su cui vogliamo veramente lavorare e in cui crediamo a mio avviso bisogna che ci sia la volontà di far partecipare sì nuova gente ma però devono anche essere gente che che sposa i nostri principi i nostri valori non che qui ultimamente qui arriva gente che mai vista mai sentita arrivano si iscrivono e poi vogliono andare avanti a fare ancora come erano abituati a fare in altre forze politiche oppure si inventano cose nuove noi lo vediamo già dall'utilizzo diciamo dei nostri mezzi noi siamo partiti ai tempi con la piattaforma dei meetup che oggi la stanno quasi un po' abbandonando tutti ma non perché non la sanno usare dicono non funziona ma poi quando gli chiedi ma tu la conosci no e come fai a dire che tu una cosa non funziona se non la sai usare cioè perché perché non hanno più la voglia la costanza di mettersi lì a studiare a analizzare e capire come funziona la piattaforma che sia da migliorare che sia da integrare con le nuove con le nuove tecnologie sono perfettamente d'accordo ma però bisogna che la usiamo dove sulla piattaforma rimane traccia di tutto quello che si va a fare perché noi siamo nati con quello e se andiamo a vedere troviamo tutte le tracce delle discussioni di quello che è stato fatto negli anni passati e non si vede più cose recenti perché nessuno mette su discussioni parla tutti attraverso i social dove inizia una discussione poi si perde per strada e si va a finire che non si sa più di che cosa si parla dopo una decina di messaggi che arrivano si perde il tutto quindi cerchiamo di ritornare un po' alle origini di ricostruire un percorso che è fondamentale cioè un'altra cosa che chi mi ha preceduto prima io sono essendo di Como anche noi abbiamo un territorio molto frastagliato diversificato perché abbiamo dal lago alle montagne all'alto lago e quindi necessita che ci sia veramente chi coordina chi segue questa formazione che noi dobbiamo creare cioè perché dobbiamo darci una organizzazione veramente operativa cioè in passato si è sempre rifiutato questa parola organizzazione ma l'organizzazione operativa serve per poter lavorare al meglio non serve per diventare come gli altri partiti politici quindi a mio avviso dobbiamo eleggere attraverso le votazioni che vengono fatte con gli attivisti dei rappresentanti almeno uno ogni duecentomila abitanti che rappresentino i territori in modo tale che abbiano anche dei principi sani che portano avanti le idee e i valori del Movimento 5 Stelle perché altrimenti non ci siamo e bisogna anche i candidati che si vanno a mettere nelle liste che si vanno a fare locale cioè la gente deve avere un minimo di informazione un minimo di esperienza non possiamo permettere di mettere su gente che arriva non ha esperienza non conosce neanche l'ABC del Movimento 5 Stelle e poi queste qua si permettono di determinare o vogliono cambiare tutto il modo di fare del Movimento 5 Stelle grazie buongiorno sono Attilio Gambato e sono un attivista di Varese diciamo che il mio intervento è diviso in due una parte riferita ai referenti una parte parla di referenti e una parte parla di assemblee di ritorno al movimento iniziale chiediamo questo che io vi porto arriva da Varese Como Garbagnate Saronno e Morbegno si è istituita chiediamo che sia istituita un'organizzazione funzionale e celere che dovrà garantire che le attività degli attivisti sul territorio si portino avanti in modi concordati e definiti temporalmente per essere molto chiari ciò significa che le richieste di supporto fatte dagli attivisti nei confronti dei portavoce siano parte di un processo prestabilito per questo motivo è chiaro ed evidente che occorre istituire la figura del referente tematico e politico il flusso della comunicazione potrà essere eseguito secondo uno schema che purtroppo qui non possiamo proiettare i referenti tematici porteranno il tema al portavoce di riferimento che si farà parte diligente per fornire risposte soluzioni entro il tempo concordato trascorso il quale referente tematico e attivista proponente faranno la segnalazione ai probiviri il rapporto tra i referenti tematici e i portavoce sia basato sulla possibilità che i referenti tematici per il tema proposto dalla base controllino l'attività che i portavoce eseguono nelle istituzioni Parlamento Regione Comune si evidenzia che in molti casi il comportamento del portavoce sembra mutato dalla figura di essere un portavoce del movimento nell'essere il movimento sul tema elezioni amministrative comunali l'attivista Maurizio Pesina propone quanto segue l'attivista che intende far parte delle liste civiche dovrà essere certificato sulla base dell'attivismo effettivamente svolto sul mandato del movimento solo così potrà essere legittimato a rappresentare il movimento alle elezioni questo consentirà all'eletto di entrare nella giunta del comune e di essere produttivo nel progetto governativo sicuri che non tradirà gli obiettivi del movimento evitando così la creazione di liste civiche improvvisate che recano solo danno e qui finisce la parte riguardante i referenti adesso viene una parte che è particolarmente sentita da parte mia perché arriva dalla storia perché arriva dalla storia nostra che arriva da 3.000 anni fa noi dobbiamo tornare all'inizio del movimento e per essere rivoluzionari oggi cosa ci vuole dobbiamo tornare dal popolo dobbiamo tornare dalla gente e per farlo che cosa dobbiamo fare dobbiamo soltanto fare delle assemblee del movimento aperte con cadenza trimestrale a livello provinciale quindi possiamo trimestrale o quadrimestrale come volete voi chiamare i nostri portavoce a livello provinciale a livello locale a livello scusate a livello provinciale o anche deputati se i temi riguardano come si chiama problemi a livello governativo ma l'assemblea alla fine vota per alzata di mano e detta la linea politica ai portavoce questo consentirà poi agli attivisti di portare queste scelte a livello popolare andando ai gazebi facendo gazebi durante il periodo tra un'assemblea e l'altra così grazie 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 mi scusi ha finito se no andiamo buona giornata a tutti sono sono Luciana Pellegrefi di Milano sono iscritta dal 2007 ho alcune osservazioni di metodo e alcune di contenuto di metodo in questo senso non è che ci viene chiesto oggi se vogliamo bere un caffè oppure no ci vengono giustamente chieste proposte contenuti di un certo spessore allora per fare questo bisognerebbe che ogni gruppo territoriale che sia municipio comune a seconda delle dimensioni si ritrovi si confronti faccia una sintesi che racchiuda l'accordo di quel territorio a quel punto si va a un livello superiore e si duplica un processo di democrazia interna fino ad arrivare a una sintesi regionale finale che farà poi un'assemblea nazionale questo è un processo di democrazia interna che noi ancora non conosciamo ignoriamo e che ci porta al fatto che ognuno fa da sé e forse fa per tre ma questo non vale più perché abbiamo donato sei milioni di voti collegato a questo discorso mi chiedo io ho qui in mano e credo che sia di pubblico dominio visto che io sono nessuno il report delle assemblee regionali della Lombardia a seguire ho quello della città metropolitana di Milano e a seguire credo che ci sia c'è un altro documento questo non ricordo comunque è sempre frutto di decisioni collettive e riguardano i temi dell'organizzazione e altro interne sono tutti da un mese forse più a questa parte scritti mi chiedo quale sono le risposte a questi documenti che fine hanno fatto e perché ci troviamo ancora qui a discutere delle stesse cose vado a seguire le proposte di organizzazione non possono prescindere dall'attività politica che si vuole fare sul territorio e dagli obiettivi che ci poniamo conseguentemente do una nota semplice semplice che credo anche questa sia di pubblico dominio quindi non scopro l'acqua calda sulla provincia 68 comuni sono andati al voto siamo riusciti a presentare 13 liste su 68 di queste 13 liste avevano 45 possibili debuttanti ce l'hanno fatta in 4 di queste 13 liste ne sono passate 9 con un consigliere vogliamo dire qualcos'altro io no grazie vado a finire di che cosa stiamo parlando di organizzazione se non parliamo di statuto dell'associazione statuto russo non possiamo prescindere da questo perché noi possiamo organizzarci finché vogliamo signori ma se ci sono strutture verticistiche in entrambi gli statuti nessuna possibilità di democrazia interna nessuna possibilità di votazione nessuna struttura perdonate il gioco di parole strutturata periodica di confronto e votazione sul territorio stiamo a perdere tempo quindi siccome io non ne ho voglia di perdere tempo e ci sono dal 2007 chiedo ufficialmente poi di mettere al voto se è possibile come struttura democratica qui riunita che si facciano delle discussioni sugli statuti che siamo obbligati ad accettare perché quella di russo era collegata a quella dell'ultima revisione dello statuto del movimento se non l'accettavi non entravi in russo siamo stati obbligati a firmare tutto ad accettare tutto quindi per cortesia cominciamo a discutere tutti di quello che sono le nostre associazioni che finanziamo con i soldi nostri ho finito e che dobbiamo utilizzare al meglio ma per farlo dobbiamo avere delle strutture che ci consentano di intervenire proporre e mettere al voto come tutte le democrazie interne ho finito se volete lascio agli altri documenti allora Sica Vicenzetto del Carlo Puricelli e Carcano non ci sono buongiorno a tutti sono Fulvio Carcano Vimodrone ho scritto due righe contrariamente a quanto faccio di solito abbraccio perché i tre minuti mi hanno costretto la rapida scesa del nostro movimento è stata una piacevole cavalcata zeppa di idee che hanno portato una ventata d'aria fresca nel panorama politico e novità che ognuno di noi portava dentro di sé l'enorme successo ha creato davanti a noi immense praterie migliaia di persone da impiegare significando con questo non solo le posizioni effettive di consiglieri comunali regionali sindaci parlamentari ma anche tutti gli apparati connessi comunicazione ricerca logistica lavori di gruppo eccetera la domanda che vi rivolgo è semplice siamo sicuri che le centomila persone preposte non ho mai fatto un calcolo ma forse sono anche di più siano all'altezza del loro compito per me la risposta è no ci sono quelli bravi e ne conosciamo molti ci sono i brocchi e in mezzo tutte le sfumature si chiedono oggi suggerimenti su cosa fare per i territori lo devo l'iniziativa perché da qui bisogna ripartire per contrastare capillarmente la stampa la tv ovvero l'informazione distorta e bugiarda stando in mezzo alla gente per dialogare e spiegare la politica nazionale congiuntamente a quella locale se un portavoce locale non è all'altezza tutto questo viene a cadere si crea così un problema non solo per lo specifico comune ma anche un inevitabile danno per il consenso generale chi decide se il portavoce è o meno all'altezza dei suoi compiti l'assemblea degli iscritti locali i provviviri nessuna delle due ipotesi eppure ci sono su tutto il territorio nazionale un'infinità di casi disperati che sono bloccati per l'intera legislatura e stante le regole in atto che designano il portavoce come unico destinatario del nostro simbolo si lasciano nel limbo situazioni cui nessuno ripeto nessuno mette mano ragioni di tempo mi impediscono un discorso anche più strutturato tuttavia sono proporre cinque punti il simbolo il primo è il simbolo è un bene comune e non può essere concesso ad una sola persona il gruppo locale è formato da iscritti attivisti che gestiscono le attività e le iniziative politiche l'assemblea è sovrana seppur in ambito locale e così come elegge il portavoce ha potere anche di sfiduciarlo si deve creare si deve creare una catena di collaborazioni con i comuni confinanti affinché si formino territori coordinati si devono allestire assemblee pubbliche a tema con cadenza obbligatoria almeno ogni due mesi e gazebo almeno due volte al mese in luoghi ritenuti più idoni non ho altro da aggiungere se non rendermi disponibile congiuntamente a ulteriori attivisti del mio gruppo per esporre il nostro punto di vista vi ringrazio allora io ho un po' di gente in coda a parlare quindi li chiamo Luciana Pellegretti Danzi Mariangela Alberto Bonavoglia Giovanni Cella ce ne sono ok vado avanti Alberto Marabini ma c'è qualcuno di questi? vai vicino allora buongiorno a tutti sono Michele Del Carlo sono attivista di Monza allora quello che vedo io che di riorganizzazione è la mancanza di diverse parole fondamentali la prima è armonia io vedo che in tutti i gruppi locali c'è una enorme mancanza di armonia tra gli attivisti questa è una cosa a cui dovete lavorare bene perché dal basso parte arriva in alto la sensazione di armonia un'altra cosa che manca molto è la parola ascoltare ascoltare non vuol dire solo usare le orecchie per ascoltare le parole e sapere anche ragionare sulle parole dette la mancanza di ascolto è la causa che ci ha portato fino a questo punto la mancanza di di essere ascoltato veramente da parte delle figure in alto ascoltare parole che sono state dette da parte degli attivisti la semplificazione più rendiamo semplice l'organizzazione più facile funziona più difficile e meccanico lo fate non funzionerà mai l'ultima cosa sarebbe la mancanza di figure forti nella figura nazionale per esempio io sarei dell'idea di avere tre figure nazionali uno per il nord uno per il centro e uno per il sud e le isole e stare dietro a loro aiutare a far crescere e diventare la figura forte come si può dire hanno anche i nostri avversari la lega ha solamente Salvini come figura forte e viene seguito noi abbiamo solamente una figura che è di Maio figura forte meglio avere tre almeno abbiamo più vantaggio sugli altri avversari basta ciao ciao a tutti allora io sono ultima arrivata nel movimento sono stata la capolista e quindi guardando dall'esterno questo straordinario movimento queste straordinarie persone che comunque ho incontrato che a differenza dei mondi politici che ho conosciuto credono ancora in valori e principi mi pongo però un problema il problema che forse dobbiamo ripensarci ci dobbiamo ripensare in termini di contenuti perché i contenuti e gli obiettivi della carta di Firenze sono obiettivi validi ma verranno rincorniciate alla luce di quelle conoscenze che abbiamo avuto che abbiamo avuto modo di conoscere ci sono grandi nuovi temi da affrontare dal riordino del mondo degli enti locali al discorso delle province che parola che se la pronunciamo sembra tabù ma che in campagna elettorale ci ha buttato fra le gambe come una bomba Salvini proprio perché frutto di una contraddizione e di un sistema che non funziona noi per fare ripartire l'economia abbiamo bisogno di comuni efficienti e i piccoli comuni non sono in grado di gestire appalti concorsi faccende legali di un certo tipo dobbiamo e abbiamo bisogno di un ente di secondo livello su questo dobbiamo ripensare a come sicuramente senza poltrone senza poltrone nuove però dobbiamo avere la capacità di dire come spiegarlo ai nostri e non dire ai nostri che abbiamo cambiato idea ma abbiamo preso atto della realtà cioè prendere atto della realtà abbiamo un altro grande tema che è quello del pubblico impiego molti in campagna elettorale ho conosciuto di elettori che sono dipendenti dei pubblici e appartenenti alle forze armate non abbiamo un disegno queste persone si vedono oggi un ministro come la Buongiorno che pensa di risolvere dieci anni di blocco concettuale dieci anni di blocco di carriere dieci anni di blocco di assunzione solo proponendo solo proponendo di identificarli con l'iride e con le e con le impronte digitali ma su questo dobbiamo fare delle proposte e su questo dobbiamo organizzare dei gruppi di lavoro e su questo dobbiamo lavorare perché questi temi ridiventino la nostra nuova carta di Firenze dove tutto quello che è la carta di Firenze che non è stato realizzato ridiventi e rialimenti questo meccanismo ma per fare questo quindi bisogna ragionare ma senza un'organizzazione ragazzi non si va da nessuna parte senza soldi non si va da nessuna parte dobbiamo trovare un modo nuovo di organizzarci senza ripercorrere il territorio che hanno ripercorso gli altri perché non possiamo negare la nostra identità noi siamo stati gli unici credo che hanno tolto dei contributi cioè delle risorse dal proprio trattamento economico del rimborso forse è il momento che ci mettiamo in crisi su un principio qualche risorsa la dobbiamo utilizzare in maniera trasparente se no diventiamo vittime di chi ci viene a guardare come usiamo le poche risorse sospettive pubbliche che abbiamo e ci sono tanti che su questo ci possono crocifiggere quindi su questi temi che possono sembrare tabù abbiamo l'obbligo di parlarne e quando si dice parlarne non in tre minuti ragazzi perdonate ma per temi tematici e cominciamo a parlarne altro sistema io non vedo che uno si alza la mattina perdonatemi neanch'io mi permetto e metto al tema su una piattaforma una mia idea su cui metto gli altri a parlare abbiamo la capacità di creare partiamo da Milano un gruppo che su alcuni temi sviluppa un progetto e lo mette in piattaforma bene facciamolo poi non voglio sottrare tempo l'altra cosa che dico è sì abbiamo necessità perché non è possibile che in questa campagna elettorale che io e Leonora qui ci onoriamo di aver fatto sul territorio e non credo che su altri territori della nostra circoscrizione questo sia avvenuto e questo mi sento di denunciarlo né io né Leonora se non per contatti personale abbiamo mai perso piede in Piemonte o in Liguria questo ha fatto sì che abbiamo perso 5.000 preferenze almeno 5.000 voti e quindi un seggio e questa è la verità e questa è la verità che io vi racconto al di là se ero io Eugenio o un altro a me non me ne fregava niente perché un posto di lavoro vive a Dio e una pensione vicina ce l'ho però mi rode quel seggio perso mi rode quel seggio perso e credo che questo deva diventare un argomento di analisi perché nessuno si permetta più di sacrificare il movimento per ambizioni di carattere personale perché questa non è la storia del movimento vado e vengo a chiudere c'è il problema di conoscere le persone subito cominciamo a ragionare chi deve detenere i dati degli iscritti perché gli iscritti sono le prime persone con cui si può ragionare a un tavolo sia esso anche un tavolo virtuale ma questo deve essere fatto quindi io penso che gli obiettivi sono ripensare subito su alcuni temi che chiedono con urgenza riforma degli enti locali pubblico impiego c'è una riforma e una campagna contrattuale che è in pista c'è il problema del riordino delle forze armate che lo dobbiamo porre perché se no su questi temi il nostro furbo Salvini esce con uno slogan e non fa altro che metterci in difficoltà e farci pensare quei sprovveduti o poco competenti perché su questo noi abbiamo probabilmente perso una parte della partita grazie grazie ciao Alberto Marabini microfono si sente scusate io devo intervenire oggi pomeriggio ma mi accorgo che qui è un problema di riorganizzazione mi dispiace farò un intervento parecchio critico però io amo il movimento con tutto il cuore e lo sto vedendo morire cioè secondo me quello che è successo a queste elezioni è veramente drammatico quindi scusatemi se la prendo un po' alla larga ma per parlare di organizzazione dobbiamo un po' partire da un sacco di scusatemi ma minchiate che abbiamo detto durante le elezioni mi sono messo scusate mi sono messo in coda perché io mi ero iscritto ad altro ma invece capisco che è assolutamente un problema di organizzazione non interverrò oggi pomeriggio porta pazienza allora Alberto Marabini non interverrò oggi pomeriggio allora abbiamo detto un sacco di minchiate da chi invitava l'Europa a prendere il controllo delle nostre finanze paragone al dare la colpa dell'immigrazione a Visengrad come se il trattato di Dublino poi ce l'avesse fatto firmare l'Ungheria che parlare del disavanzo tedesco non è la panacea di tutti i mali e sì che per quei 200 miliardi all'anno sono arrivati anche ad ammazzare 700 bambini greci che noi attivisti dovevamo piantarla con questa logica dello scontro con l'Europa come se poi non fosse la commissione che ci porta allo scontro per cui quando ci si siede a certi tavoli bisogna mostrare umiltà e cambiare idea come se poi a noi spesso non fosse stato consentito di avere un confronto con i nostri vertici che il debito si paga come se non fosse stato creato quel debito sotto gli ordini di Bruxelles e che è dai responsabili parlare di deficit perché sennò va sullo spread e purtroppo queste erano le stese parole della Fornero che i nostri eroi sono gli industriali e scusatemi quella era la gente che rideva le barzellette di Berlusconi per capirci purtroppo gli eroi non siamo noi in questa sala che nonostante le nostre vite sfasciate negli anni abbiamo continuato a lottare purtroppo noi non siamo né eroi né eccellenze allora potrei andare avanti ma non è dibattito però allora potrei andare avanti adesso anche se noi stiamo facendo quelli che sono caduti dal pero perché eravamo convinti che che ci potesse fidare delle scuse di Juncker anche se secondo me fidarsi di Juncker è un po' come fidarsi di Berlusconi queste cose si sapevano benissimo dai tempi di Monti di Renzi siamo noi che avevamo portato il sovranismo nell'agenda politica del Paese non la Lega se certe cose in campagna sono state dette non credo sia stato per ignoranza ma per una nostra lampante inadeguatezza politica anzi senza girarci intorno mi hanno rubato anche del tempo porto pazienza allora scusate è inutile girarci intorno il motivo per cui abbiamo perso queste elezioni per cui abbiamo perso 6 milioni di voti è stato che ci siamo presentati non come un movimento rivoluzionario ma come un partito moderato liberale europeista una specie di versione onesta del partito democratico che vabbè un po' grida il fascista quando è accorta gli argomenti purtroppo è da qui che dobbiamo ripartire per parlare di organizzazione e non sarà un simpatico scambio di battute perché qua è tutto il discorso della democrazia interna del Movimento 5 Stelle va bene allora purtroppo sì c'è questo problema ci vedono male ci vedono come yes man in giacchetta purtroppo c'è stato anche il caso De Vito non sembra ma ha pesato uno che si portava in giro Parnasi da tutte le parti grazie grazie ho due proposte da fare mi scusi se no mi spiace ma tre minuti a testa se no prego il prossimo grazie buongiorno a tutti Giannicella di Bollate non sono neanche più un attivista in quanto espulso due volte senza motivazione dal Movimento mi fa triste sta cosa perché io ci credo sono qua anche oggi però vado avanti cerco di non portarvi a tempo e voglio fare solo alcune considerazioni non troppo politiche come avete fatto voi in tanti fino adesso scusate l'emozione non sono abituato a parlare allora una critica che faccio sulle espulsioni appunto dell'interno dei meet up la gente viene espulsa creiamo antipatia e perdiamo i voti perché io espulso non vi voto più io e tutta la gente che conosco perché poi porto fuori quello che succede dentro quello che fa il Movimento nelle istituzioni da dentro portiamo fuori quello che succede e lo portiamo a conoscenza dei cittadini nel locale funziona allo stesso modo quando poi veniamo espulsi si crea antipatia perdiamo voti non al nazionale perché nel nazionale continuerò a votare per il Movimento bravissimo bravissimo il problema è che io non lo so due volte due volte e ho chiesto la spiegazione due volte due volte non ho avuto spiegazione il perché non lo so io l'ho chiesto e non me lo dicono ascolta ho detto che avrei riportato solamente queste cose non facevo proposte politiche come al col diritto di dirlo ho diritto di dirlo ragazzi non è un dibattito però per favore ascoltate l'organizzazione interna nei meet up io la trovo abbastanza perdonatemi il termine forte ma abbastanza mafiosa c'è uno che comanda altri che gli vanno dietro se uno vale uno funziona che lui dice una cosa questi cinque sono convinti e d'accordo con lui io non posso neanche più ribattere perché vengo espulso come polemico anziché critico vengo confuso anche questo non lascia il tempo che trova penso che nei meet up locali sia pieno di gente che voglia arricchire il proprio curriculum per poi una volta finiti i mandati girare trovare lavoro più facilmente con una presenza di questo tipo questa è un'altra cosa antipatica poi avevo presentato per esempio perché la partecipazione nel movimento dice che noi andiamo partecipiamo proponiamo e non è che proponiamo e ce ne andiamo proponiamo e portiamo avanti avevo fatto una proposta appunto tempo fa per questa organizzazione che nei paesi funziona veramente male e niente a priori bocciata perché perché avrebbe messo davanti la bandiera prima del nome della persona o del nostro potenziale candidato portavoce io di tutte queste cose sono veramente disgustato sono qua non intendo uscire dal movimento del mio paese perché ci tengo ci credo e sono visto continuamente come polemico quando comunque magari critico è troppo facile così un'altra cosa che volevo fare una piccola critica scusami è che ho provato a contattare i ragazzi della regione per alcune iniziative valide io sono uno di quelli che lavorava con Uber e ha perso il lavoro avevo delle proposte validissime da poter proporre ma parlare con loro è impossibile ci ho provato e non ci riesco mai anche queste cose io le migliorerei tantissimo vabbè posso finire qua tanto grazie sono Gian Paolo Cavagnolo di Vimodrone io parlerò solo di una piccola esperienza personale perché ah voce non ne ho ok la la mia esperienza professionale è di aver sempre un ruolo direttivo nelle importanti aziende mondiali no e orché è nato il Movimento 5 Stelle ho pensato no di poter dare un contributo in un settore che seguo anche professionalmente che è quello della ristrutturazione energetica ho partecipato attivamente alla campagna politica a Vimodrone perché a Vimodrone si poteva raggiungere il 30% dei consensi e pensavo di poter portare in comune una ristrutturazione della politica energetica portando una quella che viene chiamata la democrazia energetica basandosi su cooperative su iniziative a livello di quartiere e a livello di condominio cose che avvengono già in molte nazioni europee e a livello professionale avviene già in molte aziende alcune le seguo addirittura personalmente la cosa sorprendente è che dopo aver fatto un mese di lavoro abbastanza documentato tutto è stato annullato perché? perché questo oscurava il candidato portavoce scelto anche da me tra l'altro ma io ero convinto che la mia iniziativa sarebbe stata portata avanti la cosa invece è stata annullata quindi adesso devo parlare di quello che io chiamerei la dittatura dell'incompetenza io mi sono trovato a essere bloccato nella mia attività che penso positiva da una persona che non capiva assolutamente nulla degli argomenti che affrontavo anche perché non è neanche riuscito a completare un ciclo di studi e la cosa è rimasta bloccata quindi quello che vorrei sottoporre qua è come si può risolvere questa cosa all'inizio nel nostro regolamento interno pensavamo di fare delle elezioni ogni sei mesi il portavoce doveva essere verificato ogni sei mesi ci è stato detto che questo è impossibile non si può fare quindi noi da due anni noi è un gruppo di anzi nettamente maggioritario non possiamo fare riunioni perché se facciamo una riunione il nostro portavoce si trova immediatamente in minoranza e quindi evita di fare le riunioni a livello comunale si si finisco subito a livello a livello comunale porto avanti delle proposte ne cito solo uno inneggia a Benetton a Elon Musk cioè cose che cosa centrano con il movimento 5 stelle però non si può fare nulla grazie buongiorno buongiorno sono Carmen Colomo consigliere comunale a Mariano Comense porto il resoconto di quello che è stata l'attività fatta da più meet up o gruppi locali della provincia di Como Cantù Mariano Erbalo Mazzo Blevio Bellagio Tremezzina come aiuto civico quindi parlare oggi di organizzazione del movimento non è così scontato soprattutto quando io mi ricordo quando la prima Italia 5 stelle io e Cristian quando abbiamo portato il format della condivisione di gruppo dei consiglieri siamo stati quasi linciati perché avevamo pronunciato la parola organizzazione per cui ripeto guardate bene dove siamo arrivati oggi naturalmente oggi ci rendiamo conto che per raggiungimento degli obiettivi di governo che abbiamo intrapreso e nel campo da gioco delle regole democratiche vigenti diventa fondamentale la presenza di un piano strutturale organizzato un sentiero tracciato sul quale poter camminare senza dover ogni qual volta tornare indietro dobbiamo trovare le modalità per dotarci di strumenti attuativi per essere operativi consapevoli che solo con la sperimentazione attiva e non solo con le parole possiamo costruire soluzioni a uso e consumo delle prossime generazioni non è quindi all'inizio scontato dire che come principio basilare io penso sia fondamentale che tutte le persone che fanno parte o faranno parte del movimento ancor più da chi viene eletto a una carica istituzionale deve attenersi allo schema organizzativo e vi devono essere dei metodi di accertamento controllo certi ed efficaci lo schema organizzativo del movimento deve essere aperto al lavoro sul territorio deve essere propedeutico nel canalizzare le problematiche locali senza nessuna preclusione a collaborazioni purché derivanti dalle esigenze dei cittadini ma di questo se ne parlerà probabilmente con la formazione in merito alle liste civiche con cui auspichiamo di poter costruire nuovi percorsi ribadiamo quindi il primato del lavoro sul territorio a contatto con la gente e le realtà economiche e sociali ma sentiamo il bisogno che questo flusso di informazioni dalla base possa fluire a tutte le cariche istituzionali in modo coordinato ed efficace abbiamo appunto fatto un grafico nel quale al centro del cittadino è tutto intorno a tutte le figure istituzionali che ruotano come consiglieri regionali deputati e quant'altro da questo schema capiamo che pur essendo il cittadino al centro dell'attenzione democratica rappresentativa se non ha davanti uno schema organizzativo per avere una risposta nel migliore dei modi si rivolge all'amico dell'amico oppure pur rivolgendosi al movimento la risposta si può disperdere nei meandri dei livelli istituzionali perché appunto non siamo coordinati tra di noi e quindi questo è ancora una pecca per il cittadino che non ci vede come coordinati e le sue risposte e le sue domande non hanno risposta e in questo modo si rompe la catena democratica i cittadini perdono la fiducia nelle istituzioni allora quindi io volevo posso usare i tre minuti io avevo anche tre minuti di un altro attivista ci possiamo allora interrompiamo qui quindi dopo pronuncio quelle che saranno le altre supporti del gruppo grazie allora si preparino nolli gabriele pietro spirito fabrizio de marinis diego carmenati e marco cardillo buongiorno a tutti io sono arcangelo brancaccio coordinatore del gruppo di binasco e in questa sede rappresento anche Noviglio quali sono le nostre proposte che riguardano l'organizzazione una struttura territoriale che non vuol dire necessariamente una sede perché quella costa vuol dire dei referenti che potrebbero essere anche tre persone uno comunale uno provinciale uno regionale che selezionano i candidati per esempio l'attuale sistema di l'attuale sistema consente a chiunque di candidarsi a chiunque di presentare una lista permette i conflitti tra all'interno dei gruppi come è stato detto precedentemente questo è un vulnus che supportano le attività elettorali che supportano le attività dei consiglieri comunali e degli attivisti questo rapporto deve essere questo apporto dei referenti deve essere bidirezionale quindi sempre in condivisione poi con il resto dell'organizzazione e proponiamo anche la formazione a chi viene dopo per diciamo quelli che hanno esaurito i mandati via limite dei due mandati per i consiglieri comunali riteniamo che l'esperienza del consigliere comunale non deve essere non deve essere conteggiata nei due mandati perché così si crea una classe dirigente dal basso che è il punto forte degli altri partiti possibilità di alleanze a livello comunale e regionale con liste civiche pure ma anche con liste partitiche a certe condizioni attenzione replicando quello che si sta facendo di fatto a livello nazionale quindi non ammucchiate ma possibili alleanze se ci sono le condizioni se c'è un partito piccolo una lista che ha candidati puliti e c'è una condivisione di programma perché non si deve fare altrimenti nei consigli comunali e regionali non entriamo troppi ruoli concentrati sul capo politico so che questa è una nota dolente riteniamo che la guida del movimento deve essere seguita a tempo pieno al massimo il capo politico magari si fa affiancare in questo compito riconoscimento dei meet up o come altro li vogliamo chiamare cioè dei gruppi locali che oggi sono semi abusivi cioè se non si presentano alle elezioni comunali quindi non certificano la lista non sono riconosciuti non potrebbero usare il simbolo quindi tutto questo li mette in difficoltà e anche a questo servirebbe la struttura territoriale cioè i referenti che fanno da supporto e fanno da selezione maggiore trasparenza nelle decisioni prese nelle assemblee dei portavoce siamo passati da tutto in streaming a zero streaming maggiori strumenti di comunicazione per arrivare fin nelle case delle persone cioè molti cittadini non sanno per esempio che noi restituiamo soldi che è un'attività assolutamente meritoria ma non lo sa quasi nessuno quindi bisogna potenziare gli strumenti di comunicazione e anche per fare diciamo per contrastare la disinformazione che può essere valutare anche giornali tv eccetera e fare poi aggiungo moltissima cosa qualcosa come fanno i partiti nel senso di fare momenti di aggregazione sul territorio grazie buongiorno a tutti sono Luca Noli di Cremona e quello che volevo dire è già stato detto innumerevoli volte qua da altri attivisti i problemi li conosciamo tutti sono quelli le soluzioni ci mancano serve un'organizzazione serve un riconoscimento dei gruppi e dei territori e degli attivisti bisogna differenziare l'attivista dal semplice scritto su Rousseau perché sono due cose separate e vanno tenute separate io spero che questo incontro sia utile a cambiare le cose perché abbiamo fatto un altro incontro i primi di maggio per definire l'organizzazione e non ho più saputo niente onestamente quindi spero che anche quello sia servito qualcosa noi eravamo bambini che sognavano di cambiare il mondo adesso siamo cresciuti adesso siamo adulti che hanno la possibilità di cambiare il mondo ma ci troviamo ad essere adulti e a combattere in un mondo di adulti non possiamo combattere in un mondo di adulti come bambini perché ci asfaltano grazie buongiorno a tutti Fabrizio De Marinis i grandi eserciti molti grandi eserciti nella storia hanno perso per la disorganizzazione e la logistica la nostra è una grande rivoluzione noi non ci dobbiamo fare abbattere dalla controinformazione internazionale di regime che controlla le testate qui c'è il sottosegretario le testate di controinformazione in Italia sono oltre 150 e questo la dice lunga sul livello di disinformazione che c'è nel nostro paese noi abbiamo fatto grandi rivoluzioni l'ultima l'abbiamo fatta nel ventennio si organizzarono allora per comitati di competenza quando si fanno le rivoluzioni e quella del movimento 5 stelle è una grande rivoluzione internazionale ero l'altro giorno con Dugin portavoce di Putin ad una riunione per la presentazione di un suo libro e lui ha detto noi stiamo studiando la rivoluzione 5 stelle perché è una rivoluzione a livello internazionale il movimento ha attaccato i poteri forti ha attaccato quello che è diciamo l'atto criminale del signoraggio ha attaccato gangli sistemici della società internazionale che si muove sull'usura e la disorganizzazione dei popoli occorre quindi quando si fanno le grandi rivoluzioni grandi organizzazioni non bisogna buttarsi giù qui vedo gente che arriva che dice abbiamo fatto noi siamo ma qui ma qui ma lì qui si sta facendo una rivoluzione qui siamo al governo di un paese che è uno dei paesi più importanti del mondo è un paese che produce miliardi produce centinaia di miliardi noi siamo il secondo paese europeo per capacità di produzione quindi noi abbiamo bisogno di un'organizzazione ferrea io propongo e qui tanti l'hanno detto comitati di competenza occorre una precisa organizzazione che sappia recepire le capacità delle persone che hanno anche fatto tutta una vita di mestiere io sono stato un giornalista di controinformazione ho pagato professionalmente sono stato magistrato per i reati dei giornalisti ne ho cacciati ne abbiamo cacciati a centinaia pagati da finanzieri voi avete seguito gli scandali negli anni non riesco a dare un contributo concreto quindi questo è un problema di comunicazione interna bisogna essere radicati sul territorio attraverso comitati di competenza chi si avvicina al movimento può essere un idraulico perché noi dobbiamo tornare a riamministrare le eccellenze del paese anche un muratore un calzolaio eccellente è un uomo d'oro quindi noi dobbiamo istituire comitati che sappiano ripartire dalle grandi tradizioni locali ho sentito di diversificazioni territoriali di pedemontane ci sono infinite culture nel nostro paese quindi noi dobbiamo istituire delle commissioni precise osmotiche e dalla base che parte il messaggio nella rappresentanza di governo o regionale o centrale quindi innanzitutto studiare le grandi rivoluzioni la rivoluzione francese istituì gli stati generali la rivoluzione russa istituì i comitati d'azione sul territorio quando d'annunzio prese fiume organizzò per competenza chiamò tutti quanti nei comitati di competenza e così fece la rivoluzione fascista perché chiudo la rivoluzione fascista in 16 anni di pace e 4 di guerra fece 250 città tra qui e i territori d'oltremare e ha fatto riforme immense poi ha fatto tanti errori la possiamo criticare ci possiamo dire antifascisti però ci fu un'organizzazione e quindi noi dobbiamo fare questo creare una organizzazione per competenze in modo che ci sia un dialogo preciso con il territorio vi ringrazio buon lavoro a tutti tiriamoci su noi abbiamo vinto non abbiamo perso abbiamo vinto il movimento va avanti e vince ok gli altri non ci sono Marco chi è no se non è scritto no a meno che si venga qua a scrivere la faccio parlare in coda buongiorno a tutti ruberò un po' più di tre minuti sono Cardillo Marco e sono stato scelto come referente per la provincia di Milano e per Milano a rappresentare appunto il movimento giù a Roma ieri nella riunione che si è tenuta con Luigi Di Maio a Palazzo Chigi innanzitutto appunto volevo ringraziare tutti quelli che mi hanno dato la possibilità di rappresentare Milano e la provincia è stato un onere e anche un onore farlo e tengo a precisare che il mio incarico come qualcuno magari dubbio sulle ambizioni personali il mio incarico è finito ieri alle otto quando siamo usciti quindi io da oggi torno a essere un semplice consigliere comunale volevo fare un secondo appunto perché comunque mi sembra doveroso a chi ancora critica la riunione che c'è stata a Novate Milanese della scelta del candidato la riunione purtroppo è stata fatta a Novate perché non c'è la possibilità di farla in altri posti né a Milano né a altri luoghi più comodi o consoni a tutti quanti c'è stata una partecipazione di 170 persone quindi penso che l'obiettivo di far di raggiungere più diciamo delegati possibili territoriali penso che l'abbiamo raggiunto quindi vorrei a chi critica ancora questa cosa di tacere un attimino e portare rispetto per i 170 delegati che c'erano ora mi sposterei un attimino sull'incontro di ieri ieri sicuramente io non sono stato molto tenero nei confronti di Luigi Di Maio ma nemmeno gli altri 109 delegati delle altre province sono stati teneri con Luigi Di Maio ovviamente lo ringrazio perché il fatto che ci abbia dato la disponibilità di portare le stanze dei nostri territori che grazie a Dio pensavamo fossero circoscritte a Milano provincia invece a quanto pare le problematiche dei territori sono le problematiche di tutti i territori dalla mancanza di organizzazione dalla mancanza di collegamento fra gli eletti nelle istituzioni superiori come possono essere le regioni o lo stesso Parlamento io ho riportato la voce di Milano la voce di Milano noi ci siamo sentiti abbandonati in questi mesi così anche anche le altre province lombarde che hanno preso la parola o le province del Veneto per noi sembra quasi che ci sia stato un gioco a risico dove con l'altra forza di governo noi prendiamo il sud e voi prendete il nord non c'è stata appunto come dicevo un'adeguata presenza e partecipazione appunto degli eletti sul nostro territorio inoltre abbiamo riportato le criticità ma questo noi come tutti gli altri delegati per quanto riguarda la piattaforma russola la piattaforma russola è inutile che ci prendiamo in giro attualmente non funziona bisogna migliorarla è un grandissimo strumento è uno strumento unico perché gli altri partiti in questo momento non ce l'hanno uno strumento del genere va migliorata vogliamo sapere il numero degli iscritti in questo momento nessuno lo sa vogliamo avere la possibilità e questo è uscito fuori da questa riunione e Luigi ci ha risposto anche in merito la possibilità di contattarli questi iscritti banalmente anche per fare le liste ci servono le firme dobbiamo raccogliere le firme abbiamo grosse difficoltà a raccogliere le firme quindi il fatto di sapere quanti sono gli iscritti magari è una grossa mano per noi che lavoriamo sul territorio invece appunto come dicevo Rousseau è uno schermo che più che schermo è diventato un muro un muro di gomma è impossibile contattarlo questo è uscito fuori anche da altri delegati se ci sono delle problematiche è impossibile risolverle diceva il delegato di Firenze che loro avevano mandato la lista mesi or sono un paio di mesi prima e la certificazione l'hanno avuta due giorni prima di consegnare la lista sono criticità che vanno risolte lo so purtroppo stringere quattro ore non è facile appunto parlavamo anche di scollamento fra i vertici non più portavoce nelle istituzioni ma vertici da portavoce sono diventati onorevoli qualcuno non si fa neanche più vedere sul territorio questo bisogna dirlo bisogna ammetterlo e mi prendo tutta la responsabilità del caso qualcuno non si fa più vedere sul territorio potete anche buttarmi fuori ovviamente ovviamente abbiamo parlato anche appunto della della fiducia che è stata fatta in tempi lampo per quanto riguarda il capo politico nessuno lo mette in discussione bisogna migliorare noi abbiamo solo dieci anni ci sono forze politiche che vivono e vegetano purtroppo da quando è nata la repubblica abbiamo criticato magari anche la scelta per quanto riguarda e qua mi dispiace signora Danzi la scelta del 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 capolista del capolista nelle regioni cioè in tutte in tutte le circoscrizioni nessun capolista scelto ha vinto e due non sono neanche entrati quindi anche questa dimostrazione che non porta risultati è il territorio che porta risultati il lavoro sul territorio porta risultati l'ultima cosa giustamente perché bisogna essere anche costruttivi e non solo distruttivi io ieri l'ho invitato un paio di volte a Milano a partecipare a questa riunione lui ci ha promesso gli incontri regionali quindi verrà in ogni regione a parlare con gli attivisti e consiglieri comunali e penso anche i consiglieri regionali questo è un passo in avanti rispetto al passato certo c'è tanto da fare sicuramente è passata la linea ieri di svincolare il mandato dei consiglieri comunali io sono consigliere comunale al secondo al secondo mandato il nostro non è un mandato è pura follia siamo abbandonati a noi stessi e di conseguenza e di conseguenza e oltretutto non è neanche rimurativo io non ho neanche il gettone di presenza lo faccio per pura passione e attivismo e perché io ci credo ci credo come tanti di voi e ci credo come tutti quelli che ieri erano a Roma e mi sono sentito bene per la prima volta dopo tanto tempo avere a fianco persone completamente diverse da me che arrivano da realtà completamente diverse da me chiudo va bene scusate ultima cosa giustamente a livello tecnico non è passata la linea per aprire le liste civiche perché comunque ci sono delle criticità lo sappiamo benissimo che nelle civiche ci sono i trombati dei partiti c'è tanto da lavorare io vi invito a non mollare vi invito a essere costruttivi noi di Milano gli abbiamo lasciato un plico con quattro documenti e un'analisi del voto negli ultimi cinque anni siamo costruttivi dobbiamo essere costruttivi e mi raccomando non lasciate questa battaglia in mano ad altri se muogliamo noi è finita hanno vinto loro e questo non ce lo possiamo permettere grazie Giuseppe Totaro Roberto Rainoldi Giulio Rojas Angelo Fragomeni Matteo Cattaneo Buongiorno a tutti sono Giuseppe Totaro di Milano sono un semplice iscritto è un osservatore critico condivido quasi tutto di quelli che hanno espresso delle posizioni critiche perché è giusto ripartire dagli errori commessi dal peccato originale io lo chiamo il frutto avvelenato che abbiamo mangiato con l'alleanza con la Lega e questo lo dobbiamo lo dobbiamo ribadire con forza se Di Maio dopo le elezioni politiche del 4 marzo avesse letto e ascoltato i commenti della base avrebbe capito fin da subito che era impossibile governare con la casta ipocrita attaccata al potere e al sistema corrotto perché la Lega è questa roba qua vi è stato un errore di strategia bisognava dare 48 ore a Salvini per mollare Berlusconi e non due mesi di tira e molla saremo tornati alle urne e avremmo potuto chiedere agli elettori di darci la maggioranza per governare da soli il paese ora invece ci ritroviamo in una posizione invertita e subalterna e anche di debolezza di Di Maio perché caratterialmente non riesce a tenere testa a Salvini e alla Lega sono molto agguerriti e assetati di potere alla prima occasione utile tradiranno per incassare il consenso che hanno avuto a nostro danno altro errore condivido con altre posizioni è stato il voto di fiducia a Di Maio sulla piattaforma alcune migliaia di persone hanno accettato la disfatta senza far pesare le responsabilità di che ha guidato il movimento doveva dimettersi punto e basta ora questo incontro può essere anche utile però solo se si hanno in mano soluzioni da proporre per quanto mi riguarda o si è in grado di far contare la nostra forza parlamentare e dettare l'agenda oppure è meglio che il Presidente Conte stacchi la spina augurandoci che si candidi con noi come premier perché è l'unica salvezza mentre per la guida del movimento occorrono segreterie territoriali regionali e nazionali uomini sole al comando sappiamo che non funziona non possiamo competere con la lega guerrita sul territorio per quanto riguarda le liste civiche e le alleanze amministrative noi sappiamo che in Italia come nella Francia di Macron abbiamo assistito al boom di liste civiche è un nuovo modo per ingannare gli elettori il giochino però potrebbe finire se il movimento farebbe alleanze con persone per bene dell'associazionismo l'ultima cosa e chiudo il cambiamento è rivoluzione non si fa a metà o con compromessi abbiamo fatto battaglie contro la casta e adesso vediamo i nostri ministri girare con macchine blu e con autista il cambiamento è anche andare in bicicletta a piedi o scooter o la propria auto come nei paesi civili del nord Europa la questione etica e morale deve essere un punto fermo per ricominciare grazie sono Julio Rojas activista del movimento 2009 con calice sono un artigiano qualcuno aveva chiesto che anche gli artigiani sono benvenuti io sono arrivato un po' prima innanzitutto io volevo approfittare per parlare della questione riguardo all'organizzazione siccome in questo locale sono mi sembra quindici giorni fa che si è fatto la riunione per la questione del referente politico e mi sembra che già le persone hanno dato il suo suggerimento che doveva essere portato a livelli più alti allora noi abbiamo proposto che si deve partire del territorio scegliendo un referente provinciale che questo referente provinciale doveva essere eletto palesemente non il sistema russo perché in russo non si conosce chi sono chi non sono e allora questa persona dovrebbe essere un attivista e dovrebbe essere una persona che non dovrebbe essere un portavoce no il resto lo potete trovare no in quello però la cosa più importante è che deve essere scelto palesemente oggi ho sentito anche diversi interventi in cui si parla dell'organizzazione però dicono che si deve iniziare della questione materiale non abbiamo sede e allora la mia proposta per la questione dell'organizzazione è che si deve partire dalla economia e se noi abbiamo quattrocento portavoce che se decurtano le stipendio e noi andiamo a lo dobbiamo mandare a un fondo per aiutare a queste persone in difficoltà partigiane questo questo era prima quando noi eravamo all'opposizione perché dovevamo dare un segnale di chi siamo invece adesso siamo al governo se deve utilizzare le risorse dello Stato per aiutare queste persone il soldi il soldi che non abbiamo obbligazione di rendicontare deve essere utilizzato per il movimento per l'organizzazione per quello io chiedo che si deve mettere in discussione la questione della finalità del soldo dei nostri parlamentari dove deve andare e per finire volevo anche parlare della questione che si la questione dell'uno vale uno lì c'è un problema perché io sono attivista da nove anni vedo una persona che è arrivata il mese scorso e quando deve venire a parlare sempre tre minuti allora la meritocrazia dove uno vale uno per iniziare quando arrivi al movimento però dopo si deve valutare ogni persona chi è per quello dicevo anche quello dobbiamo vedere che cosa si intende per uno vale uno grazie ho chiesto la parola anch'io e svesto metto i panni di sottosegretario di membro del governo di senatore e metto i panni di attivista perché chi mi conosce sa da dove vengo sa la storia e sa anche che non ho mai perso quel tipo di attivismo che c'è sul territorio ovviamente mi riferisco in particolare all'area in cui mi trovo spesso io vorrei fare delle considerazioni quindi le faccio in questi termini secondo me questa campagna elettorale ha avuto dei problemi è stata una campagna elettorale sbagliata probabilmente ci sono stati degli errori forse non c'è neanche stata da parte nostra una vera e propria campagna elettorale se ci ricordiamo alcuni meccanismi del passato e ha avuto il merito di far sollevare quelle questioni organizzative ma le due cose non devono essere confuse non è la non organizzazione che ha portato al risultato elettorale il risultato elettorale è arrivato per una campagna elettorale alcune scelte però si è incentrata sulle attività del governo scelte del governo non lo so è un'analisi di altro tipo da fare che però ha portato tutti noi ad interrogarci nell'interrogarci ovviamente ci poniamo le questioni legate alla organizzazione perché ci facciamo questa domanda perché il movimento 5 stelle nasce come un movimento liquido vi ricordate le parole iniziali liquido un movimento per sua natura disorganizzato nel senso di distrattino organizzato perché è stata proprio questa la nostra forza che ci ha permesso nel 2013 di entrare in Parlamento un movimento liquido non scalabile non controllabile non imbrigliabile negli schemi classici questa è stata la nostra forza non dobbiamo dimenticarlo non dobbiamo condannare la distrattino organizzazione capite cosa intendo quindi smontare degli schemi classici come un difetto ma è stata la cosa che ci ha permesso oggi di essere qua e quindi l'organizzazione oggi è un tema che però non deve essere visto come avete sbagliato tutto abbiamo sbagliato tutto no no è un passaggio naturale noi è un movimento che cresce cambia si evolve si sviluppa e quindi un elemento importante che io mi ricordo che è sempre stata una cosa che cerco sempre di riportare avanti nel movimento 5 stelle non è importante chi è chi è cosa non sono importanti i ruoli e io vi invito a riflettere a questo concetto i ruoli identificano chi è mentre è importante le funzioni cioè chi fa cosa è una differenza che non è da poco perché chi è è un ruolo che determina una gerarchia mentre chi fa cosa sebbene ci può essere una gerarchia perché chi fa cosa le fa in modalità chi fa cosa a livello nazionale chi fa cosa a livello locale è una gerarchia ma ero funzionale finalizzata a un obiettivo a uno scopo e non al mantenimento di un ruolo che determina invece poi un riconoscimento quindi il concetto di funzioni ma questo anche a livello locale anziché di ruoli è un concetto che dovremmo rivalutare perché è stato quello che ci ha condotto fin qui non dobbiamo mai dimenticare come ci siamo arrivati questa è una cosa importante detto questo io due cose che secondo me anzi tre meritano un approfondimento non da poco la questione dell'utilizzo del logo è un tema e non è da poco non è un tema di banale risoluzione però perché mentre un portavoce ha delle responsabilità ben individuate individuabili e metto tra virgolette sanzionabili nel senso proprio associativo di statuto se l'attività a nome del Movimento 5 Stelle viene svolta da un gruppo che non ha un'identificazione non ha la possibilità di individuare delle responsabilità può essere deleterio per gli altri per tutto quello che ci sta intorno perché non sappiamo che per cosa sta facendo vado a conclusione quindi attenzione non è banale però è un tema che va affrontato la formazione e qui dovremmo provare a declinare a livello locale degli elementi di formazione per i futuri candidati sindaci per i candidati sindaci io ricordo che nel 2013 quando abbiamo fatto le liste per le politiche abbiamo fatto una tre giorni di full immersion a Brescia organizzata per parlare di diritto costituzionale di diritto parlamentare di regolamenti parlamentari prima di essere addirittura eletti e ultimo la questione iscritti attivisti piattaforma dico solo questo però è bene che ce lo ricordiamo perché se ci ricordiamo da dove veniamo il percorso fatto forse ci aiuta anche per il futuro i meetup sono delle strutture in cui c'è un organizer che paga per avere uno spazio di cui è proprietario quindi i meetup non venitevi a portare come esempio di democrazia i meetup sono uno strumento che abbiamo utilizzato bene per un certo periodo ma sono uno strumento di proprietà dell'organizer che paga tutti gli anni per averlo non so se questa cosa è chiara a tutti quindi dire che uno è stato buttato fuori da un meetup non è il movimento 5 stelle è uno strumento c'erano i blog non so se vi ricordate ogni lista civica aveva uno spazio sul blog di Beppe Grillo e permetteva una funzione che è stata usata pochissimo benché lo sapessero tutti che esisteva che era la possibilità a ogni post di inviarlo agli iscritti cioè mettevi un post lì il tuo comune facevi il tuo portavoce facevate quell'attività e con un click veniva inviato automaticamente via mail a tutti gli iscritti di quella zona di quel competente di quel comune a prescindere della conoscibilità dei nomi e cognomi perché non sono i nomi e cognomi che servono i nomi e cognomi servono per cercarli andarli a cercare per farsi poi dare i voti magari in qualche accordata quindi non sono i nomi e cognomi che serve serve poterli contattare come giustamente ha detto qualcuno e quella cosa si può fare e infatti come lo si faceva con la piattaforma prima con i singoli blog sotto beppegrillo.it liste civiche slash liste slash milano breccia e quant'altro domani lo si potrà fare anche a russone nel senso che russone come vedete che sta crescendo anche lì ci sarà uno spazio per le singole singoli gruppi locali liste e quant'altro che permetterà di comunicare e interloquire con i propri iscritti senza necessità di conoscere i nomi e i cognomi gli indirizzi perché quello è pericolosissimo io vi invito a pensarci a quali possono essere le conseguenze è quello che ha portato i signori delle tessere nei partiti poi a fare quello che hanno fatto nei partiti e questo vorremmo cercare di evitarlo quindi attenzione che ogni cosa ha i suoi pro e i suoi contro e i suoi contro e va valutato attentamente il percorso è lungo prossimo incontro i prossimi incontri saranno fatti da Luigi Di Maio nel territorio con gli attivisti è una cosa che aveva già annunciato tempo fa quindi non è una novità di ieri è una cosa che faceva parte di questo percorso e come vedete non c'è una ricetta predeterminata se no l'avremmo già magari messa al voto sul rousseau invece il percorso è lungo e si sta facendo tutta una lavorazione per cercare di sgrossare le cose magari che sono non condivise da tutti e alla fine tante cose che vengono ripetute poi col tempo si affermano come patrimonio diciamo condiviso dalla maggioranza delle persone allora ragazzi è stato ritrovato un cellulare quindi controllate se avete il cellulare se l'avete perso venite qua vediamo se è il vostro allora si preparino Alessandro Musolino Fabrizio Baraggi ah ok niente andiamo avanti allora Raffaella Scartolon Daniele Tromboni Matteo Morelli Massimo Mazzucchelli salve a tutti sono Raffaella Scartolon sono attivista di Volta Mantovana provincia di Mantua allora io ho fatto una serie di punti dove magari sono stati fatti alcuni errori allora una cosa che abbiamo pagato molto secondo me negli ultimi secondo me ma anche sentendo anche voci di altri attivisti è l'astensionismo l'astensionismo dovuto alle promesse fatte in campagna elettorale disattese alcune promesse come ad esempio sul decreto Lorenzin la Notap Notav e anche nel settore scuola alcuni del settore ci hanno detto che appunto sono stati fatti degli errori delle promesse non mantenute anche se effettivamente il ministro dell'istruzione e della Lega però identificano spesso chi è il governo che non si occupa di immigrazione è il Movimento 5 Stelle e ci sono poi appunto una serie di problematiche e cose di migliorare dal punto di vista della programmazione e organizzazione quindi serve una maggiore programmazione e organizzazione per disposizione e distribuzione del materiale elettorale perché come è stato anche detto da altri manifesti e volantini sono arrivati il weekend prima delle elezioni e questo ci ha messo un po' in difficoltà oppure gruppi che hanno avuto la certificazione delle liste sono arrivate l'ultimo giorno disponibile e questo ha fatto perdere tempo al gruppo perché finché non aveva la certificazione non poteva muoversi una cosa che potrebbe essere utile soprattutto durante i gazebi è avere volantini riassuntivi delle cose fatte e dei programmi meglio riassuntivi piuttosto che quelli singoli che di solito girano dove viene specificato solo un tema perché quando si appunto al gazebo si va per i mercati è molto più pratico dare un volantino riassuntivo che è un malloppo di tanti volantini alle persone appunto i gazebi devono essere mantenuti periodici perché si è vista l'importanza dei banchetti e la presenza periodica in piazza tra la gente come già stato detto servono delle persone di riferimento territoriali e tematiche e questo serve a supporto ai gruppi già esistenti ma anche per farne nascere nei comuni dove non sono ancora presenti perché sono ancora diversi i comuni dove mancano dei gruppi altra cosa la formazione è importante che consiglieri attivisti futuri consiglieri o portavoce siano preparati sull'amministrazione pubblica e anche studiare le buone pratiche già sperimentate attuate nei comuni virtuosi può essere molto utile quindi avere professionisti il supporto di consiglieri attivisti ed istituire corsi di formazione e aggiornamento se è possibile appunto con il fondo dei soldi restituiti ma a limite anche chiedendo un piccolo contributo ai partecipanti però la formazione è basilare e molto sentita come necessità la presenza sui territori quindi un maggior dialogo degli attivisti e dei portavoci e partecipazione alla vita associativa e sensibilità delle problematiche comunali per avere un miglior radicamento nelle comunità uscire anche sulla stampa locale , visto che l'86% dell'informazione è fatta dalla stampa locale con comunicati dette da direttore o anche ITG locale abbiamo visto che sono molto seguiti soprattutto le persone anziane che non arrivano a internet ok stringo sono due punti Rousseau appunto la differenziazione fra gli iscritti chiunque può iscriversi e consultare la piattaforma però differenziarla dai votanti da chi può votare cioè devono essere iscritti abilitati da un portavoce una persona di riferimento al territorio che conosce che quella persona è un attivista un simpatizzante o meno e questo vale anche per i candidati che ci sia una scrematura una legittimazione fatta con votazioni da parte degli attivisti anche con una riunione fisica per evitare che si candidino persone che non sono mai viste mai conosciute insomma un'altra l'ultimo punto un'osservazione per chiudere un attivista ha fatto un'analisi dei voti delle ultime elezioni tra le varie analisi e lui ha fatto praticamente mi ha fatto notare un rapporto tra i comuni dove sono stati dove è stato votato il Movimento 5 Stelle dove ha avuto una maggiore percentuale combacia con i comuni dove c'è il maggior numero di ragazzi fino ai 14 anni e questa cosa cosa vuol dire che comunque il Movimento 5 Stelle è inteso ancora come partito della speranza perché chi ha figlio sa bene che tante cose si fanno affinché loro abbiano un futuro migliore quindi è fondamentale che continuiamo ad essere considerati come l'unica speranza per questo paese non mollare ciao a tutti Daniele Tromboni attivista di Sesto San Giovanni allora in primo luogo volevo fare una breve considerazione oggi siamo qui e sono contento che ci sia data questa opportunità di parlare comunque con i portavoce che vengono ad ascoltare il nostro pensiero ma mi chiedo quale sia la funzione specifica di questa giornata ossia un mese fa abbiamo fatto un incontro che era volto a raccogliere degli spunti per gestire la questione della riorganizzazione tra le altre cose e per quanto quell'incontro potesse essere un po' cacciarone poco organizzato e quant'altro comunque aveva una sua funzione preeminente volta a portare un documento a Roma ora mi chiedo se la giornata di oggi serva soltanto a far sentire gli attivisti più ascoltati a prescindere poi da un concreto risultato che è quello che tutti quanti speriamo arrivi o se ha una funzione concreta punto uno punto due io ho fatto parte appunto di un gruppo che da mesi ragiona sulla riorganizzazione e sono d'accordo subito sul fatto che la riorganizzazione non è necessaria per il risultato elettorale contingente è necessaria in generale necessaria in generale perché comunque tutti i territori si sentono in questo momento abbandonati nella loro gestione che se forse all'inizio poteva sembrare una cosa quasi positiva e diceva beh io faccio quello che voglio tanto a Roma e regione non se ne fregano niente nel lungo periodo diventa diventa un deficit perché poi quando ci sono effettivamente i problemi da affrontare non avere una rete di supporto concreta se non ah io conosco il consigliere regionale piuttosto che il parlamentare allora gli mando il whatsapp e lui mi può rispondere a me sembra un grosso problema detto questo non andrò a ripetere tutte le proposte che abbiamo già fatto in altre sedi dove venivano verbalizzate e trasmesse agli organi competenti per la riorganizzazione perché mi sembra appunto un'attività un po' come un urobero il serpente che si mangia la coda che poi però non porta da nessuna parte quelle proposte già sono state comunque segnate in precedenti incontri quindi sono stati anche consegnati documenti lavorati per mesi mi sembra inutile ripetere giusto un input io noto che oggi un po' come sempre l'età media a essere generosi della sala è 45 anni questo vuol dire che abbiamo veramente poca attrattiva nei confronti dei giovani e secondo me uno dei modi per poter cominciare a invertire questa tendenza non dico che sia una cosa semplice è cercare in qualche modo di prendere i contatti con gli studenti gli studenti universitari cioè a me viene in mente che nelle università ci sono le liste di sinistra le liste di destra ma non ci sono le liste del Movimento 5 Stelle volete dirmi che nessuno dei universitari del Movimento 5 Stelle io non ci credo io credo che nel Movimento 5 Stelle ci siano molti universitari che però non sono organizzati a livello universitario quindi comunque chi gestisce Rousseau che ha comunque accesso ai dati se non vuole comunicarli cosa che comunque in alcuni casi soprattutto il numero degli iscritti a Rousseau serve perché per convocare un'assemblea serve un terzo degli iscritti a Rousseau ma se nessuno sa quanti siano gli iscritti come facciamo a convocare un'assemblea? non si può o almeno non un ufficiale ma Rousseau potrebbe quantomeno prendere contatti con tutti gli universitari per cercare di creare dei primi gruppi a livello universitario per far crescere dei giovani che poi possono essere il nostro futuro questa è la mia piccola proposta al di fuori dei temi classici dell'organizzazione grazie si aspetta aspetta un attimo allora ho in coda Barbara Risi Anna Maria Curradi Grippo Vincenzo Daniele Cultrera se vi preparate è stata trovata anche una custodia di occhiali qualcuno se l'ha persa ciao a tutti io sono Antonio Sansano condivido molte delle cose che sono state dette e ovviamente è inutile neanche ripeterle rispondo a Vito Crimi no non a Vito Crimi in prima persona scusate l'esempio no no scusate l'esempio che ha fatto Vito Crimi sulla liquidità del 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 movimento 5 stelle quel quel sistema lì ha avuto la sua funzione fondamentale quando il movimento è nato e ha portato i risultati che ha portato eccezionali già nel 2013 e ci ha portato alla crescita nel 2014 nel 2015 poi quando noi siamo cresciuti purtroppo a noi si sono avvicinati tanti riciclati diciamo così che ci hanno aiutato a spingere il carro della vittoria e questi riciclati hanno preso potere adesso cosa succede che questi riciclati alcuni hanno preso il ruolo di portavoce e hanno assunto su di sé il simbolo del movimento 5 stelle ma questo non corrisponde al movimento 5 stelle perché purtroppo hanno svilito quelli che sono i valori del movimento 5 stelle noi dobbiamo dare riconoscibilità e l'orgoglio alla partecipazione ad essere attivisti del movimento 5 stelle cioè dobbiamo dare l'orgoglio di essere del movimento 5 stelle e invece cosa succede che noi non ci conosciamo tra di noi non ci possiamo frequentare l'unico che ha diritto di parola per conto del movimento 5 stelle è l'eventuale portavoce che però è presente soltanto in pochissimi comuni sul territorio e su altri territori vengono abbandonati a se stessi e non hanno nessun modo di potersi proporre esporre non c'è nessuno che coordina le attività nei comuni dove non ci sono portavoci non c'è nessuno che si interessa dei territori abbandonati quindi noi dobbiamo ripristinare quello che era lo spirito del 2010 2011 2012 2013 quando lo stesso Vitocrimi che ho nominato prima e mi scuso un'altra volta arrivava con la sua macchinina col parchetto organizzava i gazebo faceva il comizio e si spostava nel prossimo luogo invece adesso siamo diventati dei signorotti che quando si tratta di candidarsi troviamo 150 pronti a candidarsi quando si tratta di fare il gazebo hanno tutti degli impegni hanno tutte delle cose migliori da fare quindi dobbiamo ridare l'orgoglio al territorio ragazzi è vero che il simbolo appartiene e deve essere detenuto dal portavoce ma il portavoce fa il portavoce non la voce attenzione grazie buongiorno mi chiamo Barbara Risi del gruppo di lavoro cultura Milano allora avrei parecchie cose da dire ma tantissime sono state già dette vorrei proprio a questo punto portare l'esperienza mia del gruppo di lavoro cultura perché abbiamo avuto un problema molto serio riguardo l'organizzazione abbiamo provato sono anni che stiamo cercando a di organizzarlo b di portare quanto meno contenuti dentro il nostro lavoro è stato un lavoro di ricerca di informazione di come dire di approfondimento e i partecipanti pochi sono quelli proprio che lavorano nella cultura nello spettacolo ma ci sono anche quelli che in qualche modo appoggiano i settori della cultura e del gruppo spettacolo approvano insomma questo tipo di percorso allora io insieme a tanti altri anche insomma consiglieri comunali e quant'altro abbiamo in qualche modo messo insieme delle istanze e qui arrivo all'organizzazione a parte il fatto che noi ogni volta che ci sono lezioni praticamente sempre in questo paese il lavoro di cultura viene fermato qualunque cosa noi vogliamo fare attivamente non siamo mai stati in grado di farlo perché c'è un'elezione da fare e quindi le cose da fare sul territorio vengono totalmente abbandonate questo significa mancanza di organizzazione perché una cosa è le elezioni secondo me una cosa sono le attività sul territorio i gruppi di lavoro tipo il mio hanno bisogno di una continuità di relazione per fare attuare delle cose o quantomeno per proporle e poi vediamo se attuarle quindi noi abbiamo bisogno abbiamo fatto abbiamo messo insieme delle istanze molto molto rocambolescamente abbiamo provato a fare una rete nazionale e quando ci siamo approcciati a questa a questa impresa perché chiaramente i problemi della cultura sono la maggior parte di livello nazionale poi ce ne sono per tutti i livelli a livello regionale provinciale e territoriale però ci siamo accorti che non esiste nessun database del Movimento 5 Stelle che sia uno neanche degli eletti cioè noi volendo contattare gli eletti di tutti i paesi dove sono stati ci sono presenze nel consiglio del Movimento 5 Stelle cazzo dobbiamo andare su internet su google e chiedere google per favore fai quello che non fa il Movimento ci dici chi contattare contattiamo tra parentesi quindi siamo andati sui siti dei comuni su quelli che avevano segnato i numeri di telefono sono numeri di telefono di uffici sostanzialmente abbiamo contattato si e no 4 5 realtà importantissimo per carità però questa è la rete nazionale della cultura del Movimento 5 Stelle è possibile ed è impossibile una cosa del genere ad oggi non c'è se noi dobbiamo ragionare riguardo questo noi abbiamo bisogno su ciascun territorio anche dove non ci sono eletti del 5 Stelle di persone con cui ragionare perché i discorsi riguardo la cultura sono complessissimi e il Movimento 5 Stelle non li sta affrontando e questo significa che sta lascia in mano a come dire i soloni della star system culturale di questo paese che in mano a PD e a Forza Italia lascia tutto il mondo culturale e quei poveri cornuti scemi che sono del Movimento 5 Stelle e fanno cultura o nascondono la cosa cioè di essere del Movimento 5 Stelle lo sapiono tranquillamente in saccoccia perché ti metti contro il sistema ragioniamo buongiorno a tutti mi chiamo Grippa Vincenzo e sono proprio la base della base io porto avanti qui davanti al di Stefano che ho avuto il piacere di conoscere tanto tempo fa Crimi e sono qui per lanciare solo una proposta io ho fatto ho 71 anni negli anni passati ho fatto Gazzetti rappresentante di lista e quant'altro mi sono sprecato per portare avanti le nostre battaglie perché il Movimento 5 Stelle sono io né di Stefano né Crimi e né voi allora io dico questo la disfatta alle elezioni politiche delle europee non dipende da tutto ciò che avete detto qua dipende dal fatto che avete abbandonato le periferie delle elezioni politiche non c'è stato un gazebo nella mia zona io vengo da Milano Sud e addirittura io da rappresentante di lista ero addetto a nove sezioni mi dite come faccio a controllare gli imbrogli io è questo allora io lancio una proposta visto che voi parlamentari consiglieri e quant'altro vi dimezzate gli stipendi c'è un detto che mi diceva sempre mio padre Bonanima dell'altro secolo non quello passato dell'altro ancora diceva figlio mia aiutati che sarai aiutato allora voi vi tagliate gli stipendi una parte degli stipendi li potete utilizzare tranquillamente per organizzare i gazebi sul territorio e utilizzando i disoccupati del movimento chiaramente del PD dargli una paga non dico una paga eccezionale la cinquantina di euro in modo che questa porta avanti le battaglie del Movimento Cinque Stelle e gli aggiungo un'altra cosa nelle periferie c'è molta gente che non conosce né il reddito di cittadinanza e né tantomeno la pensione di cittadinanza io l'ho fatto prendere a quattro persone e nei caf imbrogliano perciò ci vuole un controllo sul territorio non controllo poliziesco intendiamoci perché se viene la polizia sono il primo a ribellarmi però un controllo da parte nostra è informare la popolazione fare delle brochure di informazione di ciò che fa il Movimento Cinque Stelle del reddito di cittadinanza delle pensioni di cittadinanza e quant'altro io ho finito è una proposta la mia se l'accettate bene se no altrimenti arrangiatevi buongiorno sono la Maria Curradi ho iniziato a conoscere il Movimento Cinque Stelle per le strade vicino al Duomo all'inizio con Beppe Grillo adesso mi sono trasferita in Brianza ho sentito vari interventi forse mio potrebbe sembrare un fuoritema ma è un filo rosso molto sottile che mi è venuto in mente da un po' di tempo perché io quest'anno il 7 giugno ho finito di lavorare nel senso adesso andrò in pensione faccio lì parteciperò con gli esami di licenza scuola media però comunque ho chiuso il mio percorso di insegnante e ho dovuto per forza di cose riflettere su come sono entrate nella scuola come era la scuola nel 74 75 come era quella società e come lo è adesso ho iniziato a fare la precaria nella zona dell'abrianza dove avevo tante famiglie che venivano dal sud per lavorare nelle fabbriche di Varedo Bovisio Cesano la famosa snia che tutti i giorni è sulle cronache per l'inquinamento per la droga e quant'altro liquida per la per la diossina eccetera avevo a scuola alunni desiderosi di imparare semplici umili rispettosi oggi mi trovo finisco in una zona di Milano di persone laureate istruite con ragazze arroganti che non sono minimamente interessate alla cultura allo studio sì certo non voglio fare di ogni buon fascio però c'è un livello molto bassa che se in una terza media chiedo dove è il Piave non lo sanno dove si trova il fiume Piave chiuso questo perché viene questo filo rosso in quanto io ho insegnato musica in tutti questi decenni la musica è una cenerentola in Italia e allora proviamo a capire un po' musica come mai si parla tanto di età classica cosa ci hanno trasmesso i classici bene i giovani greci venivano istruiti prima con lo sport e poi con la musica lo sport curava il corpo e la musica lo spirito oggi dove siamo arrivati perché c'è tanta violenza ma educazione in sensibilità e con questo filo rosso si collega all'ambiente com'è non si sa più osservare guardare ascoltare ebbene io ricordo la riforma Moratti che doveva fare il patto con Berlusconi che era l'ascesa la sua fase di ascesa con Berlusconi e le sue televisioni benissimo annullò le reti RAI tutte le tele-orchestre RAI vennero abolite abbiamo visto poi tutto il discorso musicale come si è creato allora io dico in Italia c'è una grandissima ricchezza di inventiva artigianalità benissimo vediamo l'artigianato dove è finito perché i sindacati cosa hanno fatto hanno azzerato hanno quasi diciamo insultato gli artigiani l'arte legata all'artigianato tutto ciò che avevamo sul territorio dalle scuole di luteria che andiamo a vedere Milano e Cremona le scuole di luteria da chi sono frequentate al di là del fatto che Cremona porta avanti la terza media per il liceo artistico però tanti ragazzi sono stranieri guardiamo poi in tutto quello che era l'altra attività connesse al discorso musicale artistico artigianale io vedo immobiliarie nell'abrianza chiusi o perché sono trasferite all'estero come anche le industrie comunque c'è tutta una moria e noi abbiamo perso quello che era la mano c'è un'Italia avevamo tutto noi potremmo vivere di rendere con l'artigianalità e la creatività l'abbiamo azzerato completamente io chiedo al movimento di farsi promotore di riprendere in mano questo che diventa anche educazione sensibilità all'ambiente il rispetto e all'arte buongiorno a tutti Daniele Cultrera da Milano vi faccio una domanda noi siamo plastic free rispondete non siamo plastic free non risponde nessuno noi siamo per l'acqua pubblica ce l'abbiamo in una stella sì o no sì anche i nostri portavoce io vedo bottiglie di plastica e acqua privata allora coerenza noi io personalmente ho attribuito dei nostri fallimenti alla comunicazione che viene fatta intorno a Luigi Di Maio perché secondo me Casalino e i vari suoi consiglieri tipo Spatafora ma chi sono? ma sono del movimento ma lo consiglieranno nel modo giusto quindi tornando all'organizzazione forse se Luigi Di Maio è sicuramente avrà bisogno di qualcuno che lo aiuti nelle sue attività visto che abbiamo tutti noi deciso che avevamo un capo politico abbiamo scelto noi su Russo bene che questo capo politico se ha bisogno di consigli i consiglieri glieli diamo noi dai territori che non siano i vari Spatafore Casalino e quant'altro e poi la comunicazione viene fatta con l'esempio e non con le parole noi siamo quello che facciamo non quello che diciamo quindi se noi è vero ci occupiamo di acqua pubblica e vogliamo l'acqua pubblica non ci dobbiamo presentare davanti alle telecamere con l'acqua privata dentro le bottiglie di plastica questo è un insegnamento non solo per loro che sono sul palco per noi tutti perché il Movimento 5 Stelle siamo noi e comunichiamo con il nostro esempio grazie scusate concludo l'intervento iniziale ma per rispetto degli attivisti che hanno fatto questo parlavamo appunto di organizzazione vi è stata una buona collaborazione tra le rappresentanze regionali e le europee invece abbiamo sentito un netto distacco da parte dei rappresentanti nazionali sia dal punto di vista di ritorno che avremmo preferito più personale e meno multimediale sia sulle loro attività svolte ma soprattutto c'è stata una minore partecipazione alle problematiche locali peggiorata dal mancato coordinamento tra i consiglieri regionali e quelli nazionali lasciandoci molte volte orfani di una voce importante da Roma di fronte a uno strapotere mediatico delle altre forze politiche è stato parlato appunto dei referenti tecnici e va benissimo che ci siano a livello di competenza di deputati o di altre persone elette ma sui referenti territoriali ci chiediamo ma quali siano le modalità di elezione se su curriculum si saranno stipendiati perché se poi per carità pur sapendo che ne avremo necessità di questi referenti territoriali ricordiamoci che se noi facciamo due referenti per 107 province potremo avere spese che arriveranno fino a 3 milioni di euro all'anno chi andrà a finanziare tutte queste cose pensiamo sia opportuno approfondire quale sia il loro ruolo di autorevolezza nei confronti sia degli attivisti che degli eletti come li pagheremo come non li nomineremo ma soprattutto a che autorità dovranno dare conto per il loro operato ricordiamoci che possiamo fare delle leggi bellissime ma senza controlli non valgono tutti pensiamo che questi referenti devono comunque essere supportati da una piattaforma informatica dove si possa coordinare e dividenziare il lavoro dei territori finalmente vogliamo che si affronti la questione trasparenza su russo introducendo almeno la visione dei dati delle votazioni splittati almeno sulle province e non avere sempre un dato nazionale ma almeno locale dove si possano avere finalmente spazi appropriati per macro aggregazioni dove si si possa avere accesso alla documentazione che magari è stata generata da anni dai lavori dei consiglieri comunali e dove ci sia un numero di protocollo di ricezione di quando si invia qualcosa perché noi inviamo su russo ma non abbiamo un numero di protocollo che è l'elemento basilare delle amministrazioni i gruppi si sono trovati ad affrontare in affanno le spese straordinarie delle campagne elettorali ci si chiede se è possibile costituire un fondo di cui si è parlato prima a cui attingere quantomeno usufruire dei servizi di grafica web di cui sono dotati gli uffici regionali e nazionali anche in questo caso nei comuni predichiamo l'ottimizzazione dei servizi per non sprecare tempo e denaro ma quello che è accaduto nella campagna dell'europea è veramente deprecabile e mancante del rispetto per gli attivisti delle comunali che senza denaro hanno contato ogni singolo volantino infine penso che non dobbiamo accelerare questa riorganizzazione dobbiamo affinare i concetti in varie assemblee per concentrare le soluzioni che siano più durature possibile grazie allora si preparino Rocco Palamara Bonavoglia Nuccio Nasca Anna Livernini e Gianni Valdivia Buongiorno a tutti cari amici io oggi sono molto contento che mi è stato offerto il diritto di parola in questa assemblea io devo ringraziare il Movimento 5 Stelle in un momento di difficoltà in cui si trova la gente è molto volubile un anno fa si osannava il nostro capo politico Di Mario a distanza di un anno dalle stelle alle stalle alcuni pensano per me era alle stelle Di Mario e deve rimanere alle stelle perché come è stato detto da alcuni più rappresentativi di me esponenti del Movimento 5 Stelle quando si vince è merito di tutti e quando si perde è anche merito di tutti questo è un principio sacrosanto della democrazia quindi io esprimo la mia solidarietà la mia stima il mio affetto alla mia amicizia a Di Maio e a tutto il gruppo dirigente del Movimento 5 Stelle ecco perché ho chiesto la parola noi nelle elezioni europee ci siamo trovati di fronte a tanti carramati organizzativi contro il Movimento 5 Stelle Dega e via di cinti noi purtroppo in questo agone in questa battaglia politica ci siamo trovati a lottare da una parte carramati e noi con la fionda perché con la fionda perché non dimentichiamo cari amici che nelle elezioni europee e nelle elezioni comunali lo strumento di voto e quindi delle clientele politiche è il voto di preferenza e noi in questa non siamo attrezzati ecco perché abbiamo perso la colpa non è nostra ma perché noi purtroppo abbiamo come organizzazione la fionda rispetto ai carri armati ecco perché io ritengo importante e grazie il Movimento 5 Stelle che per la prima volta dopo lunghi anni mi ha dato la possibilità di votare attraverso Rousseau di votare i consiglieri comunali i consiglieri regionali i deputati e via dicendo però questo è stato un grande merito la democrazia diretta però non si deve fermare qui dobbiamo andare avanti e io credo che questa riunione sia stata fatta qui dagli organizzatori perché vogliamo andare avanti perché vogliamo fare un salto di qualità nell'organizzazione cerco di concludere allora per arrivare all'organizzazione quali sono i punti chiamatelo Pinco Pallino chiamatelo Pinco Pango chiamatelo come volete referente capo politico noi dobbiamo partire dai comuni dai quartieri dalle periferie noi dobbiamo cambiare lo statuto lo statuto del nostro movimento e fare in modo che il coordinatore comunale il Pinco Pallino comunale il segretario vi dicendo sia letto direttamente dagli iscritti non attraverso un voto online ma attraverso poi per quanto riguarda invece il responsabile provinciale regionale e vi dicendo scusate concludo perché voglio dare questo messaggio perché prima non ho parlato dell'organizzazione ho parlato ho sentito il dovere di esprimere il mio dovere ma beh chiudo quindi primo punto ho coordinatore comunale eletto democraticamente attraverso il voto concreto dei discritti voto online per l'organizzatore provinciale per il capo politico provinciale e per il capo regionale queste sono le mie proposte in concreto che ho fatto per detto tutto scusate grazie sono stato un giudice buon lavoro Nuccio dopo c'è Buonavoglia Anna Levernini e Gianni Valdivia allora io sono un insegnante di scienze motorie da quattro anni in pensione la pallacanestro l'ho vissuta fin dall'età di undici anni so cosa vuol dire organizzare so cosa vuol dire educare so cosa vuol dire proporre sono contento che durante la giornata sono emerse tante proposte e questo mi ha fatto molto piacere vorrei riepilogarle negli appunti che ho fatto quindi sarò molto sintetico ripristino dei meet up erano partiti alla grande chi si iscriveva al Movimento 5 Stelle passava dai meet up doveva riconoscere tutto quello che riguardava il Movimento 5 Stelle dal patto di Firenze a tutto il resto e questo era fondamentale perché si creava un'immagine di un iscritto al Movimento 5 Stelle che rassicurava tutti coloro che lo avevano preceduto ora da giocatore di pallacanestro e da istruttore di pallacanestro io riesco a tenere un pallone misura 7 grazie al pollice e all'indice c'è una grossa differenza il pollice ha un dito fortissimo ma senza il mignolo quel pallone lì non lo potrà mai trattenere con una sola mano cosa vuol dire questo che uno vale uno certo dito 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 ma l'uno non vale l'altro perché ogni dito di una mano ha le sue particolari competenze e noi dobbiamo riconoscerle noi dobbiamo riconoscerle valorizzarle dal territorio in su ascoltare la gente ed è una vita che continua a dire ascoltare io da insegnante ho ascoltato ma allo stesso tempo ho dovuto anche far stare dentro il recinto delle regole man mano in questi ultimi anni hanno rivoluzionato tutto niente regole nelle chat si parla di più e di tanto non ci sono incontri se non occasionali e cosa si fa si bisticcia due miei studenti sono entrati nel mio gruppo perché mi hanno visto ai banchetti e dopo una diatriba di una cretina perché è una cretina questi sono scappati allora cosa vuoi cercare giovani se non organizzi in modo tale un'accoglienza e argomenti che possano intrigarli coinvolgerli è inutile piangerci addosso continuiamo a sentire dire vogliamo i giovani ma tu tu che cosa fai per primo per riuscire ad accattivare gli interessi dei giovani finora vi garantisco nulla solo chiacchiere ok censimento degli iscritti è assurdo che io di Monza mi trovi un candidato alle parlamentari e non so chi sia è giusto no non è giusto quindi il censimento è necessario colui che farà da organizer nei meetup deve essere a conoscenza di coloro che o attivisti iscritti al Movimento 5 Stelle e quindi a Rousseau ecco perché Rousseau è lontano da noi per questo motivo ci unisce ma non ci fa conoscere e chi li gestisce allora sarà bene che Rousseau cambia un attimino regole che sia trasparente che dia la possibilità al territorio di conoscere gli effettivi iscritti e allora ripristiniamo quello che è il ruolo di attivista da quello che è l'iscritto all'iscritto va bene possiamo vederlo possiamo non vederlo ma possiamo però dobbiamo sapere che esiste nel nostro territorio ok dicono ricordate ma signori miei piantiamola i primi a dire basta accordate sono quelli che le fanno avete visto in questi ultimi anni cosa è successo e allora guardiamoci bene negli occhi la trasparenza della piattaforma Rousseau deve essere fondamentale perché possa accogliere tutti ma allo stesso tempo avere le competenze la capacità di selezionarle e il canale staff portavoce ma signori miei ma mi siete resi conto è venuto fuori già adesso quanti portavoce negativi avevano l'esclusività di contattare lo staff e poi lo staff chi è costui diceva Don Abbondio ma chi cacchio è lo staff chi lo compone che natura umana hanno queste quali competenze possono avere e garantire la cosiddetta scusate base ma chi e poi il fatto di avere il collettore distanza iniziativa del territorio quindi ripristiniamo quello comunale provinciale provinciale ma diamine la vogliamo smettere di non gradire la provincia ma vi rendete conto che le scuole medio superiori sono a carico della provincia le statali e le provinciali sono a carico della provincia per quale motivo dobbiamo essere grazie noi la provincia non la vogliamo ma stiamo scherzando dobbiamo metterci i nostri consiglieri i nostri sindaci nelle riunioni delle province altrimenti non abbiamo nessun potere di poter convogliare quelle che possono essere le priorità e i finanziamenti per le scuole che sono vicino concludo concludo quindi detto ciò per favore vediamo di riconoscere innanzitutto la figura del collettore io l'ho definito collettore perché il collettore è colui che raccoglierà nel territorio le varie istanze e si farà portavoce ora i cosiddetti portavoce comunali lasciamo di operare adeguatamente ma teniamo un buon rapporto a doppio senso ci devono ascoltare e devono essere portavoce a tutti gli effetti mi congratulo con Fabrizio De Marinis perché ha espresso un concetto fondamentale comitato di competenze e questo è importantissimo il comitato di competenze è quello che rivaluterà tutte le competenze che ognuno di noi ha e le metterà a disposizione dal mignolo al pollice all'indice e questo è fondamentale se vogliamo crescere altrimenti signori miei buonanotte grazie per l'ascolto Anna dopo c'è Gianni Valdivia buongiorno sono Anna Livernini comune di Pieve Emanuele provincia di Milano Pieve Emanuele io sono dottore commercialista lavoro nell'antimafia entro nelle aziende sequestrate per mafia o criminalità organizzata quasi sempre sono cooperative entro insieme colleghi risano l'azienda mantengo la base occupazionale mando in giro il messaggio che non stavate meglio quando c'era la mafia ritengo che il movimento sia 5 stelle sia l'unico movimento partito chiamatelo come volete in grado di assumersi questa lotta di legalità perché affrontando la lotta alla mafia alla criminalità organizzata si può sanare il debito pubblico perché questa gentaglia non paga l'IVA i contributi paga 3 euro loro agli operai che non sanno niente ovviamente rispetto ai loro datori di lavoro e si manda in giro un messaggio di ristannamento soprattutto i punti di vista ricordiamoci che le mafie sono dove ci sono i soldi quindi non pensiamo alla Sicilia e alla Calabria pensiamo alla Lombardia Emilia Romagna Piemonte dove abbiamo un problema enorme ok allora quindi primo punto di vista prima nel programma ritengo che si debba mettere questo secondo problema le regionali questione le regionali sono andate maluccio però non facciamo il PD con le centocorrenti che litigano tra di loro ci rimbocchiamo le maniche troviamo i problemi le lacune e affrontiamo di nuovo una riconquista dei voti a questo punto credo che la comunicazione debba sicuramente essere migliorata e debbano essere mandati in giro dei concetti semplici perché chi va a votare non sempre è laureato a delle basi culturali medie allora io ho sentito anche nell'altra sala criticare la flat tax che è il 15% per i laboratori autonomi allora i piccoli imprenditori commercianti artigiani che sono quelli che negli ultimi venti anni si sono suicidati perché avevano Equitalia alla porta che gli pignorava la casa il capannone il mutuo eccetera per le più imprese familiari allora quando ritengo che mettersi contro la flat tax significhi innanzitutto un'ingiustizia perché il piccolo commerciante l'artigiano quando va in ferie non ha la retribuzione quando chiude il negozio ha sempre le spese quindi vuol dire perdere i voti di piccoli imprenditori che ovviamente voteranno Salvini perché Salvini è il salvatore quello che risolve i problemi concreti ok quindi concludendo anche ultimo problema poi concludo una controinformazione manca una controinformazione sotto campagna elettorale avevamo la Repubblica Corriere la Sette tutte le trasmissioni a far apparire i Cinque Stelle come degli incompetenti come quelli che danno il reddito di cittadinanza a gente che non ha voglia di lavorare fa niente se si suicida perché non trova un posto di lavoro quindi hanno giocato su un'informazione sbagliata ora il movimento avrà fatto i suoi errori penso che questi siano i tre punti su cui fare un programma serio grazie allora signori grazie a tutti questa fase di riorganizzazione gli interventi sono finiti quindi ci vedremo alle 14.30 quindi fra circa un'ora per parlare di rapporto con i territori buon pranzo ci vediamo dopo ciao 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 brava incazzosi brava meno male meno male che hai difeso il movimento hai fatto il dolce sentito guarda quello del lavoro che io lavoro nella burocrazia che quando lì avevo un sonno di bere di parlare di parlare questo è un problema quello dell'acqua se li consola la faccante di là sì vabbè sì me la sono portata da casa l'acqua ma sono questi che in lei eh sì e a mangiare a mangiare quindi dopo dopo a nizia la parte di mezzo ciao buona giornata ciao 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 Grazie. 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 I miei. Oh. Grazie. 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 Io voglio andare, i suoi bambini a casa. Io eri stato in giro tutto il giorno. Non li ho visti neanche ieri. Almeno non c'è nessuno. Almeno noi ci portiamo avanti. Grazie. Non ci sarà nessuno, tutti i rossi. Non ci sarà. E' un figlio, un figlio, un figlio. E' 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 un figlio. No. 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 Grazie. 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 La verità è che io non l'ho dichiarata, è che io ho dibattito a una cassa di Milano. E il giornalista mi ha chiesto, ma lei continui con le parole di film. Io gli ho detto, se lei il testo lo vedeva scritto era inattaccabile. E lui ha detto una cosa che è scritta è inattaccabile. Però, comunicativamente, due giorni e qualche notte, ma si sta a lei. Non è godente, sei una merda. Non vuoi il rompo. Sto dicendo che, però, due giorni... Poi, siccome noi siamo superficiali, sei crombo sul romano, però, sicuramente, noi non stiamo parlando di niente. E abbiamo ordinato di un servizio. è un senso... Immagato... … perché aveva fatto un centro sacrifiche, non è lo vado a lavorare. Abbiamo appunto di una stessa faccia che i piedi chiedono, a un silently che hanno preparato, e la lega sul pubblico, è una stessa giacola. Grazie. 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 A разделere nella Presidente. Grazie. 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 Andate, abbiamo fatto tutto per vorre Wirtschaft, 2019, anche Permanente, ora gli italiani l'ha presa in cura. Mgado è tuttavia posición of course. Grazie. Grazie. Tutti i giorni gli interventi sono surreali, secondo me è gente che sul territorio non fa niente, non sa come sono arrivati i manifesti di là e allora abbia perso le elezioni, ma che cosa c'è questo? Il territorio lo trovi giorno dopo giorno, con le associazioni, con le reti civiche, con i contagi, facciamo il gazebo e facciamo l'ordine del mercoledì. E gli esperti di rifiuti siamo noi, perché vi ha letto su internet che con Tarina va bene. Ricominciamo, dai. Ficca è arrivato il capo. Boss, ricominciamo, boss. Gregorio ha mangiato, possiamo ricominciare. Ragazzi, iniziate a sedervi, chiamate fuori che ricominciamo la seduta. La seduta spiritica. Per filmare, eh. Per filmare? Senta dentro, quello di qua. Cosa si chiama? Troppo fai. Alberto ha chiesto se può intervenire. Prende la lista. Putta dentro Schiavone, il primo, perché deve andare via. No, metti la lista. No, però ha letto non c'è. È il primo che manca, lo fai. Stiamo un attimo. Sì, aspetti a due minuti. Adesso li chiamo Forte e Mammi che sono là a chiacchierare sulla forza. Mammi sono io qua. No, c'è la tua sorella. C'è quella più importante. C'è quella più importante. C'è quella più importante. Ti dico belli che te ne senti. date una voce fuori che ricominciamo ragazzi di quelli iscritti c'è qualcuno no, di questi ok, venite, avvicinatevi intanto allora, Omar, prego buongiorno a tutti, io sono Omar Fascella e sono un attivista di Voghera allora, io quello che non ho trovato negli interventi di questa mattina è un minimo di autocritica perché? perché parlando di territorio andiamo a vedere i risultati delle elezioni amministrative e ci accorgiamo che, insomma, non sono stati buoni per cui, se non sono stati buoni vuol dire che sul territorio, evidentemente, non abbiamo fatto un buon lavoro quella che è la mia sensazione è che si pensi più che ci si preoccupi ecco, sei mesi nei sei mesi antecedenti le elezioni amministrative ci entra nel panico, no? dobbiamo presentare la lista oddio, non si trovano le persone da mettere in lista ma se non si trovano le persone da mettere in lista vuol dire che non abbiamo fatto un buon lavoro nei cinque anni precedenti vuol dire che non abbiamo più fatto quello che facevamo tanti anni fa non andiamo più nelle strade non andiamo più nelle piazze non partecipiamo più ai consigli comunali non informiamo più i cittadini di quello che vi accade non facciamo più queste cose e quindi io credo che, insomma, dobbiamo tornare un po' alle origini dobbiamo tornare un po' indietro nelle piazze, nelle strade ecco, dobbiamo un po' per, come dire non ancorarci a questa idea dobbiamo cambiare un po' atteggiamento, appunto non dire, non presentiamo la lista ma è pazienza, è lo stesso ripartiamo da zero, ecco non è quello l'importante la presentazione della lista deve essere un punto di arrivo cioè un punto di arrivo e non di partenza si può lavorare benissimo benissimo anche senza avere un portavoce in consiglio comunale questo lo dico anche ai molti che dicevano eh, ma se non abbiamo un portavoce in consiglio comunale non possiamo utilizzare il simbolo ebbè, ma che ci vieta di lavorare comunque di fare accessi agli atti di studiarci i dossier, i documenti e di portare istanze di coinvolgere i cittadini ecco, io credo che dobbiamo un po' cambiare questo approccio dobbiamo avere un approccio un po' diverso ecco rispetto a questo e dobbiamo cercare di creare appunto, quello che non riusciamo più a fare occasioni per avvicinare i cittadini quindi non so, anche con strumenti che abbiamo sempre utilizzato come possono essere petizioni rispetto a determinate problematiche rispetto a determinati temi ecco quindi torniamo un po' indietro quindi cambiamo un po' approccio non si presenta la lista pazienza si può lavorare lo stesso grazie allora mi chiamo Giovanni Ferrari e sono un attivista di caratterianza nello stesso tempo io sono un piccolo imprenditore e ho voluto tramite delle mie esperienze immedesimarmi e pensare ad un imprenditore oppure a qualsiasi altra persona di un'altra categoria cosa si aspetterebbe dal Movimento 5 Stelle cioè vederla dall'altra parte e quello che io ho notato e che suggerirei è cercare che molto spesso c'è un metodo diverso tra portavoce e gruppi locali nell'agire quindi bisognerebbe a mio parere individuare lo stesso modus operandi perché non può esistere che al vertice del movimento si dica una cosa la base o i gruppi locali ne dicono un'altra e quindi anche l'eventuale cittadino si trova poi spiazzato e non si identifica quindi bisogna proprio creare un filo diretto attraverso proprio un metodo di lavoro ben preciso da applicare sui territori noi poi come attivisti e come gruppi locali ci dovremmo proprio dividere per competenze e entrare nelle strutture entrare nelle associazioni entrare nei gruppi degli imprenditori accogliere le loro istanze ragionare però assieme sulle eventuali soluzioni e poi portarli ai nostri portavoce che a Roma nel rispetto delle idee e delle competenze porteranno avanti le istanze reali del territorio altrimenti loro saranno costretti ad ascoltare solamente delle grandi associazioni che molto spesso o chiamiamoli anche sindacati non ragionano sempre nell'interesse vero del cittadino quindi ci deve essere proprio un filo diretto tra noi e loro lavorando però con lo stesso sistema altrimenti non si va a nessuna parte a mio parere Alberto si preparino poi Luca Nascimbene Massimiliano Albericci Angelo Mostacchi Carmine De Maria e Silvia Baldina allora io sono Alberto Schiavone e sono portavoce eletto a Bucinasco ho ascoltato da stamattina molti interventi il dibattito a tratti mi è sembrato anche un po' surreale insomma si dice come risolvere il problema di cercare Sofia e invece di rispondere come fare si dice come tuteliamo quelli che la vanno a cercare Sofia secondo me molta della responsabilità non tutto ovviamente di intercettare i voti sul territorio ce l'hanno i gruppi locali bisogna che facciamo tutti un po' autocritica io vi dico quello che è successo a Bucinasco a Bucinasco noi abbiamo intercettato un consenso del 17% per un'elezione locale vi assicuro che è veramente veramente una cosa importante cosa abbiamo fatto? noi ci siamo mossi era il primo mandato ma prima di avere la lista ci siamo mossi come semplici attivisti creando partecipando alle associazioni partecipando diciamo con i comitati civici sentendo le varie categorie soprattutto creando rete di persone che ci hanno permesso di incontrare dei cittadini abbiamo creato sorveglianza di quartiere un sistema di sicurezza partecipato abbiamo cinque gruppi seicento cittadini che collaborano con noi che ci hanno conosciuto perché poi il consenso si crea vis to vis internet la rete è tutto importante i comuni che hanno poi io poi con la povera Giovanna e Silvana Carcano ho diffuso questo sistema in vari comuni i comuni che l'hanno assorbito ho visto che alle elezioni di quest'anno hanno fatto dei risultati più importanti abbiamo creato un sistema di rete per aiutare la gente a trovare lavoro che si chiama rete lavoro ha trovato 121 persone sembrano poche però bucinasco una cittadina 121 persone grazie a questa rete hanno trovato lavoro abbiamo creato un sistema di partecipazione per segnalare i problemi del decoro urbano alla fine il consenso si realizza piano piano lavorando un po' alla volta un po' alla volta noi dobbiamo farlo i nostri portavoce regionali e anche quelli nazionali sono lontani e combattono su un altro fronte il che non vuol dire che non ci devono aiutare anche io sono critico quando chiamo un regionale o un nazionale per cercare di avere una risposta ho avuto due esperienze diverse ci sono dei regionali e dei nazionali che sono sempre disponibili e a loro va la mia enorme gratitudine ci sono dei regionali e dei nazionali che non sono sempre disponibili ad aiutarci ecco su questo bisogna lavorare sulla catena di trasmissione ma sul lavoro sul territorio non si fa col gazebo col manifesto o all'ultimo momento si fa giorno per giorno lavorando tutti insieme e noi che siamo in prima linea dobbiamo cercare perché il movimento poggia sulle nostre spalle è una grossa responsabilità a me hanno deluso alcune persone nel movimento come sarà stato anche per voi però non ho mai perso la mia fiducia nel movimento perché il movimento è un'idea e le persone non sono protagonisti le idee lo sono vi ringrazio moltissimo per il tempo concesso e voglio dire che secondo me perché voglio essere per positivo la soluzione migliore sarebbe lo dico anche ai nostri portavoci qui presenti coptare per meritocrazia non per voto di cordate di amici di micamici di colleghi ce li ho pure anch'io i colleghi che mi possono votare ma per la meritocrazia di chi ha lavorato sul territorio questi consiglieri comunali creare una task force che questi insegnano ad altri i meccanismi che hanno capito io vengo dal sud dal parco sud non so ci sono comuni come Assago Pieve Emanuele che sono dei paradigmi esemplari di come si lavora sul territorio hanno coptato da noi per esempio dei sistemi come sorveglianza ai quartieri come altri sistemi sono venuti a chiederci e li hanno diffusi i consiglieri i gruppi locali di questo tipo dovrebbero fungere ad esempio e dare dei consigli perché chi non è arrivato a queste conclusioni a queste sintesi che cosa può consigliare che cosa può dire io secondo me questa è la soluzione giusta concedetemi solo un piccolo volo pindarico a rivedere le stelle ce la faremo anche questa volta guardate ce la facciamo sempre perché come ha detto uno dei nostri fondatori non si può sconfiggere chi non si arrende mai Johnny Johnny Valdivia io vado avanti ragazzi se non ci sono quelli iscritti vado avanti si preparino Giuseppe Prato scusa Giuseppe Prato Cosimo Trenta Marco Faiz Gianluca Vitali e Paola Canova Schiavone Alberto Posso? Buongiorno buongiorno a tutti sono Johnny Valdivia attivista semplice nel territorio nel parco sud del comune di Vermezzo mi ha colto di sorpresa mi stavo già preparando psicologicamente niente si parla del rapporto con il territorio quello che non abbiamo visto in questi messi purtroppo ci siamo sentiti è stato già detto dal nostro portavoce Marco Cardillo che ci siamo sentiti abbandonati ci siamo sentiti abbandonati lasciati da soli in una situazione nel quale la Lega ci ha mangiato ci ha mangiato ci ha portato via tutti i voti e addirittura sbandierando le nostre posizioni politiche si parla del rapporto del territorio ma come si fa a fare rapporto con il territorio quando ci sono purtroppo lo dico apertamente anche dei portavoci che fanno di tutto per creare scompiglio all'interno di gruppi questa cosa è vergognosa ce ne dobbiamo assumere la responsabilità voi che siete qua davanti soprattutto perché se continuiamo ad inigrare altri portavoci altri attivisti qua si crea la spaccatura signori voi avete una grande responsabilità su questa cosa voi dovete comunque assorgnare questa responsabilità signori perché noi siamo pronti a metterci la faccia nel territorio ma la dobbiamo smettere di litigare uno contro l'altro perché cosa per un tornaconto per un tornaconto per un voto signori a me a me non mi torna niente in tasca io sono qua a metterci la faccia io non sto cercando l'amicizia non voglio essere simpatico a lui né a lui né a te io guardo i temi del territorio che i problemi del mio territorio ci dobbiamo continuare avanti siamo alla fermata finale vogliamo iniziare dobbiamo iniziare a lavorare con responsabilità e questa cosa ve lo chiedo a voi portavoce non è che vi fate vedere soltanto oggi quando nell'elezione molti di voi non c'erano qua non erano presente e ripeto quella riunione fatta in quella discoteca per me è stata la vergogna più assoluta del movimento mi auguro veramente che questa riunione serva per costruire perché a me sentire e vedere delle persone che stiano ascoltando vorrei vedere il succo di questa riunione domani ma domani subito attivarsi per il territorio grazie buonasera a tutti sono Giuseppe Prato portavoce comunale Pia Emanuele vorrei iniziare l'intervento dicendo che non dobbiamo andare a casa non è il momento di mollare e creare pseudo correnti all'interno questo treno non passerà un'altra volta poiché il sistema politico e mediatico farà di tutto per ostacolarci sembra che la colpa di tutto sia un lavoro scarso per qualità e quantità da parte del Movimento 5 Stelle al governo il che non è corretto pensando ai governi che hanno preceduto questo ed esattamente darsi la zappa sui piedi visto anche la disinformazione dei media e gli alcuni giornalisti da sempre lasciatemi dire però siamo sicuri che nei territori si sia lavorato abbastanza per far crescere il movimento a mio parere non credo non voglio giudicare nessuno ma lasciatemi dire che sui territori esistono i tifosi con i loro selfie le bandiere e quelli che invece portano le stanze della cittadinanza tutta all'interno delle istituzioni sempre anche senza risorse e senza supporto tecnico con molta 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 fatica perciò perciò tutto questo inizia frequentando le associazioni gli oratori e la cittadinanza tutta portando le loro istanze all'interno del comune o di qualsiasi istituzione sia il capitale umano e sociale prima di tutto ci siamo ispirati scusate a esperienze politiche come la formazione dei meet up attorno agli aderenti e che proseguono gli incontri fisici per discutere e affrontare problematiche afferenti a un determinato territorio peccato che questa strada è stata tralasciata a mio avviso si dovrà interagire con i regionali e nazionali come avviene a Piemmanuele prima Schiavone citava al momento 5 Stelle Piemmanuele certo ci facciamo il mazzo dalla mattina alla sera ma anche grazie ai nostri regionali che ci danno una mano con fatica ci danno una mano e per questo abbiamo preso quasi il 21% però è stato non abbiamo non siamo stati dietro alla campagna elettorale nazionale che è vero c'è stata nell'ultimo mese però è un lavoro che avviene da molto prima sono quasi 7 anni 8 anni di lavoro anche perché tutti noi portavoce abbiamo un lavoro a tempo pieno ed una famiglia da seguire a volte molto molto tralasciata vi assurdo che diventa pesante ecco perché chiedo a tutti gli attivisti di dare una grande mano non solo per montare il banchetto ma anche ma anche per studiare e discutere insieme tutte quelle tutte quelle mozioni o interrogazioni da portare poi in consiglio comunale quindi è inutile trovare il capo aspiratorio perché noi per primi sappiamo che questa volta non abbiamo fatto abbastanza il motivo è semplice credere di essere arrivati è stato l'errore siamo appena appena partiti c'è tanto da fare si è lavorato su troppi temi economici ed il cittadino tutte queste tematiche non le ha capite perché è abituato a una politica vecchia di vecchio stampo quella di di avere le cose subito per torno a conto comunque avrei dei suggerimenti delle proposte imporre alla lega comunicati stampa e comunicazioni di carattere governativo congiunti sostenere leggi e decreti efficaci contro il lavoro nero criminalità insegnare un sistema di welfare sanità pubblica mettere in mano una vera riforma dell'istruzione chiudo ritornare nelle piazze e ridare energia a quelle che sono le nostre stelle specie l'ambiente dare più sostegno tecnico ai gruppi locali da parte regionale e nazionale anche con l'apertura di sedi locali e un contributo a livello tecnico lo ripeto credere di essere arrivati è stato questo l'errore nostro ci siamo assettati bisogna andare avanti continuare e non mollare grazie cosimo 30 marco fais gialluca vitali paola canova ciao a tutti sono cosimo 30 attivista di milano ma non solo di milano attivista anche salentino tutto molto bello quello di cui si sta discutendo oggi programma riorganizzazione e rapporto con i territori ma io mi chiedo prima di fare tutto questo non sarebbe opportuno fare un'analisi politica di quello che è successo perché per quanto riguarda i programmi i programmi noi dovremmo averli ben ben chiari siamo nati con un programma le 5 stelle sono un programma ci siamo dimenticati forse il significato dell'acronimo delle 5 stelle casta quali erano la connettività l'ambiente l'acqua pubblica i trasporti e lo sviluppo sostenibile le ho dette tutte esatto ora mi chiedo è successo qualcosa e qualcosa di molto grave come riusciamo a comunicare la tematica dell'ambiente con il via ai lavori della TAP parlo da attivista salentino quando quando io ho chiesto questa cosa a qualcuno una persona prima mi ha risposto se non vi va bene tenetevi il PD e questa è una persona molto importante nel Movimento 5 Stelle e non era una risposta del Movimento 5 Stelle un'altra persona addirittura mi ha detto ma cosa volete che sia in fondo si tratta di un tubicino se adesso ci sta facendo tanto male perché quel tubicino ce l'hanno messo in qualche posto evidentemente non era proprio un tubicino e di questo dobbiamo tener conto per cui se tradiamo le origini del Movimento 5 Stelle poi di cosa ci lamentiamo se gli elettori prima ma anche gli attivisti ci voltano le spalle d'altronde tutti gli attivisti salentini come possono continuare a credere nel Movimento 5 Stelle se sono stati traditi sulla tematica più importante sulla quale si sono battuti come dei leoni per anni io questo mi chiedo vogliamo fare quest'analisi prima di parlare di riorganizzazione per cui o poniamo rimedio a questi errori oppure siamo destinati come dire a a sparire esatto e questo certo non me lo auguro personalmente voglio dire dopo aver dedicato tanti anni della mia vita alle battaglie in cui credo alle battaglie del Movimento 5 Stelle e io vorrei che il Movimento 5 Stelle stesso continuasse a credere in queste battaglie grazie grazie ciao a tutti eccoci qua ciao a tutti io sono Marco Fais ex portavoce comunale di Cusano Milanino vi ruberò pochi secondi per dirvi un po' in realtà delle banalità però secondo me è importante approfittare di questa occasione per ribadirle il problema io parlo poi principalmente del nord Italia in particolare del milanese che è la zona di cui faccio parte ormai come attivista e portavoce da quasi dieci anni in totale è il fatto che abbiamo secondo me dei problemi di comunicazione molto importanti non tanto verso l'esterno ma anche tra di noi si è creato uno scollamento totale per molti versi tra i portavoce di livelli più alti e gli attivisti e i portavoce locali molto spesso il problema è anche che i portavoce locali per vari risidi o magari anche varie incomprensioni perché è quello che ho visto in questi dieci anni che il problema di base è che ci sono tante incomprensioni tra di noi perché abbiamo poca possibilità di vederci in faccia cioè ci scriviamo attraverso i social attraverso le chat il problema è che non vengono fatte da tanto tempo incontri come questo di oggi che sono fondamentali per conoscerci vederci guardarci negli occhi mentre raccontiamo la nostra visione secondo me è fondamentale ricominciare a far politica e parlare di politica nei territori come magari facevamo anni fa io mi ricordo anni fa eravamo molto inesperti nessuno di noi ricopriva cariche di livello come adesso però ragionavamo insieme ci riunivamo intorno ai tavoli ci guardavamo in faccia e parlavamo tra di noi questa cosa è andata a perdersi io penso che adesso che siamo anche cresciuti siamo diventati grandi e probabilmente sì è vero dobbiamo ritrovare i vecchi valori del momento 5 stelle ma dobbiamo anche adattarci alla realtà di oggi che siamo anche forza di governo e probabilmente magari la soluzione potrebbe essere quella di creare dei referenti portavoce territoriali presi tra gli attivisti magari tra gli ex portavoce che facciano d'accollante tra i vari territori e le varie istituzioni semplicemente non in modo decisionale ma in maniera di proprio di comunicatori cioè di portare dei messaggi di portare delle istanze portare i problemi del territorio ma l'unica cosa che propongo in questa sede è il fatto che queste persone non devono essere assolutamente dei portavoce in carica perché dei portavoce in carica possono essere delle persone migliori del mondo noi siamo anche fortunati abbiamo degli eletti di valore però nel momento in cui do una specie di doppio incarico al portavoce stesso potrebbe essere condizionato come umanamente normale da dei propri rapporti personali devono essere scelte delle persone diciamo che non hanno conflitti di interesse persone che quando se otterranno una carica del genere che ripeto non è una carica decisionale nel modo più assoluto ecco che sia chiaro questo non possano candidarsi loro stessi perché se no poi magari andrebbero a creare delle fronde di combattimento che potrebbero essere creare dei problemi ecco quindi io sinceramente vorrei porre questa attenzione e vorrei che ragionaste su questa possibilità e che non vogliate accettare dei referenti territoriali che hanno già una carica di portavoce ma cercare di responsabilizzare la base perché è dalla base che derivano le istanze importanti per portare avanti il nostro lavoro grazie allora Elena Sironi Luigi Genoni Antonio Marfi Ivano Castelnovo e Luigi Capizzi in ordine Sironi ah Paola Canova va bene va bene ci sono sì io sono qui perché volevo semplicemente riportare il discorso sui rapporti tra il territorio e quelle che sono i portavoce nazionali io vengo da Saronno e abbiamo avuto solo le elezioni europee ma purtroppo non abbiamo avuto nessun supporto cioè abbiamo fatto da noi quel poco che abbiamo potuto fare e chiedendo che qualche responsabile qualche eletto del territorio alla Camera dei Deputati o al Senato venisse a darci il supporto ma nessuno si è presentato non abbia io non sono tu sei a Milano io parlo di Saronno quindi provincia di Varese non faccio nomi ma sappiamo chi sono vero? eh quindi posso farlo? va bene il Deputato si chiama Invidia e il Senatore si chiama Paragone nomi che abbiamo trovato in tantissime località e non sono mai venuti nella nostra nella nostra zona quando io parlo di rapporti col territorio intendo proprio questo cioè a me non piacciono le figure intermedie che portano da un territorio all'alto ai vertici mi piace che i vertici possano scendere ai territori per ascoltare quelle che sono le problematiche io non pretendo che vadano sempre in tutti i paesetti e cittadini però se ci sono delle problematiche particolari devono essere presenti non ho altro da dire grazie non c'è nessuno di questi lei buonasera sono Elena Sironi sono portavoce municipio 4 a Milano sono quasi stanca già di questo tour de force sono sgonfiata nel senso mi sono molto arrabbiata all'inizio adesso sono un po' più così razionale devo concordare con quanto detto da altri in questi interventi di oggi poveriggio quello che ho percepito io è che c'è stata una fortissima energia che partiva dal basso e convergeva per mandare i nostri rappresentanti nelle istituzioni abbiamo cominciato con il referendum siamo arrivati siamo arrivati alle nazionali ci siamo arrivati quello che è già stato detto è che non siamo arrivati è da qua che l'azione deve cominciare perché una volta che siamo nella stanza dei bottoni questi bottoni dobbiamo saperli usare e secondo me questo non è stato fatto nei confronti del territorio nel senso che una volta che per esempio io sono in un municipio a Milano che è gestito che è governato dalla Lega che è in opposizione al PD al governo io sono all'opposizione all'interno dell'opposizione siamo in due su 31 non contiamo niente i nostri comunali in comune sono tre su non so quanti non contano niente abbiamo delle tematiche importantissime su Milano che è la A la stella della A ambiente che Milano non è assolutamente considerata dal governo noi non abbiamo i mezzi per opporci a quello che sta succedendo con il consumo di suolo a Milano ma abbiamo niente poco di meno che uno o due ministri che potrebbero fare la differenza ma prima che io portavoce di municipio che ho la sensibilità di percepire le problematiche che dovrebbero essere sollevate prima che io riesca a mettermi in contatto col ministro probabilmente avranno già cementificato quelle poche aree libere che a Milano sono rimaste e questa è una cosa gravissima io capisco che al governo probabilmente ci sono molto più portavoce che arrivino da sud rispetto a quelli che arrivano dal nord ma l'Italia è una ragazzi cioè qua a Milano i nazionali si devono impegnare io devo riconoscere che tra i presenti Daniele Pesco e Nicola Di Marco sono dei portavoce con i quali sono riuscita ad interagire ma non è che sono riuscita ad interagire perché qualcuno perché ho un canale a cui rivolgermi perché per pura coincidenza ci siamo trovati e abbiamo avuto un feeling vuoi perché con Pesco perché siamo praticamente vicini di casa e con Di Marco non so perché perché è estremamente disponibile ma per il resto non c'è un modo per noi portavoci minori che peraltro abbiamo il polso della situazione sul territorio di collaborare con i nazionali manca la strategia totalmente una volta che sei su devi tornare giù noi vi abbiamo spinti sopra adesso voi dovete restituire alla base quello che la base vi ha regalato se noi non riusciamo a creare questa connessione è inutile che stiamo al governo perché come si fa a salvare il territorio senza la collaborazione della stanza dei bottoni grazie salve a tutti sono Luigi Genoni consigliere comunale di Bustarsizio colgo l'occasione sono arrivato poco prima della pausa di pranzo quindi non ho sentito gli interventi prima però su questi interventi che ho sentito adesso concordo con le persone che sono passate e hanno fatto le dichiarazioni noi quello che in qualche modo ci accorgiamo che società di Busto che ci hanno votato quando ero candidato sindaco circa nel 2016 ci hanno votato 8.000 persone 8.000 persone praticamente siamo come gruppo di attivisti siamo in 5 questa è la situazione 5 attivisti attivisti non iscritti non simpatizzanti perché è di video tra iscritti simpatizzanti chi vuole cambiare il mondo stando su una tastiera e chi invece lavora e quindi io chiamo attivisti chi lavora chi giustamente guarda i documenti le analizza vede quali sono le problematiche li si porta ai consiglieri si vede il bilancio delle partecipate e quindi quello secondo me è l'attivista quindi secondo me va fatto a cominciare a fare una distinzione distinzione e mi ricordo nel 2016 quando ho detto alle regionali ho fatto una graticola in un circolo a Gallarate dove si chiedevano quali erano la prima domanda era quali sono le prime 5 stelle le 5 diciamo stelle del programma e secondo me le persone devono essere un po' preparate perché io siamo ci hanno votato in 8 mila oltre 8 mila cittadini siamo 5 attivisti quindi è scandaloso più di non uno su mille e allo stesso tempo oltre a questo ci troviamo in una situazione che quando poi cerchi di coinvolgere le persone le associazioni che noi cerchiamo anche di coinvolgere compatibilmente i tempi non vogliono ad esempio in questa campagna elettorale abbiamo detto organizziamo che le associazioni fanno uno degli eventi perché non si vogliono mettere vicino i partiti non vogliono essere etichettati quindi non vogliono un'associazione perché l'amministrazione dà il patrocinio perché finanzia e quindi non hanno desiderio di mettersi anche di aiutarli perché il loro aiuto è un aspetto economico che noi non possiamo dare vorremmo dare un supporto all'eggiano di normativa quindi in questo discorso qua ci troviamo è una situazione che le associazioni non gli interessano il nostro ascolto solo alcuni marginalmente ma la maggior parte sono quei 5-10 mila euro che elargiscono ogni tanto il comune e compresenta che il nostro comune ha vinto nel 2016 col 50,3% quindi non è neanche andato a ballottaggio e abbiamo preso all'11 qualcosa quindi questo è un po' il problema quindi noi dobbiamo cercare di premiare gli attivisti discriminare i simpatizzanti o quelli che dicono io programmi seguono i parlamentari e quindi vorrebbero dire incidiamo andiamo su Rosso dopo ognuno porta avanti i suoi argomenti con quello però sui territori secondo me viene a mancare una forza allo stesso tempo è vero e qui mi metto anche nei panni dei parlamentari che è difficile quando fai l'opposizione è più facile andare sui territori perché tanto fai l'opposizione le leggi sono fanno gli altri io stesso ma noi il nostro gruppo lo stesso mi rendo conto che in questo quale non abbiamo fatto un banchetto non si è riuscita a fare un banchetto perché ti mettono l'ufficio di presidenza perché c'è la partecipata c'è la mensa dei poveri vengono in una zona dove c'è Caglianiello dove sono stati questi arresti siamo quindi dobbiamo leggere i documenti 700 scusa scusate 700 pagine per capire quindi l'ordinanza cautelare tutti in questa situazione è tutto tempo tolto che non riesci più a fare quella partecipazione quel coinvolgimento dei cittadini quindi ti rendi conto che è sempre più difficile quindi stare all'opposizione è un conto e in qualche modo governare è un altro quindi ti toglie già il tempo la disponibilità di poterti impegnare sui cittadini quindi secondo me la cosa che mi permetto di chiedere è perché Russo non dà i nominativi scritti lo dico no faccio una domanda perché non voglio dire che vorremmo se l'occasione di chiedere perché Russo scusate perché Russo non dà noi ci troviamo scusate ci troviamo a tutte le elezioni delle persone che sono di busto iscritte alle europee alle nazionali a tutto ho premesso ho premesso che non lo sapevo va bene volevo ok va bene grazie salve a tutti scusate io ero iscritto dall'altra sala per cui non mi vedete sono Andrea Palladino e sono a Bergamo partecipo a due gruppi uno economia oltre che all'assemblea plenaria della provincia di Bergamo e al meet up che fa l'assemblea plenaria e volevo volevo sottolineare una cosa ecco io partirei brevissimamente proprio dall'uno vale uno e dal fatto che Beppe Grillo ci disse al momento fondativo del movimento io non voglio il tuo voto voglio la tua attività voglio che tu sia un cittadino attivo voglio che tu ti impegni per il bene comune sostanzialmente questo era il concetto e quella fu un messaggio dirompente assolutamente unico al quale molti di noi hanno risposto con grande fervore con grande attivismo ora io ho l'esperienza di un di un meet up del sud da cui vengo che andava bene ma non voglio fare la differenza nord sud purtroppo qui a Bergamo lì dove stavo in provincia di Caserta andava benissimo abbiamo fatto abbiamo diciamo sollecitato l'utilizzo di terreni comunali ad orti urbani abbiamo fatto progetti per l'accessibilità dei disabili ai ai negozi diciamo agli spazi pubblici abbiamo fatto tante cose sono venuto qui a Bergamo e non riesco pur avendo proposto prestantemente un mio personale progetto un mio personale pur avendo proposto prestantemente un mio personale progetto di autonomia regionale alternativo alla Lega perché noi siamo alle corde chiedo scusa se lo dico ma siamo alle corde perché stiamo facendo solo istruzione alla Lega che ci sta incalzando su questa cosa io ho un progetto che potrebbe dare scacco a questo tipo di problema verso la Lega e potrebbe rilanciarci non sono riuscito pur avendolo messo sul sul calendario dell'assemblea penaria da venti giorni dove c'è un ordine del giorno da definire a essere calendarizzato ora io se mi concedete un minuto vi do solo un messaggio su quello che è il mio il mio progetto perché non ho potuto discuterlo nel allora so che forse non è l'assemblea proprio adatta questa però non vi tolgo veramente niente io dico questo il concetto essenziale è questo il concetto essenziale è questo noi abbiamo si parla sempre di redistribuzione livelli minimi essenziali dobbiamo garantire al sud diciamo così livelli minimi di sanità di scuola eccetera benissimo ma questa è la fase 2 di un'analisi di federalismo fiscale la fase 1 io sono un economista è un corretto è una corretta imputazione di quella che è la ricchezza sul territorio noi abbiamo un'imputazione della ricchezza sul territorio che fa riferimento alle sedi legali alle residenze dei soggetti siano persone fisiche siano persone società persone giuridiche non è questo non è corretto se vogliamo territorializzare il gettito fiscale dobbiamo considerare il luogo dove avviene lo scambio allora a quel punto non sarà tanto più il fatto che al nord c'è un PIL superiore chissà quanto al sud perché le sedi il PIL si calcola sulle sedi legali delle società e non anche sui punti vendita sulle filiali sulle varie sedi succursali che sono anche al sud questa gente viene a vendere anche al sud e poi voi considerate questo che non troverete mai un grande industriale che dice io adotto il progetto della Lega perché sa bene che i suoi affari sono anche al sud quindi io dico come si può fare concludo veramente si può fare in questo modo c'è la fatturazione elettronica benissimo creiamo un record nazionale in cui si vede dove si fanno gli scambi e si va a ripartire quello che non va allo Stato che necessariamente ha bisogno di risorse finanziarie si va a ripartire su base del punto dove si fa il consumo dei beni sul punto dove c'è la produzione dei servizi l'uso di diciamo di determinati servizi al consumatore finale e finisco qui perché io penso che questa sia un'idea completamente nuova e che vorrei approfondire nelle sedi opportune ma purtroppo non ne ho avuto la possibilità se qualcuno ha la sensibilità di trasmettere al meet up del Bergamo e qui ho anche un consigliere regionale che potrebbe farlo io sarò ben lieto di illustrare o le slide questo mio progetto e poi ultimo ma veramente concludo concludo una cosa soltanto veramente su un concetto brevissimo spero che abbia adessato un minimo di interesse io sono per assolutamente la competenza il concetto di competenza competenza ha due aspetti secondo me una competenza sul piano etico noi tutti siamo competenti a partecipare al bene comune tutti ma accanto a questa c'è anche una competenza tecnica che non va svilita tu non puoi dire a un certo punto siccome non sei competente tecnicamente in una cosa quello si vuole mettere in vista quello vuole semplicemente essere addirittura è stato detto a rivista qualcuno persona competentissima non parlo di me e queste persone si allontanano non possiamo perdere le competenze cari amici non le possiamo perdere questo è il discorso grazie ci vogliono tavoli tecnici grazie scusate se ho sforato e spero di poterne riparlare grazie allora Alberto Alcide Brunelli Cruciano Nuccio Nasca buongiorno sono Ivano Castelnuovo di Saronno attivista come erano a busto i cinque noi siamo sette e otto che però partecipano veramente un po' meno anche e poi adesso mi hanno appena buttato fuori dal meetup quindi allora volevo dire una cosa per quanto riguarda la riorganizzazione secondo me la riorganizzazione deve essere fatta in maniera da dare supporto ai meetup locali non il contrario cioè non deve essere una cosa che deve servire per portare alcuni temi che tutti i meetup devono promuovere o controllare che cosa viene fatto deve proprio essere il contrario e il primo la prima tipologia che mi pare che abbiano rilevato tutti è una competenza tecnica cioè non all'interno di tutti i comuni siamo capaci di leggere il bilancio di andare a vedere alcune cose tecniche per esempio di edilizia o cose di questo genere quindi un primo tipo di supporto dovrebbe essere quello quello politico invece dovrebbe essere con quei due o tre persone che dovrebbero essere elette adesso non si sa come dalla base da sopra dall'alto essere in mezzo fra il portavoce locale e poter portare facilmente verso l'alto alcune tematiche altre cose molto pratiche la formazione delle liste un delirio mi dicono quest'anno quelli che hanno dovuto farlo quindi Russo doveva migliorare non è stato proprio così hanno dovuto tutti rifare i documenti per esempio quelli tra l'altro pagati questa qui sarebbe una cosa che bisognerebbe mettere a posto nel senso che quando si va in in tribunale a farsi fare il documento per poter partecipare alle comunali regionali eccetera ci sono alcuni tribunali che non fanno pagare nulla 4-5 euro altri tribunali fanno pagare 25-30 euro di 40 addirittura quindi un supporto su queste tipologie non si può arrivare all'ultimo giorno ad avere le certificazioni quindi secondo me quello che le basi richiedono come riorganizzazione del movimento questo è una piccola analisi sulle ultime europee ci sono mancati 6 milioni di voti tutte le cose possibili secondo me quello che è mancato veramente è stato il supporto di Beppe Grillo questa volta non ci ha dato un supporto come le altre volte nelle elezioni di un livello di un certo livello quindi chi doveva prenderne il posto diciamo così aveva tantissimo da fare come governo come a Roma non ha potuto girare come qualcun altro di qualche altro partito fa in tutte le sedi locali a portare invece il supporto che sarebbe stato opportuno questo in generale al Cide Brunelli da attivista Vigevano vicino va bene va bene così ah perché c'hai la tua va bene il nostro movimento ha attualmente due problemi uno politico e uno organizzativo mi soffermo prima sul problema politico per poi passare al tema organizzativo perché l'elettorato ha bucciato duramente i 5 stelle di governo mentre aveva promosso i 5 stelle d'opposizione perché fare un'alleanza con chi fino il giorno prima del 4 marzo avevi combattuto è stato un errore ed ora stiamo proseguendo il problema è restare al governo con chi ti ha succhiato il sangue ricavando un'energia e vigore lasciandoti esamine solo la Lega in questo momento ha tutto l'interesse per tenerti in vita diventare ancora più forte perché dobbiamo condannarci a una sopravvivenza di sottomissione proseguire in questa alleanza significa ingoiare altri rospi l'autonomia delle regioni del nord che di fatti spaccano l'Italia in due abbandonando il sud Italia proprio dove raccogliamo più consensi vuol dire derubricare il no al TAV Torino-Lione a progetto da ridiscutere dopo scusa scusami quando parli te non ti rompo le palle io sono fuori tema però non puoi intervenire su tutti grazie oltretutto lasciamo spazio e ruolo alle opposizioni lasciando il PD in una comoda rendita di posizioni non sarebbe più logico posizionarci su una questione identitaria come il TAV con un forte deciso no su quest'opera lasciando ai nostri alleati la responsabilità di una prevedibile crisi di governo fare l'iscendiletto di Salvini non paga perché gli elettori che approvano questa linea di sottomissione scelgono poi direttamente l'originale la nostra crisi non è questione di leadership noi dobbiamo riandare fuori nei territori da quelli che vi hanno eletto da quelli che ci hanno lasciato e ricreare un nuovo rapporto di fiducia per ricostruire il futuro siamo in presenza di un elettorato un divago impaziente insofferente al limite dell'isteria per questo dobbiamo ricostruire un rapporto con le persone riorganizzarci e darci una gestione più collegiale un semplice dato dovrebbe farci riflettere in questa tornata elettorale solo il 7% dei comuni che dovevano rieleggere le amministrazioni locali erano presenti liste del Movimento 5 Stelle oggi siamo qui per dare voce agli attivisti per dare suggerimenti a chi dovrà riassumere gli interventi e prendere decisioni che mi auguro non siano prese senza la presenza al tavolo anche di una rappresentanza degli attivisti democrazia interna cercasi questo dovrebbe essere il titolo delle pagine che tutti insieme dobbiamo scrivere ogni tanto sento parlare di un ipotetico staff che guida come guida della base di noi attivisti io ormai in tanti anni di attivismo non ho mai incontrato una persona che ne facesse parte nessun indirizzo e mail per interloquire un ectoplasma per tutti i meetup operano senza nessun collegamento non hanno nessun riferimento per far ascoltare la loro voce le loro idee le necessità sono forme di associazionismo politico lasciate a se stesse senza regole non riconosciute se non in presenza ad elezioni i meetup stessi vanno codificati riformati controllati con regole per fermare la proliferazione anche in piccole realtà comunali molte volte in contrasto fra loro il 4 maggio ci siamo già confrontati in questo stesso luogo e molti di noi avevano già espresso l'importanza di una profonda riorganizzazione con tre relazioni finali partiamo da quei documenti c'è già indicato una strada da seguire ma non aspettiamo tempi biblici per cambiare e non dimenticate di chiamare una rappresentanza di attivisti al tavolo delle decisioni finali grazie si preparino Antonio Cantore Micaela Piva e Buffagni Stefano allora chiedo scusa ad Alcide era era bellissima la tua premessa però sinceramente si allontanava dal tempo dedicabile al territorio sì no questi sono solo 20 secondi allora rapporto col territorio partiamo dai banchetti è assurdo fare i banchetti in piazza in centro la nostra diciamo le nostre risorse le troviamo nelle periferie nei mercati dove gli anziani vanno a spendere quei pochi soldi che hanno e vogliono qualcuno che gli dia sicurezza riferimenti e questo purtroppo non accade non abbiamo il coraggio di organizzare i banchetti in periferia a Monza l'abbiamo fatto in centro ma in centro è tutta gente che viene da fuori fa la sua vasca si ferma perché ha paura di farsi vedere magari poi ci vota però guai a fermarsi nei banchetti e quindi questo è un fallimento partiamo poi un attimo a me è piaciuto l'intervento di Alberto Schiavone Schiavone io ho sempre sostenuto ho sempre sostenuto in quegli interventi che abbiamo fatto in Monza e Brianza noi dobbiamo essere dei vasi comunicanti la tua bellissima esperienza Buccinasco sarebbe oro per tutti gli altri comuni perché non spercherebbero altre energie per potersi per poter raggiungere gli obiettivi che tu hai fatto per cui per cui dico organizziamo chiamiamoli raduni chiamiamoli assemblee chiamiamoli che ti vuole mensili provinciali in modo tale che esperienze nuove emergano e possano essere date a chi agli inizi a chi sta cercando strategie e noi gliele possiamo dare nello stesso tempo ricevere altro non siamo tuttologi ma di esperti ne abbiamo e li dobbiamo valorizzare quindi il termine meritocrazia si ricollega anche con quello che ha detto appunto Fabrizio De Marini prima comitato di competenze osmotiche osmotiche fondamentale sono quelle competenze fatte così trovate per strada perché attivisti 5 stelle valorizzano il loro contributo non hanno bisogno di essere pagati la loro attribuzione cos'è? è il fatto che viene utilizzato la gente ne fa uso soprattutto il movimento 5 stelle che poi non fa nient'altro che distribuire nel territorio e quindi arricchire quella credibilità signori miei noi facciamo solo passerella sono pochi gli attivisti dei 5 stelle che vanno in mezzo alla gente a farsi conoscere a chiedere io per esempio avevo proposto un po' di tempo fa questionari a risposte chiuse in modo tale che la gente non perde tempo però mette solo le crocette e da lì noi possiamo avere il posto della situazione e da lì cominciare a fare proposte in consiglio comunale tutte queste cose sono fondamentali come vedete sono propositivo io non sto a dire quello ha sbagliato o quello ha fatto giusto sto raccogliendo solo quello che è fatto giusto e in questo caso concludo dicendo che l'entrata nei comitati ci ho provato sono già tutti politicizzati il fatto che voi entrate nei comitati trovate quelli della Lega trovate quelli del PD che hanno la loro tessera e fanno fatica a farvi entrare quindi ritorno al mio slogan prima facciamo vedere ciò che siamo capaci di fare nel nostro territorio allora dopo possiamo dare suggerimenti perché solo con l'esempio noi riusciamo a coinvolgere la gente non certamente dire loro cosa devono fare grazie allora Michela Piva portavoce di Arese da un anno per quanto riguarda il rapporto con i territori quest'anno io ho potuto appurare come le organizzazioni degli altri partiti portano in consiglio comunale i loro argomenti mi è capitato un ordine del giorno da discutere sul decreto sicurezza la Lega l'ha esposto in maniera panciofila diciamo e gli unici che hanno argomentato siamo stati noi ho avuto modo io ho sempre collaborato con tutti i nostri esponenti perché sono accessibili a tutti e mi sono fatta inviare un commento alla legge e mi sono astenuta motivando perché era una legge da migliorare era appena fatta ho motivato tutte le questioni sul tavolo che rispocchiavano il loro diciamo la loro linea quindi raccontarci è importante e così come lo fanno gli altri dobbiamo imparare a farlo anche noi anche noi potremmo portare degli ordini del giorno per spiegare il reddito di cittadinanza lo spazzacorrotti e intercalarlo nelle nostre realtà comunali io non sarei in grado di fare questo lavoro da sola va coordinato con voi quindi questo è uno dei temi che si può diciamo sviluppare nel rapporto con i territori però poi i territori devono lavorare noi culturalmente nasciamo da un blog però ancora prima nasce tutto da un teatro Beppe Grillo arriva dal teatro è un comico che in un momento di regime di censura ha detto la verità e dal suo pubblico ha colto delle reazioni quindi il confronto guardarsi con gli occhi partecipare in qualunque modo in qualunque occasione perché poi casualmente le persone arrivano e non è vero che le associazioni sono sì è vero sono cooptate dal PD perché il PD non fa politica fa associazionismo e questa non è politica noi dobbiamo portare la gente e le associazioni a fare politica e entrare nelle associazioni a un mese dalle nostre elezioni una persona di un'associazione mi ha contattata chiedendomi di scrivermi perché lei aveva aperto questa associazione con l'obiettivo di coinvolgere più persone possibili si chiamava cittadini di Europa e a poco a poco ha visto arrivare persone del PD e questo non è gradito idem nel mondo cattolico nel mondo dell'oratorio nessuno partecipa a realtà a partiti che per essere cannibalizzato quindi noi dobbiamo agire al contrario portare loro a fare politica con noi se vogliono quando lo ritengono opportuno quindi insistere è un lavoro lungo l'ha detto anche Di Maio niente nasce dal nulla noi partiamo più tardi degli altri quindi è un lavoro da costruire ma dobbiamo sapere come grazie ciao a tutti buongiorno io innanzitutto voglio ringraziarvi di essere qua per un motivo semplice perché quando si è ragionato per organizzare questo tipo di incontro qualcuno ha detto che non serviva qualcuno ha detto di aspettare invece credo che la vostra presenza anche se forse avevamo sovradimensionato le aspettative sull'attesa è una dimostrazione che un momento di confronto serve soprattutto in momenti difficili e credo che sia utile il momento difficile è evidente non si sente? ok adesso si sente il momento difficile credo sia evidente e parte probabilmente da lontano e parte da un sogno che avevamo noi siamo negli ultimi anni abbiamo lavorato perché l'obiettivo era arrivare al governo del paese una volta raggiunto l'obiettivo però abbiamo perso secondo me un po' lo spirito rivoluzionario un po' quella prospettiva di cambiamento che avevamo annunciato perché oggi quello che io vedo che manca è un disegno di paese ci manca una visione di paese una visione del futuro è facile dire ambiente è facile dire trasporto pubblico locale è bellissimo da dire in aspetto comunicativo superficiale ma poi quando ti trovi a governare un paese devi declinare queste complessità nel mondo reale consapevole delle difficoltà che ci sono qualcuno è intervenuto prima parlando del TAP io me la prendo con noi stessi avevamo fatto una campagna non avendo studiato adeguatamente la complessità del problema la colpa è nostra abbiamo abbiamo oggettivamente preso con superficialità troppe cose non studiamo non siamo competenti abbastanza questa è colpa nostra essere competente non vuol dire essere Mario Monti visto che i fatti hanno dimostrato che non lo è stato abbastanza ma vuol dire sapere di cosa si parla perché ciascuno di voi quando va a confrontarsi al gazebo col cittadino che chiede del tal problema della signora che ha un problema nella via nel senso unico perché chiaramente nel locale si parla di quello tu fai la differenza quando sai di cosa si parla quando sai cosa si può fare gli dai una risposta la gente spesso ha bisogno di qualcuno che l'ascolta qualcuno che gli dà un suggerimento qualcuno che lo aiuta a sapere dove andare al contempo quindi però vorrei anche dire che sono abbastanza demotivato per quello che ho visto perché quando in un comune arrestano il sindaco della Lega arrestano il vice sindaco arrestano tutti e poi questi un 40% a me cadano le palle ma anche qui ma anche qui ma anche qui forse è colpa nostra forse è colpa nostra perché noi siamo nati come una rivoluzione culturale e richiede tempo richiede tempo ma richiede secondo me anche un minimo e non dico tanto di etica un minimo abbiamo fatto la morale per anni a tanti e poi spesso abbiamo fatto peggio degli altri a me questo atteggiamento fa schifo a me fa schifo che quando una cazzata la facciamo noi ha un peso inferiore rispetto a quello che lo facevano gli altri questo non è giusto gioviamo del fatto che il PD se ci fa opposizione non è credibile e quindi passa tutto in secondo piano ma dobbiamo un minimo riscoprire questi valori consapevole consapevole che siamo umani consapevole che abbiamo dovuto rivedere delle posizioni sull'esasperazione adesso chiudo sul garantismo io sono sempre stato ma sull'estremo giustizialismo sul nulla allora dobbiamo insieme disegnare un paese diverso la tutela dell'ambiente non la si fa con l'oggi o il domani chiudendo le cose non è che l'ambiente vuol dire domani mattina chiudiamo tutto l'acqua pubblica non vuol dire domani mattina distruggere tutto vuol dire un percorso per raddrizzare quel sistema che oggi è solamente economico e per noi deve essere di tutela dell'interesse dei cittadini e sociale il reddito di cittadinanza l'abbiamo pompato alle stele avevamo raccontato che c'erano le coperture su tutto evidentemente le coperture non c'erano se abbiamo dovuto fare del debito per riuscire a farlo allora quello che dico io è non raccontiamoci le stronzate la gente ha creduto in noi non perché avevamo promesso il reddito di cittadinanza andate a chiedere i cittadini che l'anno scorso ci hanno votato io sono stato eletto perché nel nostro territorio abbiamo preso il 24% adesso abbiamo preso l'11% la gente in strada me l'aveva già detto prima delle elezioni la gente in strada mi diceva votiamo Salvini pensate che male votiamo Salvini perché sembra credibile perché ci dà la percezione di tranquillità perché combatte il nemico noi il nemico ce l'avevamo dal PD oggi non ce l'abbiamo più bene oggi dobbiamo disegnare una società migliore dobbiamo disegnare un paese diverso non è possibile che gli ambientalisti in tutta Europa vanno alla grande e noi che siamo il partito degli ambientalisti abbiamo perso questa nostra natura che non vuol dire l'esasperazione che non vuol dire l'esasperazione vuol dire un disegno di paese diverso lo dobbiamo fare i nostri figli abbiamo perso l'entusiasmo abbiamo perso la voglia di cambiare abbiamo perso la voglia di lottare non è coi banchetti che si risolve le cose non è col banchetto che si prendono i voti che si prende quel 10% che manca ma oggettivamente serve tornare a essere una comunità l'abbiamo perso non c'era entusiasmo in campagna elettorale non ce ne deve fregare nulla se non c'è il portavoce parlamentare nel banchetto del nostro territorio noi eravamo un'altra cosa abbiamo perso questo lo abbiamo perso allora credo si serve serve per rinfrancare le nostre truppe non per andare a prendere voti serve per far sentire agli attivisti sul territorio che siamo vicini colpa nostra io però ho fatto 5 anni in regione ero sempre in giro oggi oggettivamente sono un po' nella merda come impegni chiedo scusa cercherò di essere ancora più presente vi mando vi mando però mia moglie poi a casa chiudo però su una cosa adesso si sta discutendo di riorganizzazione di territorialità scindiamo i due aspetti un conto è la segreteria politica un conto sono i territori io non ho il disegno migliore non ho la soluzione la cosa sulla quale voglio farvi riflettere però è molto più complicata di quello che sembra tutti siamo contrari a un voto come ratifica su Rousseau io per primo cioè non esiste che qualcuno proponga Mario Rossi come segretario del territorio e tutti devono dire sì o no questo lo condivido però 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 da parte nostra dobbiamo proporre come territorio una proposta seria e sostenibile cioè dobbiamo capire come vogliamo che si presentino le persone vogliamo che chi si candida deve rappresentare cento persone deve aver raccolto il sostegno di cento persone ragioniamo io non ho la soluzione però se vogliamo fare la differenza e non lamentarci dopo dobbiamo proporre io sentivo qualcuno che prima mi fermava e diceva Stefano la Lombardia ha 10 milioni di abitanti noi siamo in questa provincia che ha centomila persone qua duecentomila là abbiamo bisogno di tre rappresentanti io ho detto non ho la soluzione ragioniamo a una proposta che tenga conto delle esigenze del nostro territorio ma all'interno di un quadro nazionale perché signori non è colpa mia se la Lombardia ha 10 milioni di abitanti e il Molise ne ha 400 mila sono una regione e una regione allora o siamo in grado noi come Lombardi di fare una proposta che consideri anche tenga conto delle esigenze degli altri territori oppure non potremo sempre solo lamentarci perché la gente ha maggior ragione in questo territorio che è il meno messo male di tutta Italia non che dove si sta meglio dove si sta tutto bene ma dove stiamo meno peggio degli altri la gente qui vuole i fatti e non vogliono che domani mattina gli realizzi tutto quello che hai promesso vogliono vedere un percorso siamo Lombardi siamo Lombardi e la gente vuole questo non vuole le stronzate la gente stufa vuole stare tranquilla vuole avere una prospettiva vuole avere un futuro migliore e solo noi possiamo garantirglielo non di certo la Lega che vive di osmosi nei nostri confronti gli abbiamo pulito la faccia l'ho detto ovunque ma la colpa è nostra che abbiamo perso la nostra identità non è colpa loro loro sono stati l'ho detto anche a Salvini dei geni dei geni siamo stati dei polli noi però credo anche che quando si prende una mazzata è il miglior momento per imparare a crescere perché quelli veramente non sono meglio di noi grazie ragazzi due comunicazioni di servizio uno è che ho una borsa da donna che qualcuno l'ha persa ok trovata la seconda è che ho una lista di persone che si sono iscritte all'altra sala e l'elenco Bonavoglia Maccarrone Bassani Ramalli Di Giacomo Negroni Cornale Lucchese Indelicato De Franceschi Scanferlato Famularo Gabriele Catucci Fabrizio Gabriele Lettieri Benvisto Mazzone Palvarini Mondini Gottardo Maele Comotti Fasani De Francesco Pinelli Mosca Trenta Beve l'acqua Biscardi Vianello Gaeta Francesco Franco Tutti questi qua vadano alla sala a fianco Invece io attendo Carmine Formisano Antonio Zantonini Enrico Cazzaniga Luigi Rovina e Lorenzo Bartolozzi C'è qualcuno di questi? Venga venga venite venite avvicinatevi Lo dico prima chi vede il proprio nome proiettato venga qua contro il muro un attimino chi è? non c'è nessuno di questi? eh venga venga allora aspetta no di là si parla di altro chi si è scritto ad altro vada di là allora è arrivato qui una richiesta di poter votare l'istituzione di assemblee periodiche provinciali io non la posso accettare ma non perché lo decido io perché qua c'è arrivata una richiesta firmata da 5, 7, 8 persone ma non è chiara questa è la sede questa sede è una sede di ascolto non votiamo niente oggi ma per l'amor di Dio io non volevo togliervi guardi se vuole parlare si scrive e parla tre minuti come tutti gli altri no semplicemente se vuole parlare mi dà il nome io la chiamo e parla tre minuti come tutti gli altri buongiorno a tutti io sono Lorenzo Bartolozzi prevento che non sono un attivista ho un'impresa qui con sede a Milano porto la mia esperienza che forse potrebbe essere utile è un problema di comunicazione ho sentito che ne hanno già parlato altre persone io per via del mio lavoro ho contattato l'undicesima commissione di Camera e Senato tra Camera e Senato sono circa una trentina di persone mi hanno risposto in due credo che questo sia un problema perché se si vuole parlare di governo del cambiamento il cambiamento sta anche nella percezione che ha il cittadino di questo cambiamento se un cittadino grazie se un cittadino scrive alle istituzioni le istituzioni bisogna che rispondano io una non risposta me lo aspetto da un politico che intraprende una carriera politica io me la posso anche aspettare una non risposta da una persona di questo tipo ma da un esponente del Movimento 5 Stelle che intraprende una carriera politica non per far carriera politica ma per far progredire l'Italia e gli italiani io una risposta la pretendo sentendo grazie sentendo anche altre persone qui ho capito che insomma questo è un problema abbastanza condiviso molte persone hanno contattato anche lo staff di Russo non hanno avuto risposte e questo è un problema la comunicazione è un problema e noi ce l'abbiamo davanti tutti i giorni perché noi abbiamo davanti agli occhi una persona che è Salvini che ha portato il suo partito dal 17 al 34% non in una legislatura in un anno questo vuol dire due cose o siamo in presenza del massimo statista che si sia mai visto nella storia italiana permettetemi di dubitare oppure siamo di fronte a una persona che ha dietro gente con i controattributi nella comunicazione esperti che controllano Facebook 24 ore su 24 psicologi specializzati in psicologia di massa tutta una serie di persone queste sono le persone che vanno combattute non Matteo Salvini non Zingaretti Zingaretti sta sopra cioè Zingaretti sta sopra gente il problema è proprio questo dopodiché eh Zingaretti sta sopra anche ho contattato anche amministrazioni comuni amministrati dal Movimento 5 Stelle dai più importanti Roma Torino Livorno fino a quelli con meno abitanti anche lì la percentuale di risposte è stata bassissima ho contattato poi gli attivisti quindi gestori di pagine Facebook di comuni italiani tutti i gruppi meet up io non so chi ha mai fatto un lavoro del genere tutti i gruppi meet up di tutte le città italiane con più di 25 mila persone pochissime pochissime risposte quindi ora visto che qui non è soltanto il luogo dove portare problemi ma anche dove portare soluzioni secondo me la soluzione è questa bisogna prendere dei professionisti nella comunicazione si pagano perché i professionisti si pagano e si mandano un giro sul territorio in tutti i gruppi da tutti i gruppi e si insegna a comunicare comunicare vuol dire si insegna a parlare e a ascoltare questo bisogna fare perché con l'impegno con la buona volontà io nessuno mette in dubbio che tutti noi ci possiamo mettere l'impegno tutto l'impegno possibile immaginabile ma ci vogliono anche i mezzi e i mezzi sì e i mezzi bisogna bisogna prenderli in questo modo purtroppo e concludo mi dispiace moltissimo doverlo dire ma i temi oggi non bastano più bisogna saperli veicolare e purtroppo se noi ci affidiamo a veicolare a fare veicolare i temi del Movimento 5 Stelle ai mass media cioè giornali e televisioni abbiamo già perso grazie non c'è nessuno di quelli iscritti qua davanti allora Roberto Pavan Mario De Cesare Samuele Clerici Giuseppe Orlando Sebastiano Martone Buonasera sono Samuele Clerici portavoce ne ho eletto appogliano milanese attivista anche a Ro e la Enate purtroppo il mio discorso sarà soprattutto una lista di problematiche essendoci poco tempo per fornire tante soluzioni inizio da qualche numero in provincia di Milano quest'anno c'erano 68 comuni al voto di cui solo 13 nostre liste 23 nostre liste erano uscenti di queste solo 9 sono riuscite a ripresentarsi c'erano 45 possibili debuttanti e solo 4 ce l'hanno fatta a questo proposito vi invito a riflettere non solo sui milioni di voti persi ma anche sui 16 comuni non più presidiati da una nostra lista capita addirittura a cada per paura di vincere capofila di queste immane tragedie sono stati Garbagnate milanese nel 2017 e Gorgonzone nel 2018 prima dell'emorragia attuale caco in volta ad esempio Trucazzano che aveva preso il 23% nel 2014 alle amministrative Lainate che aveva due portavoci uscenti e Paderno Dugnano città di 47 mila abitanti cito per vicinanza anche le situazioni di Vanzago Piero Lainate diverse nonostante l'unquale grande impegno dei pochi attivisti superstiti ad esempio a Piero la certificazione il documento è arrivato tre ore dopo l'appuntamento con gli uffici per presentare la documentazione per la lista il territorio ha necessità di maggiore ascolto supporto tecnico e strumenti di condivisione per non essere costretti ciascun comune a reinventare la ruota cito qualche episodio concreto noi di Pogliano avevamo chiesto aiuto per la burocrazia che era una cosa completamente nuova per noi nonostante i dieci anni sul territorio e per la campagna elettorale tra gli altri Buffagna aveva risposto solo se non siete pronti non presentatevi Piccirillo si era limitato a mandare un vademecum facilmente reperibile online e lo stesso Piccirillo davanti parlando di rapporti col territorio alla gravissima situazione di Legnano che spero conosciamo tutti e del suo portavoce l'unica cosa che ha saputo fare è stato lamentare che un certo evento non fosse organizzato dal solo movimento a me poi era arrivata una mail in campagna elettorale in cui si chiedeva se avessimo bisogno di aiuto per presentare la lista tardi senza spazio per esprimere le necessità e che non ha avuto alcun seguito ci siamo sentiti presi in giro gli stessi gruppi locali hanno bisogno di mezzi per migliorare la condivisione di idee su problematiche comuni Rousseau per esempio dovrebbe essere messo a disposizione per inviare messaggio a tutti gli iscritti di una determinata zona lo so che l'hanno già chiesto altri anche senza che il mittente veda i singoli indirizzi per motivi di privacy privacy che peraltro ha avuto come conseguenza che alle europarlamentarie si sono candidati un ex consigliere comunale del PD a Rò che non si era mai fatto vedere nel nostro gruppo inoltre vorrei anche esprimere insoddisfazione ad esempio per i modi e tempi con cui sono stati organizzati anche eventi recenti mi riferisco alla giornata del 4 maggio fatta mentre molti comuni erano impegnati con le amministrative e non potevano disperdere energie concludo l'anno prossimo saranno almeno 7 in province comuni al voto cito Parabiago e forse Legnano l'anno dopo toccarò allora mi chiedo vogliamo iniziare a fare qualcosa ora o aspettiamo che altri comuni vadano ad aggiungersi all'impietosa lista dei 16 grazie per l'attenzione non c'è nessuno degli iscritti ok vado avanti Francesco Lardino Alberto Schiavone ha parlato Vincenzo Nicolaio Andrea Sindoni Maurizio Gangi niente bene ho due in coda sono Attilio Gambato e Pasina Maurizio Buonasera io mi rendo conto che sto chiedendo qualcosa che al di fuori il mio nome è Attilio Gambato mi rendo conto che sto chiedendo qualcosa al di fuori di quello che è la programmazione dell'evento di oggi ma secondo me l'urgenza è tanta e non volevo perdere l'occasione per poter verificare se quello che sento io cioè l'esigenza di tornare dalla gente è quella che sentite pure voi come attivisti da tutti i discorsi che ho sentito fino adesso la mia risposta è positiva tantissimi di voi dicono dobbiamo trovare il sistema di tornare dalla gente e allora quale sistema più semplice è quello di creare delle assemblee cicliche ogni tre mesi a livello provinciale e io sto pensando in questo momento alla provincia di Varese nelle quali vengono trattati argomenti temi che siano aderenti al territorio ovviamente che possono servire anche per attirare la gente a venire alle assemblee e se anche così non fosse se le prime assemblee che si vanno a fare non vedessero una grande partecipazione delle persone esterne al movimento diamoci questa regola interna nostra nel movimento per diventare un esempio per gli altri per poter cambiare l'aspetto di organizzazione partitica piramidale in un'organizzazione contraria cioè che cerca anche al suo interno prima di tutto al suo interno per diventare esempio per gli altri fuori che si può organizzare in modo alternativo cioè sentendo la base sentendo in questo momento gli attivisti che siete voi tutto sommato ed è poi quello che anche Di Maio chiede perché vuole sentire il nostro pensiero di attivisti quindi secondo me diamo un esempio al mondo esterno di come possiamo creare un movimento diverso e questo è il modo perché dobbiamo come dicevo prima nell'intervento che ho fatto prima le assemblee sono la base di tutto sono il rapporto umano tra le persone e nelle assemblee si vota si vota chi ha un'idea viene la propone come ho fatto io adesso ve la propongo e dico votate come attivisti di incontrare il vostro movimento ciclicamente ogni tre mesi ogni due mesi ogni quattro mesi chiamando gli eletti a partecipare alle assemblee tirando fuori i problemi nell'assemblea in modo tale che loro possano farsene carico nel tempo che rimane tra un'assemblea e l'altra noi attivisti andiamo nel territorio a portare i problemi che abbiamo trattato in assemblea al sabato nelle periferie ai mercati ma io sono convinto che poi la gente ci ci seguirà se noi rimaniamo sempre con l'idea di riformare un sistema piramidale noi non faremo niente di nuovo perché tutto è già stato fatto quello che non è stato fatto è questo sistema invece con la piramide al contrario che è quella che facevano i greci ad Atene tremila anni fa signori io propongo di votare di votare il fatto di chiedere al nostro movimento di essere presente ogni tre mesi sul territorio con i nostri eletti chiediamo per esempio in provincia di Varese tanto per essere semplice ci sono tre portavoce benissimo allora noi ci troviamo la sera X noi attivisti aprendo anche agli altri poi non verrà nessuno dei cittadini ma chi se nel momento non importa l'importante è che vengano loro e noi possiamo parlare dei nostri problemi apertamente con i nostri eletti e gli chiediamo per cortesia di potersi dare da fare anche loro con noi per risolverli loro ci diranno bene sì noi andremo a fare faremo benissimo sappiano che dopo tre mesi loro tornano da noi e dovranno rispondere a noi e ti diranno non ho avuto tempo di farlo guarda perché avevo tantissime altre cose da fare e noi capiremo perché non è che siamo dei che tentiamo la luna è chiaro non so se è chiarissimo ciao sono Maurizio Pasina arrivo dalla provincia di Sondrio scusatemi per l'abbigliamento ma Montanaro soffro dopo il caldo allora vorrevo solamente sono stato a Roma ma non tanto per dire quello che bisognava dire perché comunque sono documenti che parlano ma per capire che aria tira e cosa succede ho trovato delle belle sorprese però sono ottimista volevo solamente dire una cosa secondo me stiamo pagando tutti come Movimento 5 Stelle come Movimento 5 Stelle non è per colpa nostra né dei parlamentari ma siamo umani stiamo pagando anni e anni di mancanza di un metodo di lavoro di comunicazione anche tra di noi attivisti io vedo un bel percorso e secondo me sono ottimista e dobbiamo recuperare un pochettino la seconda cosa l'analisi che voglio fare perché bisogna mettere anche delle soluzioni io ho sempre detto io ho 55 anni ho sempre detto che la rete per mia mamma mio papà la mia nonna è quella che serve per andare a pescare mio papà andava a pescare di frodo perché mangiavano con la rete una volta portavano il pesce all'ecco compravano il sale e la rete è quella per le farfalle bisogna secondo me trovare un'alternativa un'altra strategia per informare mia mamma che non è in rete perché altrimenti sono votanti a parte la televisione dove ho visto che i nostri parlamentari o comunque regionali se uno va dieci volte quelli della Lega ce ne vanno trenta però per dirti adesso sta girando un deprian su cosa ha fatto il governo la parte gialla e la parte verde sembra non è una falsità perché comunque è vero Salvini ha fatto due o tre cose però sembra che ha fatto tutto lui come fai a fare passare questo messaggio a mia mamma che non è in rete compriamo una pagina una volta al mese di un settimanale come da noi può essere un giornale non so cosa costa e dici il movimento il governo ha fatto queste cose e mia mamma le legge perché non è in rete Salvini io sono stato pesantemente bastonato dalla Lega perché è dal 31 dicembre che sto dicendo che Salvini farà la fine di Renzi perché è uno sbruffone arrogante un cacciaballe però ha un dono è capace di parlare la pancia della gente dove ha vinto Salvini quello sbalzo lì dove secondo voi per me è sui richiedenti asilo sulla gestione dei migranti punto una non gestione che non è partita da noi io ho già parlato Vito lo dico perché ci ho messo un po' a capire ho parlato ho scritto Giuseppe Brescia ha messo un emendamento su sta roba però secondo me proprio per guadagnare voti cioè io personalmente non voglio che l'Italia nell'Europa si faccia carico di ospitare tutta l'Africa perché non è giusto però avere dei ragazzi come ieri ce ne avevo qua uno tre anni e sei mesi che non sa è ancora lì parcheggiato come tutti li hanno solo col decreto non sicurezza li hanno spostati in periferia ma non sono coinvolti in niente fate qualcosa io non so se si può fare delle aggiunte a queste leggi per poterli coinvolgere comunità montane comuni sono adesso da Roma raccogli un po' di immondizia non lo so fategli fare qualcosa allora lì la gente dice fa per ragione di pancia la gente per quello che dà i voti Salvini dice ah ce li porta via tutti vasta neri neri non funziona così facciamogli capire che ci sono altre strade dopo dopo tre anni e sei mesi una commissione un giudice dice no Maurizio tu non hai permesso per rimanere devi andare ok però intanto li coinvolgiamo ragazzi di vent'anni con gli ormoni che ce li hanno sulle stelle non sono pericolosi almeno quelli che conosco io non ho mai avuto problemi tanto vero che non ci sono mai stati problemi però troviamo il sistema per perché portiamo via voti dall'altra parte guarda sono sicuro al cento per cento dopo il razzista c'è sempre allora signori io non ho più iscritti a parlare quindi faccio una piccola considerazione ma di massima intanto volevo rispondere per la votazione io guardi non so cosa dirle nel senso che io metterei la firma per andare ogni tre mesi sul territorio cioè io ci metterei la firma adesso non so i problemi che avete voi però secondo me arrivare oggi in una seduta di discussione a proporre una votazione non è corretto verso chi non ha partecipato oggi o chi è andato via stamattina cioè comunque non penso che questa che le persone che sono qua siano rappresentative della volontà del movimento e questo è uno dei percorsi di strumenti che abbiamo bisogno e che ci siamo detti più volte durante la giornata punto io l'unica considerazione che voglio fare è che oggi ho visto tanti cittadini che sono venuti qua a parlare tutti con degli appunti tutti preparati quindi vuol dire che c'è un ragionamento dietro non ho visto nessuno che è venuto qua a fare la sparata o è venuto qua a fare l'intervento non entrando nel merito delle cose e quindi per questo vi ringrazio vi ringrazio perché avete pensato alla giornata di oggi e sicuramente avete dato fiducia a tutti noi che abbiamo cercato di organizzare questo incontro per cercare di fare tesoro di tutte le esperienze che arrivano dai territori quindi il mio il nostro grazie è veramente sincero e mi l'ultima cosa che voglio dire è che noi adesso faremo una sintesi come vi ho detto in apertura tutto è stato registrato abbiamo preso degli appunti faremo una sintesi e cercheremo di distribuire più o meno il contenuto che è stato prodotto oggi in un documento che faremo girare sui nostri canali ad oggi i canali più veloci per raggiungerci sono o quelli istituzionali quindi dalle pagine delle istituzioni o le pagine facebook insomma gruppi whatsapp io penso ho sentito più volte dire non riusciamo a contattare su questo mi sento veramente di spezzare una lancia a favore di tutti i miei colleghi perché veramente nessuno penso che si sia mai negato contattateci noi abbiamo tutti la nostra pagina c'è la pagina regionale c'è la pagina nazionale c'è la pagina parlamentare nei gruppi ci siamo comunque in tutti i gruppi di territori ragazzi sapevamo che non era una cosa facile lo sapevamo sapevamo che andare a governare sarebbe stato difficile sapevamo che entrare nelle istituzioni sarebbe stata una cosa dura adesso ci siamo però ci dobbiamo ricordare come dicevamo prima da dove arriviamo e noi arriviamo da quella parte noi arriviamo da voi anzi mi metto anch'io cioè noi siamo i cittadini e dobbiamo prendere le istanze dei nostri territori farle nostre dare ascolto ai cittadini e dare voce ai cittadini nelle istituzioni ci dovete aiutare quando sbagliamo ditecelo mandateci a fanculo come facevamo una volta non so se c'è qualcun altro che vuole che vuole intervenire no un attimo calma diamoci una regola diamoci una regola se no non finiamo più allora sono una frase la signora chi vuole intervenire qua un minuto a testa no tu hai già parlato dai l'ho detto fare ho detto che come conclusione faremo una sintesi e faremo un report e lo manderemo insomma nei canali che già conoscete io volevo dire solo una cosa una frase solo secondo me Grillo e Cataleggio ci hanno regalato un sogno è qualcosa noi dobbiamo restituire ed è il nostro lavoro e anche i nostri voti grazie sulla pagina Movimento 5 Stelle Lombardia su tutte le pagine ufficiali insomma sul sito ok ho un minuto non tre quindi cercherò di essere molto sintetico invitiamo come attivisti il sistema organizzativo attualmente in uso nel breve tempo ad essere riveduto e corretto e possibilmente rovesciato perché rovesciato perché oggi si parla di tantissime cose ma non si parla della cosa più importante che tutti abbiamo dimenticato il lavoro il problema numero uno è il lavoro se noi dovessimo aprire faccio soltanto un esempio Vito Crimi mi sente se noi dovessimo aprire delle sedi regionali dove poter ascoltare i cittadini vi posso garantire che su cento cittadini 99 hanno una sola richiesta hanno bisogno di lavoro se noi riusciamo ad ascoltare i cittadini aiutarli a trovare un lavoro e creare un lavoro di cittadinanza noi daremo all'Italia un nuovo futuro cosa che attualmente con il sistema organizzativo in essere non riusciremo a fare abbiamo rovesciato il sistema organizzativo tornando alla vecchia logica dei partiti il vertice comanda decide chi quando e come e non può funzionare quindi l'invito da parte di tutti gli attivisti è ripensate alla formula organizzativa attualmente in uso grazie Alessandro Sessi ecco io volevo aggiungere una cosa approfittando anche della presenza del sottosegretario Crimi e allora io sì rappresento anche un po' il movimento qui nel centro di Milano e il lavoro che abbiamo fatto è un lavoro che poi è emerso qui cioè la necessità effettivamente di un contatto diretto soprattutto con delle sedi di ascolto non solo regionali ma addirittura cittadine ecco poi il fatto ecco sento spesso c'è l'attacco al movimento da parte dei media del mainstream no? l'istituzione di un comitato di controinformazione attraverso il quale rispondere rispondere alle bugie del Corriere della Sera le bugie di vari giornali ma con una con un'azione precisa e profonda non si può ammettere che il vice direttore del Corriere della Sera Federico Fubini sia un membro della Open Society di Soros e che tutti i titoli fatti sull'impeachment all'Italia siano titoli falsi denunciati dal corrispondente Caizzi del Corriere della Sera stessa a Bruxelles cioè l'azione depressoria sul territorio sui cittadini sul paese è un'azione penalmente perseguibile perché la Costituzione garantisce la verità sostanziale dei fatti e come il medico che avvelena il paziente il giornalista che pubblica bugie o mezze verità per screditare un movimento politico tra l'altro costituzionalmente composto e che fa parte del governo da parte del movimento non c'è stata una presa di posizione massiva su questo sono stati aperti gli stati generali dell'editoria però siamo lì per esempio come mai gli stati generali dell'editoria non vengono fatti a Milano dove c'è l'80% dell'editoria nazionale perché i grandi gruppi editoriali sono qui e non sono certamente a Roma ecco quindi l'istituzione di comitati di competenza se no qui non capito tutto qui ok chiara del vaglio salve zona 7 qui riguarda praticamente il territorio perché io ero nell'altra sala territorio qui giusto territorio ok no semplicemente volevo dire riguardo il territorio che bisogna stare attenti a non confondere cioè perché vedo tanti attivisti molto diciamo esagitati perché vorrebbero dettare la linea politica del governo cioè un conto estere al governo un conto estere all'opposizione chiaramente certe cose non possono essere messe sul russo cioè non possiamo mettere sul russo cosa deve dire Tria a Juncker insomma quindi secondo me la funzione del territorio cioè lì dove è importante il territorio lì bisogna battere cioè per esempio sulla scelta dei candidati perché devono essere persone conosciute al territorio oppure su delle problematiche specifiche dove non devono essere calati commissari o cose varie dall'alto ma bisogna interpellare il territorio per sapere chi sono magari quelle persone che si vorrebbero mettere a controllare quella determinata situazione perché è successo magari altre volte non in questa regione in un'altra dove uno specifico problema era stato deciso un commissario straordinario senza interpellare la base che in realtà quel commissario scelto era un personaggio con cui gli attivisti contro cui combattevano proprio per quella problematica quindi e quindi niente dicevo semplicemente ok il territorio cioè rispettare la conoscenza delle persone che sono sul territorio buonasera io volevo parlare del tema dei probiviri che mi sembra che non è stato Anna Marchese di Modrone non noi abbiamo scritto ai probiviri stiamo ancora aspettando risposta mi domandavo se era il caso di dargli solo l'incarico di probiviri non dargli doppio o triplo incarico perché probabilmente non avrebbero neanche il tempo di poter seguire queste cose quindi mi aspetto che ci sia comunque l'evasione di tutto quello che è rimasto sospeso cioè io attendo ancora risposta ma per serietà perché quando uno scrive fa chiede un intervento ha delle aspettative non vedere assenza o comunque non sentirsi neanche rispondere cioè è nullo l'incarico del del probiviro cioè non esiste quindi io su questo dico tirate via la figura non ha senso ok esatto cioè voglio dire se esiste la figura deve deve dare una risposta qui risposte non ci sono quindi o la tirate via come figura perché non serve non oppure gli date solo quell'incarico lì e a quel punto deve rispondere il probiviro perché non ha dato seguito al lavoro ok grazie ciao ciao a tutti sono Roberta Iuliano attivista di Rò e faccio parte anche del GDL diritti animali in regione Lombardia come? Iuliano quella è normale sì e ho fatto anche un intervento nell'altra sala ribadendo un po' gli stessi concetti ma vorrei che ascoltaste anche voi portavoce attivisti il tema dei diritti animali è sentito da molti attivisti ed è portato avanti ovviamente da dei portavoce ovviamente da alcuni poi c'è il programma più o meno a seguire il contratto un po' ridotto però ma quello che mi preme sottolineare è un appunto sulla comunicazione a proposito di questi temi perché c'è un popolo sensibile alle tematiche che vuole essere informato in maniera dettagliata e questo chiaramente poi ha una ripercussione anche nelle campagne elettorali questo lo dico perché chiaramente essendo all'interno di vari gruppi anche e potendo ascoltare le voci direttamente insomma pare che ci sia un pochino una defezione ma proprio a livello comunicativo nonostante poi alcune cose vengano portate avanti quindi è solo un appunto per da portare a Roma ma anche in regione Lombardia come ho già detto e e poi per esempio per le nuove la nuova il nuovo PDL sulla legge protegge animali portate avanti dalla da Gianluca Perilli no? il nostro portavoce ci piacerebbe avere dei tempi cioè nel senso che la calendarizzazione ma anche man mano di modo che la gente non abbia la possibilità di dire non si fa niente o cose del genere perché non è vero poi tocca a noi attivisti aggiornare che va benissimo cosa che facciamo però è proprio per l'immagine è proprio per rassicurare è proprio per informare le cose che a noi stanno a cuore i temi no? E un'ultima cosa volevo portare questa tematica della riconversione soprattutto per quanto riguarda gli allevamenti nel senso che si discute molto degli allevamenti intensivi no? no gabbie no no violenza giustizia eccetera però a mio avviso e non solo a mio avviso ovviamente so che ci sono molti cittadini e attivisti che la pensano in questo modo avrebbe più senso non solo andare sempre e solo dagli allevatori e portare avanti certe tematiche ma rendersi conto che c'è un mondo che vuole cambiare e ci sono già persone che l'hanno fatto io stessa conosco già delle realtà di riconversione e cambiamento quindi perché non portare alla luce anche queste tematiche perché sono sempre cittadini che magari non sanno come muoversi vorrebbero avere informazioni noi io l'ho proposto anche ai portavoci regionali per creare qualche non so incontro o andare un po' a scoprire queste persone che magari non sanno come fare proprio per muoversi tutto qua perché tutto avrebbe più senso insomma sono cittadini e hanno bisogno di strade da percorrere grazie grazie a tutti non voglio approfittare della vostra presenza vi ringrazio e spero che altri incontri di questo tipo verranno fatti più avanti in modo da riuscire a confrontarci su questi temi spero che con la sintesi poi si possa riaprire comunque un dibattito e comunque tutti i portavoci sono a disposizione per tutte le richieste che i territori i portavoci locali ma anche gli attivisti hanno da fare quindi noi ci siamo grazie ma quest'audio qui viene pubblicato? no no ma sì perché si viene pubblicato era adesso capiamo vediamo se c'è la possibilità di pubblicarlo non lo so devo capire prima se possiamo farlo a livello burocratico se possiamo farlo a livello burocratico magari lo pubblichiamo anche facciamo gli studi eh lo so sì effettivamente non mi sembra non mi sembra una cosa si mette anche il cuomo eh sì no infatti arrivederci grazie grazie io sono mammi sì mammi lo ricordo anche perché c'è stato di lì però sì simile poi ci sono fortunatamente no no vabbè in che c'entra mica deve essere uguale domenica Voglio ricordare che la giornata è sponsorizzata da Riccardo Olgiati. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ciao. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 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 , ma... a tutti. ... ... ... ... ... ... ... ...... ...... ... 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 ...... ... ...... ...... ...... ... ...... ...... ...... ... ...... 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 Non sanno come parlare con noi, si bevono tutte le falsità della stampa e noi dove siamo? Basta, grazie. Quindi le esperienze ne ho fatte nei gruppi in quegli anni. Io quello che vorrei dire innanzitutto è sull'organizzazione, cominciando dalla definizione di quello che dovrebbe essere il nostro primo postulato, cioè uno vale uno. Secondo, considerando che le motivazioni etiche e gli obiettivi del movimento appare evidente che l'organizzazione non possa essere realizzata sulla falsa riga delle strutture dei partiti, i quali hanno dimostrato di essere permeabili e facilmente asservibili a lobby di potere. E' necessario quindi considerare come elementi di base per la costruzione del progetto quelli che sono i principi etici del movimento. Uno vale uno deve garantire costantemente la partecipazione di ogni attivista alle decisioni e alle valutazioni, fornendo ad esso la maggiore accurata informazione per poter incidere coscientemente sui risultati. Uno vale uno risulta naturalmente applicabile e efficacemente solo rispetto ad alcuni processi decisionali, perché le competenze e le conoscenze non sono uguali per tutti. Però, per conto, la necessità di esprimere il proprio voto stimola all'ascolto e alla comprensione di tutti gli argomenti, che condurranno ad una crescita delle competenze di tutti. In definitiva, uno vale uno è il cardine del nostro operare. Una buona organizzazione deve permettere l'esercizio di questo diritto-dovere e risultare la migliore garanzia di coerenza con i nostri principi. Qui non vado oltre, però io ho già trasmesso una organizzazione che prevede la figura dell'attivista, la figura del portavoce locale, che sarebbe un po' il capo del gruppo, che non ha incarichi istituzionali e che viene a un discreto turnover, in maniera da che molti del gruppo possano fare l'esperienza di portavoce. Da lì il portavoce dei gruppi si riuniscono periodicamente e leggono dei portavoci regionali, che saranno tre, e potrebbero essere tre, e avrebbero come incarico esattamente tre argomenti, un argomento ciascuno, o meglio, una serie di argomenti. Uno è lavoro e servizi, uno è trasporti e ambiente e uno è legalità e amministrazione. Poi questi portavoce regionali faranno anche da tramite rispetto agli eletti. Chiudo qui in un'altra. Grazie. Buongiorno a tutti. Sono Alessandro Musolino, attivista di Biassono, provincia di Montsebrianza. Volevo dire due cose velocissime sull'esigenza del territorio. C'è l'urgenza che vengano istituiti dei proibili provinciali per intervenire sulle numerose diatribe nei gruppi, perché si stanno spaccando, gente che viene espulsa senza alcun criterio. Un'altra cosa di cui necessitiamo urgentemente è delle regole chiare sull'utilizzo del logo, perché sempre in più paesi non ci siamo, siamo dei semplici attivisti, cosa facciamo? Non avremo diritto all'utilizzo del logo, della pagina Facebook di nulla, con i dovuti vincoli. E vengo al dunque del mio discorso che è tutt'altro. E ci tenevo a dire che, a mio avviso, Di Maio è un ottimo ministro, un ottimo uomo di governo. Però invito Di Maio a non farsi rovinare dalle lusinghe e dalle adulazioni, ma di farsi salvare dalle critiche. Io faccio parte di quel 20% minoritario che ha votato no a quel quesito. Ha votato no non contro la sua persona. Ho votato no contro l'uso distorto di Rousseau, perché non si può utilizzare Rousseau in questo modo. Se fossero state accolte le nostre osservazioni, ovviamente non c'è stato il tempo, all'ultima assemblea regionale qui alle Stelline, avevamo chiesto di non subire delle domande dall'oggi al domani, perché altrimenti diventa un voto di ratifica. Invece non so di essere uno strumento di decisione, la decisione prevede un'analisi precedente al voto. Non si può votare dall'oggi al domani, non si può votare bianco o nero, perché c'è una scala di grigi. E quindi, ripeto, io ho votato no non alla persona e vengo adunque alla figura del capo politico assoluto. A mio avviso dobbiamo fare un passo indietro a quello che eravamo, perché per non copiare i partiti stiamo copiando il peggio dei partiti, siamo diventati una cosa verticistica. Dei partiti dobbiamo copiare la vecchia formazione politica, la scuola di formazione politica, e da lì selezionare la classe dirigente del Movimento, non quelli arrivati all'ultimo momento, che poi se ne vanno e non li vediamo più. Faccio una parentesi su Rousseau. Avevo fatto una proposta, accoltando l'unanimità di tutti, che Rousseau, siccome è molto prezioso come strumento, che diventi patrimonio di tutti, che dia la possibilità a tutti iscritti al Movimento di diventare soci. Oggi questo non è possibile, ma c'è la necessità che Rousseau diventi di tutti. No, siamo iscritti, non siamo soci. Chi può associare all'associazione Casaleggio, non a Rousseau. Rousseau ha solo pochi iscritti, pochi soci. E quindi il centro del mio discorso è mettere in discussione la figura in sé del capo politico e tornare ad una leadership corale, che individui le personalità giuste al posto giusto. Perché, badate bene, con il capo politico ognuno di noi è figlio di esperienze. Io ho visto troppe aziende, e per questo sono diventato un piccolo imprenditore, un piccolo commerciante, perché mi faceva schifo un tale ambiente, e troppe associazioni, troppi sindacati, e tradire loro stessi perché si perdono. Una volta che c'è il capo politico, nascono le adulazioni, i lechinaggi per dirlo volgarmente, quindi i cerchi magici che vanno a rovinare quello che è il senso di comunità. Concludo. E un segnale sono gli attivisti che se ne vanno, le liste comunali che non ci sono, 600 Rdl meno solo in Lombardia. E mi piace molto un proverbio giapponese che dice, a mio avviso Di Maio ha troppi incarichi, dobbiamo discutere anche di questo, una singola freccia si rompe facilmente, ma non dieci tenute tutte insieme. Quindi dobbiamo tornare ad una lidea ciclorale e, badate, ci vogliono solo due pietre per accendere un fuoco, con il dovuto humus sotto. Oggi noi abbiamo due pietre, secondo me, adatte, che sono Di Maio al governo che deve rimanere perché sta facendo un egregio lavoro, e abbiamo Di Battista, perché non usarlo a guidare il movimento, che torni fra la gente, usiamoli tutti e due. Però appunto riaccendiamo il fuoco che tiene vivo il movimento. Grazie. Bene, buongiorno a tutti. Sono Michaela Piva, portavoce comunale di Arese, da un anno. e io vorrei fare due riflessioni di carattere generale sull'attivismo e poi l'attivismo locale, l'attivismo amministrativo e l'attivismo che collabora con le buone cose che abbiamo fatto al governo, le nostre buone leggi, ma che non sono purtroppo conosciute per colpa della disinformazione. Quindi partirei da una riflessione. Prima di tutto noi subiamo anche tanti anni di politica fraintesa dal berlusconismo, la comunicazione a spot, la mancanza di contenuti, la mancanza di riflessione. Quindi noi, se vogliamo portare la gente a fare politica con noi, dovremo confrontarci di più vis-à-vis. Quindi lavorando queste cose le faremo. Le chat vanno bene quando stai per nascere, quando non hai una struttura, però fanno perdere tempo, non sono lavoro, fraintendono e spaccano le persone. Perché per esperienza diretta io ho capito cosa voleva dire un mio compagno di gruppo guardandolo in faccia, capendo, comprendendo la timidezza, la paura che magari in una chat viene fraintesa in altro modo. Quindi avere delle sedi, forse come dice Luigi Di Maio, non è che possiamo pretendere di avere una organizzazione faraonica subito perché non siamo così, ma avere delle sedi di zona nell'Interland di Milano, per aree, almeno per le quattro macro aree di Milano, con cui cominciare a confrontarci, a collaborare su temi intercomunali, che sono per esempio le politiche sociali, che attingono a fondi regionali, con cui potremmo avere un allaccio diretto con Regione, per dire c'è un buono sociale che nel nostro territorio viene venduto come buono SERCOP, ma si appropriano di un fondo regionale, creando clientela. Quindi questo, per esempio, potrebbe essere uno spunto per cominciare a lavorare su temi comuni. E questo copione poi si ripete sicuramente anche in altre zone, in altri distretti. Quindi avere delle sedi di zona per lavorare su temi comuni, che possono essere il bilancio, piuttosto che i servizi sociali, l'urbanistica, i rifiuti. Quindi trasferire un po' anche le conoscenze di Regione, non come schegge impazzite, ma con delle riunioni di zona, che competono a determinati distretti, che hanno problematiche comuni. Altra cosa, dicevamo, per quanto riguarda i gruppi locali, per far funzionare bene un gruppo locale di 20.000 abitanti, ci vorrebbero 5 persone operative. Una sulla comunicazione, una sull'urbanistica, una sui bilanci, una sui servizi sociali e poi qualcuno sui rifiuti. E solo così si riesce a vendere e trasferire al territorio il lavoro che si fa in Consiglio Comunale. Spesso noi, se non facciamo un comunicato stampa, nessun quotidiano locale scrive di noi, ma di contro invece i partiti hanno ampia visibilità, anche se non fanno nulla. Quindi anche lavorare trasversalmente aiutandosi tra comuni, mentre stiamo crescendo perché noi nasciamo da zero, può aiutare determinati gruppi locali a compensare queste competenze che non hanno. Quindi a crescere e a non far trovare i consiglieri isolati da soli davanti a una montagna di lavoro in mano e che poi scoraggia tutti. Ultima cosa per quanto riguarda la disinformazione, noi abbiamo veramente una stampa armata contro di noi. In tv, nei dibattiti, quasi mai c'è qualcuno del Movimento 5 Tele. Sono tutti a sparare contro di noi e a ripetere gobelianamente le stesse stupidaggini. Quindi avere una controinformazione sul territorio, organizzando dei dibattiti, per esempio sulla TAV o sul reddito di cittadinanza, piuttosto che sulla legge spazzacorrotti, aiuterebbe anzitutto ad avere un minimo di coordinamento con voi, di conoscenza, a trasferire al territorio le cose buone che abbiamo fatto. Quindi questo è l'ultimo suggerimento che mi permetto di dare. Buongiorno a tutti, mi chiamo Stefano Sebastiano e sono di Cardano al Campo in provincia di Varese. Cercando di rimanere nei tempi, ho cercato di metterlo per iscritto, spero di non essere noioso. Ad ogni modo, voglio iniziare con una riflessione. Secondo me il mantra di questi giorni, di partire dai territori, è sicuramente una necessità ed anche impellente, ma non è l'unica spiegazione della debacle che abbiamo avuto agli europei. Secondo me la sconfitta elettorale va ricercata in ben altre cose, non soltanto nell'organizzazione territoriale. Venendo comunque l'organizzazione territoriale, secondo me va riformata, ma non deve prescindere da mettere al centro i temi e le persone. Con criteri di delocalizzazione, probabilmente a mio parere nelle province, criteri di democraticità e collegialità, no singole persone. In concreto quello che propongo è istituire su base provinciale degli organi collegiali, non individuali, di tipo tematico, come i gruppi di lavoro, ed uno di tipo politico organizzativo. I membri di questi gruppi devono essere eletti tra gli attivisti e dagli attivisti, magari anche tra quelli che avranno finito i due mandati, per mantenere all'interno del movimento tutte quelle competenze e quelle esperienze che questi attivisti hanno fatto negli ultimi anni. Questi organi collegiali, quindi, dovranno avere compiti di responsabilità chiare e condivise e agire secondo regolamenti e statuti. Dovranno attresi agire sotto la supervisione e la direzione dei portavoci eletti nella stessa provincia, che sono attualmente gli unici depositari del simbolo del movimento. Ovviamente compiti, responsabilità e regole dovranno poi, in una fase successiva, essere discussi e approvate nelle assemblee del territorio. A mio parere dovranno comunque includere, per quanto riguarda gli organi o l'organo politico organizzativo della provincia, dovranno dirimere quelle diatribe interne alla provincia, una sorta di probiviri provinciale, perché altrimenti è impossibile che tre probiviri nazionali si possano occupare delle situazioni locali o quantomeno funzionare come primo livello di analisi per poi passare i casi particolari a livello nazionale. Inoltre dovranno fare da trade union tra la base e di portavoce eletti in provincia. Questi ultimi devono avere, come le hanno, delle responsabilità nei confronti degli attivisti del proprio territorio, ma devono avvalersi di questi organi, come staff o filtro, per concentrarsi in primo luogo nel proprio compito istituzionale, per il quale sono pagati. Organi tematici, cerco di essere un po' più veloce, devono approfondire e sviluppare i temi come i trasporti, salute, ambiente, energia, cercando il supporto di associazioni e comitati che permetterebbe tra l'altro di penetrare nell'associativismo locale e porsi nei loro confronti come un'alternativa politica seria e competente. Inoltre devono lavorare in supporto ai portavoce e in supporto ai gruppi locali, che spesso non hanno le competenze e la forza per sviluppare in proprio degli argomenti specifici. Dare compiti e responsabilità agli attivisti locali e permettere loro di autogestirsi con organi provinciali autoeletti, pur sempre rimanendo all'interno di valori, principi e regolamenti comuni a tutte le province d'Italia, garantirebbe un alto livello di autonomia locale, principio alla base del movimento, ma permetterebbe di evitare situazioni radicali, situazioni di radicale anarchia e divisione che tanto ci hanno danneggiato in questi anni. Concludo questo punto dicendo che lavorare sui temi concreti, mettendo in luce competenze e voglia di fare, costituirebbe un metodo informale ma estremamente efficace di valutare gli attivisti e valutarne le capacità e il senso di responsabilità anche in funzione di eventuali candidatori. Basta così. Grazie. Buongiorno a tutti, sono Ferrari Antonio, sono un attivista che parte dal basso come voi. Buongiorno a tutti, sono Ferrari Antonio, sono un attivista che parte dal basso come voi. Allora, è passato più di un mese dal primo incontro voluto da Luigi Di Maio. Visto anche il segnale forte dato dai cittadini nei confronti del movimento con le votazioni europee che dal 21% del 2014 sono passate al 17%, oggi siamo ancora qui per discutere cosa non abbia funzionato e per proporre soluzioni migliori e riorganizzare il movimento. La nostra comunicazione è stata battuta dalla comunicazione del sistema, evidenziando che la rete, pur se in forte espansione, ancora una volta è stata inferiore alla capacità comunicativa dei mass media. Il mio suggerimento quindi si rivolge ai principali dirigenti del movimento e consiste nel fare un passo indietro e ripartire dai principi base iniziali. Suggerisco. Punto uno. L'organizzazione del movimento deve ritornare dal punto piramidale stile organizzazione del sistema ad un'organizzazione orizzontale, tutta dal basso, come ebbe inizio, rendendo veramente trasparenti le figure e lo incarichi a tutti gli attivisti. Punto due. Riorganizzare la nostra struttura della comunicazione. La nostra struttura di comunicazione e lo staff che lo compone deve essere sostituita con persone professionalmente preparate. Anche scelte tra i nostri attivisti che già lo fanno in rete, con informazioni adeguate e rese visibili. Trasparente a tutti gli attivisti e cittadini nelle piazze e sui mass media. Punto tre. Potenziare la nostra piattaforma Rousseau, riportando in vita i meetup così da poter comunicare e rendere visibili agli iscritti e i vari gruppi del proprio territorio, dando un'adeguata formazione. Ad esempio, come organizzare la struttura del gruppo, scegliendo chi debba avere un ruolo di portavoce credibile che dimostri di sapere coordinare il proprio gruppo. Stabilire chi fa cosa, quindi quale ruolo ha ciascuna figura valutata in base alla sua capacità. Tutto questo reso visibile sulla nostra piattaforma Rousseau. Dare la possibilità nei gruppi, con votazione, espellere gli attivisti che per i loro interessi personali si comportino a danno del gruppo medesimo. Praticamente mantenere le regole di base del movimento. Nessuno deve rimanere indietro, nessuno deve essere calpestato, ognuno deve essere valutato per i suoi valori e credibilità nel rispetto del uno vale uno. Concludo dicendo, la politica di un attivista del Movimento 5 Stelle è quella di raccontare il sistema al singolo cittadino, spiegare la struttura come è organizzata, i suoi punti di forza e i suoi punti di debolezza. Lo sapete qual è il punto di debolezza del sistema? L'informazione che dà un cittadino consapevole. E questo è il punto debole del sistema. Però c'è una condizione. Richiede il lavoro di ciascuno di noi. Uno vale uno. Grazie. Vavastore Luigi, Consuelo Carbone, Demi Blesio e Luca Valcarenghi. Per favore, se si avvicinano. Allora, io sono Vavastore Luigi, si sente? Sono portavoce a Cinisello Balsamo. Sono Vavastore Luigi, sono portavoce al Comune di Cinisello Balsamo. Allora, io sarò abbastanza concreto. La prima roba che voglio rifare e riorganizzare è lo statuto. Perché il nuovo statuto attuale che ha cancellato l'uno vale uno, perché ha messo dentro il capo, decide tutto e a me non va, mi dispiace. E ho votato contro di mai ultimamente. Sono quel 20% che ho votato contro. Perché non è possibile che questo qua, lui da solo, nomini i candidati. I candidati devono sempre venire eletti dalla nostra base. La seconda cosa, non da Rousseau, perché in Rousseau c'è dentro cani e porci. Alle ultime elezioni europee i candidati, ce ne erano dentro cinque residenti a Cinisello che noi non abbiamo mai visto. Mai. E nessuno ha fatto una verifica di dire, ma chi sono questi? Come cacchio possiamo metterli dentro? Questa è la prima roba. A me quello statuto maledetto che è stato votato ultimamente non mi va. Io sono andato per la democrazia diretta, per l'uno vale uno, per quelle cose lì. Non ho mai fatto politica, sono entrato la prima volta nel Movimento 5 Stelle. Seconda cosa che è, bisogna rifare. Chi cavolo decide che danno l'ok alle liste e che danno il diritto di usare il simbolo? Non sappiamo chi sono. L'anno scorso per creare la lista Cinisello abbiamo avuto una serie di casini. Perché c'era sempre qualcuno chi decide chi fa. Noi abbiamo bisogno di sapere chi sono e chi si prende la responsabilità. Nominate un gruppo per ogni regione, fate come volete, ma noi dobbiamo sapere chi valida le liste che si presentano candidate. Nel 2014 c'erano 160 o 170 liste presentate nel comune assieme. Siamo meno di 80 quest'anno. Vuol dire che non siamo stati capaci di presentare liste in altri comuni, abbiamo perso gente. E non riusciamo più a portarli qui. Perché? Perché ce ne toccano i miei porci. Allora qualcuno è convinto, se no sti a casa. Ultima cosa. Abbiamo bisogno, nel rifare questa organizzazione, di avere anche un punto dove ci si possa ritrovare con una certa regolarità e discutere le problematiche. A livello magari solo regionale, perché quelle nazionali diventa un casino, perché diventa difficile. Ma avere un punto ogni tanto che ci si trova in gruppo, si discute su un argomento per dire qual è la politica da portare avanti in Regione Lombardia e dare una mano assieme ai portavoci regionali. Se non abbiamo nessun punto dove? O online, ma online qua ci scrivono cane porci e chiunque e non si sa bene come fare. oppure troviamo un posto, un'organizzazione, un punto di riferimento, un gruppo di lavoro a livello regionale che ci lavori su e dove tiriamo fuori delle proposte concrete per portare avanti le cose che contano. Ho finito. Buongiorno, sono Consuelo Carbone, attivista di Castiglione delle Stiviere. Allora, le cose da dire sarebbero tantissime. Mi concentro sul rapporto con i territori, che è un po' quello che vivo tutti i giorni nella mia attività di attivista. Partirei da una frase che Grillo ha detto nel 2007, in cui individua i territori come il luogo in cui rifondare la politica. Oggi, secondo me, come allora, bisogna ripartire da lì, dai territori, dai gruppi locali, che nel corso di questi dieci anni hanno visto allontanarsi sempre di più il movimento. Se fino al 2012, il 2013, il party on the ground, la base, gli attivisti, sono stati il motore che ha portato la nostra forza politica al successo elettorale e che comunque era sempre stata in continuo contatto sia con gli eletti, quindi il party in the public office e il party in central office, quindi la dirigenza. In seguito all'entrata massiccia nelle istituzioni nel 2013, fino ad arrivare ad oggi, i portavoce che avevano creato una sorta di struttura informale intermedia e che quindi mantenevano il contatto con la base, si sono trovati sobbarcati dagli impegni e hanno di fatto trascurato il ruolo di mediatori. Servono quindi, a mio avviso, delle persone o un gruppo di raccordo tra la base e gli attivisti e gli eletti, a livello regionale o perché no, anche provinciale, magari elette a livello assembleare, sicuramente nelle zone più piccole, magari nelle zone più vaste invece che vengano eletti tramite la piattaforma di Rousseau e con cariche a rotazione, che possano così sostenere i gruppi in termini sia di organizzazione ma soprattutto di competenze. Occorre dare supporto ai gruppi locali in termini di formazione e di competenze, non solo dei corsi o una scuola di formazione come è già stato detto, ma anche persone con delle competenze specifiche a cui gli attivisti possano rivolgersi. Spesso nei gruppi ci troviamo in pochi, con poche competenze e quindi avere una persona di riferimento a cui rivolgersi per avere determinati aiuti potrebbe essere sicuramente un modo anche per aiutare le persone e riuscire a farle partecipare maggiormente. Il movimento è cresciuto velocemente, ha al suo interno molte anime con interessi, obiettivi e anche motivazioni differenti e credo che senza un'organizzazione che sia efficace ed efficiente nel mantenere l'unità di queste anime rischiamo, come sta un po' avvenendo, come è avvenuto in queste elezioni di essere erosi a livello elettorale dalle altre forze politiche. Sono Emi Blezio, sono di Milano, non dirò niente sul territorio perché ho visto che tanti stanno parlando su quello, preferirei andare sul generale. Per esempio io suggerirei di portare molta attenzione, se è possibile, di cambiare la legge elettorale, il Rosatellum, perché è quello che ci ha penalizzato con le ammucchiate e con tutte le, diciamo, queste accozzaglie di altri partiti perché come votazione era maggioranza sempre il 5 Stelle. Poi volevo dire che ci vuole anche una pulizia sull'informazione. L'informazione ci ha penalizzato tantissimo e quindi penso che sia molto importante dare delle sanzioni pesanti a chi espande delle fake news, diciamo, delle falsità furbe, diciamo. Sappiate che solo il 20% delle persone degli italiani vanno sulla rete, su Facebook, su tutti i social. Quindi non è che hanno un grande impatto, diciamo, la parte social più che la stampa normale. Insomma, la stampa normale ha più voce in capitolo. È estremamente necessaria, al terzo punto, sarebbe molto importante avere una sede, almeno nei capoluoghi, se non si vuole fare dalle altre parti, ma comunque almeno nei capoluoghi dove qualcuno possa andare a informarsi e dove ci sono volantini, ci sono notizie un pochettino più reali di quello che passa la stampa. Credo che sia molto importante. Io sono a contatto di molte persone, essendo un'insegnante di yoga, ho anche molti seguacci, diciamo, e vanno pochi sulla rete. Anzi, è quasi uno snobismo di non andarci. Quindi non sanno nulla e sono informati dall'informazione nazionale, che sappiamo benissimo che non appartiene ai 5 Stelle, assolutamente. Anzi, è molto contro perché ci perdono, quindi questo è importante. Rousseau. Rousseau io l'ho anche sovvenzionata perché secondo me è una piattaforma molto importante. Però penso che debba essere un pochettino modificata, nel senso che non c'è possibilità. Io ho scritto tre volte a Rousseau ma non ho avuto risposta, cercando di far capire che c'è anche la base che dovrebbe riuscire a comunicare. Ci sono anche delle votazioni che sono sì-no e queste sono delle tele. Ci vuole anche il ni, secondo me. Ci vuole qualcosa di più democratico e poi avere uno sportello. Rousseau usiamola anche come sportello in cui uno può fare delle domande e anche le risposte. Perché io non ho avuto risposta assolutamente. E questo mi sembra che sia un defiance della piattaforma Rousseau che dovrebbe essere aperta e di comunicazione. Questo è importante. Sono già fuori? Ah no, allora concludo così dicendo che io sono... votarò sempre i 5 Stelle? In qualsiasi caso. Anche perché ritengo che fare il contrario, anche per i 5 Stelle, cerco di far capire anche i 5 Stelle che anche se c'è qualcosa che non funziona, non sarà mai, 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 mai come quello che abbiamo, la corruzione e tutte le collusioni che ci sono nei partiti normali. Grazie. Buongiorno a tutti, sono Val Caringhi Luca Maria. Allora, prima di tutto un ringraziamento a chi di domenica mattina, visto il ruolo qui rivestite, potreste essere a casa da dormire invece siete qua. Grazie. Già questa è la cosa importante. Quindi per mia conoscenza Dario Violi, Vito Crimi, Danilo Evi e tutti, grazie veramente. Allora, io sono molto pratico, sono di Bergamo, si sentirà dalla pronuncia, però secondo me va bene parlare oggi dei problemi, eccetera, secondo me dovremmo dare veramente delle soluzioni però, delle cose concrete. Territorio. Ogni azienda, non è l'azienda, un movimento 5 Stelle, ha un riferimento, ha un recapito, ha un numero verde, non ci vuole molto creare un bel numero verde con dislocazione territoriale in base alle problematiche. Entro 24 ore magari una risposta sicura, gradita magari, è precisa, creare magari delle, come diceva la mia collega, posso darti della collega, sì? Creare una sorta di, non dico sedi, ma piccole filiali o altro. Noi abbiamo due cose fondamentali, importantissime, che la gente chiede. Abbiamo, non so se è ancora in essere, ma penso di sì, il microcredito e abbiamo il reddito di cittadinanza. Non dobbiamo essere dei CAF, non dobbiamo essere l'Inps, però avere un punto d'ascolto per la gente, che vuole informazioni, penso sia importante. Quindi è determinante il fatto proprio di avere un contatto diretto con lo staff, diciamo, quindi in modo semplice e efficace, avere un contatto con la gente, ma anche avere un contatto con la gente in modo anche allegro. Le feste, organizzare delle feste, noi dobbiamo piacere alla gente prima di dire cosa facciamo. Dobbiamo piacere, torniamo a fare qualcosa di allegro dove ci sia aggregazione, che è una cosa importante, importante. Allora, poi, altra cosa, io voglio spezzare un'arancia a chi è a secondo mandato. Secondo me, e lo dico, è un errore bloccare dalla gente competente in gamba che ha avuto e si è fatta al mazzo in questi dieci anni e eliminarli dalla politica, piuttosto un cambio di incarico, ma non fuori dalle balle, assolutamente. Io ve lo dico molto semplicemente, perché secondo me, se voi siete qua è perché vi siete fatti il mazzo prima di tutti gli altri, quindi io sono contro il secondo mandato, l'abolizione. Ultima cosa, questa è la parte un po' dolente. Qualcuno mi conosce, io sono un fautore di Rousseau, ho inserito qualche proposta di legge, ho avuto la fortuna anche di essere arrivato al primo posto in una delle votazioni, la dodicesima. Il problema è che io non capisco una cosa di questo tipo. Attenzione, non cerco né poltrone né posti, né assolutamente niente, ho finito, però non sopporto che c'è gente in Parlamento con 68 clic e gente che è stata votata da 4.000 persone per una proposta di legge e manco pure state chiamate per fare un video promozionale e magari un disegno di legge. Grazie. Buongiorno a tutti, mi chiamo Antonella Risi. Volevo parlarvi di una proposta molto concreta e sono qui per parlare di community organizing, ovvero di come rafforzare la società civile con la cittadinanza attiva. In tal senso la nascita di strutture di questo tipo nelle città sono perfettamente coerenti con il modello politico 5 Stelle. Il community organizing comporta un cambio di mentalità dei cittadini, un modo diverso di pensare e approcciare l'impegno civico e sociale, stimolando la partecipazione ed il confronto. A livello locale questa pratica di coinvolgimento dei cittadini rafforza i legami di fiducia tra le persone ed ottiene benefici per la comunità. Tramite l'ascolto, lo scambio di storie ed esperiente, 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 lo scambio di storie ed esperiente.